Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti Dalla Dacia alla Romania In studio Livio Zerbini Va discutà despre istoria antica a Romania Si cucerire a Zaciei Lui Traian Queste parole nella lingua romena Significano appunto Tratteremo dell'antica storia della Romania E della conquista della Dacia di Traian Ma queste parole ci consentono Nel contempo di comprendere Quelle che sono le affinità evidenti Tra le nostre lingue Perché appunto La lingua romena è una lingua neolatina E sembrerebbe quasi un nostro dialetto Vista la vicinanza linguistica E la lingua romena è una lingua neolatina In ragione del fatto che appunto La Romania O meglio L'antica Romania La Dacia Appunto Fu una conquista romana Fu conquistata Dall'imperatore Traiano E questo spiega Perché oggi La lingua romena Appunto Ha queste affinità evidenti Linguistiche Con la nostra lingua Di tutto questo Parleremo Nel corso Di queste puntate Cercheremo Non soltanto Di mettere in evidenza Le motivazioni Per cui A distanza di 1900 anni I romeni usano un veicolo linguistico Neolatino Ma cercheremo Di ripercorrere Anche le fasi salienti Di una conquista Come quella Della Dacia Che fu Invasiva E fu una Conquista molto impegnativa Per i romani Tant'è che L'imperatore Traiano Che nel nostro immaginario collettivo È conosciuto Come un grande conquistatore Faticò molto Dopo anche i fallimenti Di un imperatore Come Domiziano Faticò molto A conquistare Questo territorio Che aveva Delle asperità Naturali E che di conseguenza Rischiava In qualche modo Di mettere seriamente In difficoltà Quella macchina Bella Complessa E per certi aspetti Perfetta Che era L'esercito romano Nel contempo Parleremo Non soltanto Della conquista Della Dacia Ma anche Si farà Una sorta Di spaccato Dell'impero romano Alla fine Del primo Secolo Dopo Cristo Inizi del Secondo secolo Dopo Cristo L'impero romano L'impero romano Che indubbiamente Ha concorso In maniera Decisiva A costruire La cultura Occidentale E a costruire Anche L'idea Di quella Che sarebbe Divenuto L'Europa E a questo proposito Mi piace Segnalare Un libro Di un filosofo Francese Rémy Bragg Che ha insegnato Filosofia Medievale Araba Alla Sorbona In cui In questo libro In francese Il titolo Europe La voie romaine Europa La via romana Sottolinea L'importanza Dei romani Per la costruzione Dell'identità Europea Perché Il filosofo Francese Braga Mette in evidenza Che i romani Ebbero La capacità Che egli definisce Di secondarietà Culturale Vale a dire La capacità E anche L'umiltà Di ricevere Conservare E trasmettere Le altre Culture Con cui Entrarono In contatto E che poi Anche Le conquistarono Le ricevettero Le metabolizzarono Le fecero Proprie In sostanza I romani Riuscirono Appunto Ad accogliere L'altro Da sé E nel contempo Ad inverare A concretizzare Ancora meglio Quella che è stata La loro Identità Si pensa in tal senso Sul piano Culturale Come i romani Fossero consapevoli Che i greci Erano loro Superiori C'è in tal senso Una frase Celebre Di Orazio Nelle epistole Nelle lettere Appunto Grecia Capta Ferum Victorem Cepit Vale a dire La Grecia Conquistata Conquistata Dai romani Appunto Ha conquistato Il rozzo Vincitore In cui per rozzo Vincitore Si intendono Appunto I romani I romani Ebbero questa Capacità Di accogliere Anche Umilmente Per certi aspetti Le culture Che sul piano Culturale Come il caso Della cultura Greca Erano loro Superiori E grazie a questa Secondarietà Culturale Riuscirono a Divenire Un grande Impero Un piccolo Villaggio Di pastori E agricoltori Nel 21 aprile Del 753 A.C. La data Della fondazione Di Roma Diverrà Un grande Impero Uno dei più Grandi Imperi Della storia Dell'umanità L'impero romano Non è stato Certamente Il più grande In termini Di estensione Territoriale L'impero britannico Fu superiore In tal senso In termini Di continuità Territoriale L'impero mongolo Ma anche Quello russo Furono superiori All'impero romano Per quanto riguarda Però la longevità Sicuramente L'impero romano Non ha Eguali Dal 753 Appunto La data Della fondazione Di Roma A burbe condita Come direbbe Tito Livio Al 476 D.C. La caduta Dell'impero romano D'Occidente Beh Più di Mille anni Ma si potrebbe dire Ancora di più Perché Per certi aspetti Dall'impero romano D'Occidente Si passò All'impero romano D'Oriente Nel senso Che l'impero romano D'Oriente Colse L'eredità E non solo Quella Dell'impero romano D'Occidente E come si sa L'impero romano D'Oriente Durerà Sino al 1453 Quando Appunto Costantinopoli Verrà conquistata Dei turchi Quindi Questo mette in evidenza Come Remi Braga Colga Un aspetto Essenziale Che L'Europa Per Inverare Ancora meglio La propria Identità Deve rientrare Per certi aspetti In quello che è il solco Della romanità E quindi Deve Cercare di recuperare Quella che è La cesura Che si è venuta A creare Con il passato E con le radici Classiche Tutto questo Tutto questo È l'impero romano E quindi Parlando Dell'imperatore Traiano E della conquista Della dacia Inevitabilmente Faremo riferimenti Anche All'impero romano Alla sua Civiltà Che ha Dato Delle situazioni Di straordinaria Modernità Per certi aspetti Sono passati 1900 anni Dalla conquista Della dacia Da Da quella Campagna bellica Fatta Per quanto riguarda La conquista Dell'imperatore Traiano Nel corso Di due Spedizioni Militari Molto importanti Una campagna Che dovette Colpire A tal punto L'immaginario Collettivo Dell'epoca Dall'essere Eternate In quello Straordinario Monumento Che è rappresentato Dalla colonna Traiana Un monumento Straordinario Per la sua Verrebbe Da dire Modernità Appunto Comunicativa A questo proposito Mi piace Ricordare Ciò che Un grande Scrittore Come Italo Calvino Disse Della colonna Traiana Appunto Di essere Un film Di pietra E per certi aspetti Si potrebbe dire In tal senso Che La colonna Traiana Ha anticipato Di circa 1800 anni L'invenzione Del cinema Per certi aspetti Se vogliamo Comparare I rilievi Di questo Straordinario Monumento Con i fotogrammi Di un film Un film Mutuo Appunto Un film Di pietra Ma che racconta Come In un film Impresa diretta Quasi Impresa diretta Le gesta Di Traiano E Queste Importanti Conquiste Che gli ebbe Modo Di fare In Dacia Conquistando Un re Come Decebalo E un popolo Particolarmente Capace Bellicoso E fiero Come appunto Furono I Daci E in effetti La storia Dacia E la storia Di un popolo Particolarmente Importante In quello Che è il contesto Dove si colloca Vale a dire Nel contesto Danubiano Un popolo Che aveva Un orgoglio E anche Una forza Bellica Che per certi aspetti Fu sottovalutata Dall'imperatore Che cercò In primo luogo Di conquistare I Daci Vale a dire Domiziano E le guerre Che furono Fatte Contro I Daci Furono appunto Guerre Particolarmente Impegnative In cui Un esercito Così Ben rodato Di grande Esperienza E forte Come quello Romano Dovette Trovarsi Talvolta In difficoltà Subendo Anche Delle sconfitte Particolarmente Significative E questo Lo possiamo Notare Anche In quelle Che sono Le fonti Dell'epoca Che mettono In evidenza Soprattutto Faccio riferimento A quello Che è Un testimone Indiretto Delle battaglie Daciche Valle a dire Cassio Dione Che mettono In evidenza Appunto Come i romani Trovarono Non poche Difficoltà Nell'intraprendere Queste campagne Militari E nell'arrivare Alla fine Alla conquista Definitiva L'aspetto Interessante E saliente Della Conquista Dacica Di cui Cercheremo Appunto Come Fa In maniera Straordinaria La colonna Traiana Di raccontare Quasi in presa Diretta Le gesta Più Eclatanti L'aspetto Straordinario È che La Dacia Conquistata Dall'imperatore Traiano Nel 106 Dopo Cristo Rimarrà Romana Per un arco Cronologico Tutto sommato Limitato Perché Verrà Perduta Nel 271 Dopo Cristo Abbandonata Dall'imperatore Aureliano Perché Si trattava Di un territorio Molto difficile Da controllare E quindi L'imperatore Aureliano Decise O controvoglia Appunto Di abbandonare Questo territorio Ma Si tratta Di un arco Cronologico Di 165 anni Un arco Cronologico Tutto sommato Limitato In cui Però La civiltà Romana Il caso di dire Si sedimentò Si stratificò A tal punto Che Nonostante I 165 anni Di dominazione Romana Ancora oggi Appunto Le tracce Della Romanità Sono evidenti E sono evidenti In modo significativo Non soltanto Nelle vestigia Nei monumenti Romani Che chi ha L'occasione Di visitare La Romania Ha modo di vedere Ma Soprattutto In quella che è La lingua La dimostrazione Di come Questa conquista Fu Certamente Invasiva Ma Su questa conquista Poi si Radicò Innervò Profondamente La civiltà Romana Tanto Da lasciare Forte traccia Di sé Sul piano Linguistico Quindi La Dacia In sostanza Subì Una intensa Romanizzazione Si diffuse La lingua latina Si diffusero I modelli E i comportamenti Italici E quindi acquisì Un'identità Romana Così forte Che Seppur perduta Nel 271 D.C. Con l'abbandono Dell'imperatore Aureliano Appunto Ancora oggi Ancora oggi Le tracce Della romanità Sono evidenti Nella lingua Quindi Sebbene breve La presenza romana Mutò radicalmente La vita E la civiltà Della Dacia Con effetti Profondi Irreversibili Tanto che La sua romanizzazione Fu completa Sia sul piano Sociale Sia sul piano Culturale Le guerre d'Aci Che hanno Avuto Per l'impero romano Una notevole Rilevanza E Fu il motivo Per cui I romani Decisero Alla fine Di conquistare Definitivamente Il popolo Dei Daci Perché Le guerre Avevano delle implicazioni Di diverso tipo Di diverso genere Potevano essere Implicazioni Di natura Politica Militare Economica Politica Perché Avremo modo Di cogliere Puntualmente Come I Daci Riuscirono A creare Uno stato Così Forte Così Solido Così Omogeneo Riuscirono A crearlo In ragione Di alcuni re Che Avevano Una statura Anche Di grande Rilevanza Rilevanza Sia sul piano Militare Sia sul piano Politico Avevano una visione Di carattere Appunto Di autonomia E di Espansionismo Per certi aspetti Questi re Che Possiamo Ricordare Sono appunto Il re Burebista E il re Decebalo E oltre a queste Implicazioni Di natura Politica Il motivo Per cui I romani Decisero Ad un certo Punto Di fare Guerra E Daci Era che Temevano Queste Figure Di re Che erano Così ben Radicati Nel contesto Danubiano Tant'è che Temevano Anche La loro Capacità Di riuscire Ad aggregare Attorno a sé In ragione Della loro Statura Del loro Carisma La capacità Di aggregare Attorno a sé Altre popolazioni Barbariche E quindi Questo era un pericolo Che i romani Non potevano Certamente Cogliere Vi erano poi Delle Implicazioni Di altra natura Di carattere Più economico Perché La Dacia Era una terra Ricca Ricca In modo particolare Per le miniere D'oro Che Poi Avrebbero Concorso All'indomani Della conquista Dell'imperatore Traiano A Rimpinguare Quelle che erano Le casse Ormai Esangui Dell'impero romano Quindi Una Guerra Che si spiega In ragione Di queste Motivazioni Ma Appunto È il caso Di Cercare Di Comprendere Meglio Chi era Questo popolo Il popolo Dei Daci E cercare Di Conoscerlo Più da vicino In tal senso Abbiamo una Testimonianza Significativa Di Cassio Dione Che nella Sua storia Romana Così Definisce I Daci Li Designo Con il nome Di Daci Proprio Come loro Chiamano Se stessi E come Li chiamano I Romani Ma non ignoro Che alcuni Greci Li definiscono Geti Sia che li Denominino Correttamente Oppure no Io infatti Conosco Per Geti Quelli che Vivono Al di là Dell'Emo Lungo L'Istro Il Danubio Appunto Quindi Nelle fonti Antiche Si parla Comunque Sempre Sia Di Geti E sia Di Daci Il popolo Dei Daci Se vogliamo Dare una Collocazione Geografica Più precisa Abitava Grosso modo Il territorio Dell'attuale Romania Ma in maniera Più precisa Popolavano L'Altipiano Transilvanico Le regioni Montane E circostanti E più Scarsamente Popolavano Le grandi Pianure Vicine Quindi Gruppi Di Daci Erano Insediati In Transilvania Altri Erano Insediati E popolavano La parte Meridionale Del Danubio E i Geti Che erano Coloro Che In sostanza Appartenevano Allo stesso Ceppo Abitavano La valle Basso Danubiana E quindi Geti E Daci In sostanza Rappresentano Ceppi Di uno stesso Popolo Il nome Dei Daci Nella storia Di Roma Ricorre Per la prima Volta In Giulio Cesare Infatti Giulio Cesare Nel Debello Gallico Li cita E li cita In modo particolare Facendo riferimento A quelle popolazioni Della Dacia Occidentale Ma poi Nella storia Nella storia Nella storia di Roma In sostanza Il nome Dei Daci Verrà Associato Alle guerre Daco-Romane E il nome Dei Daci Indicherà Quelli che Che poi Costituiranno Quello stato Autonomo E così Forte Che si Verificherà Soprattutto Sotto I regni Del re Burebista E successivamente Del re De Cebalo Strabone Altro Testimone Che ci Informa Che ci dà Delle informazioni Sulla Popolazione Dei Daci In tal senso È importante Sottolineare Quanto Le fonti Sia Storiografiche Sia Letterarie Siano Significative Per conoscere Da vicino Questo popolo Anche perché Di questo popolo Come avremo Modo di dire Più compiutamente Successivamente Non abbiamo Così tante Conoscenze Sul piano Archeologico Strabone Nella sua opera La geografia Diceva Che i geti E i traci Erano Omoglottoi Vale a dire Parlavano La stessa lingua Anche se Molto più probabilmente Si trattava Di dialetti Oppure di lingue Appartenenti Allo stesso ceppo Peraltro Si sa pochissimo Della lingua Dacica Perché Non hanno Lasciato testi E questo è Probabilmente Legato al fatto Che la casta Sacerdotale Presso il popolo Di Daci Era molto forte Era con tutta probabilità Depositaria Della lingua E quindi noi Conosciamo Della lingua Dacica Soltanto Poche parole Che sono Soprattutto Antroponimi Toponimi Idronimi Cioè Nomi di luoghi Nomi di fiumi E pochissimi E questo è un dato Per certi aspetti Anomalo Cioè È un popolo Quello dei Daci Che ha lasciato Poche tracce Di sé Forse anche In ragione Del carattere Invasivo Di come È avvenuta La conquista Ma Un'altra motivazione E quella Probabilmente Più vicina Alla realtà È che Saranno Gli scavi Più sistematici Che verranno Fatti Negli anni Nei decenni Futuri A dare Una maggiore Consistenza A questo popolo A dare anche Una maggiore Nitidezza Di contorni A quella Che è la civiltà Dacica Perché Ci sono Qua e là Delle testimonianze Archeologiche Interessanti Che mostrano Come Insomma Questa scarsità Di documentazione È frutto Talvolta Del caso Ricordo In tal senso Uno straordinario Rinvenimento O meglio Recupero Nel senso Che in questi ultimi anni Sono stati recuperati Da uno scavo Clandestino Dei bracciali Doro Che sono Molto Importanti Che sono Le prime testimonianze Archeologiche Della grande Abilità Capacità Nell'arte Dell'orificeria Dei daci Sono le prime Testimonianze Appunto Possiamo dire Di arte Di arte dacica In quanto La datazione Di questi bracciali Doro massiccio Risale appunto Al periodo Pre-romano A dimostrazione In sostanza Che Saranno appunto Gli scavi Che verranno compiute Ne decenni successivi A consentirci A consentirci Di meglio Comprendere Una civiltà Di cui Allo stato attuale Conosciamo Pochissimo E di cui Abbiamo Pochissimi Frammenti Di lingua I primi contatti Dei romani Con i daci Avvennero Alla fine Del secondo secolo Avanti Cristo Ma I romani Per la verità Avevano avuto modo Di conoscere Il mondo dacico Anche prima Attraverso La mediazione Dei greci E poi Con tutta probabilità Avevano avuto Occasione Di conoscere I daci Attraverso La mediazione Importante Dei mercatori Cioè Dei mercatori Canti Dei commercianti Che molto spesso Anticipavano Per certi aspetti Le conquiste Vale a dire I mercatori I commercianti Si spostavano Là Verso Quei mercati Che potevano Essere Particolarmente Produttivi Per loro E talvolta Verso Quei popoli Che non erano Ancora Stati Assoggettati O che comunque Non erano ancora Entrati Nell'orbita Romana E quindi I mercatori Con tutta probabilità Furono Tra i primi Ad entrare in contatto Con la civiltà Dacica E da lì Poi La civiltà Dacica Fu conosciuta Non solo Dai greci Ma successivamente Anche dai romani All'inizio del primo secolo Avanti cristo La daccia Fu unificata Sia con la forza Sia con la persuasione Con una figura Importante di re Il re Burebista Che regnò Dal 60 al 44 Avanti cristo Un re Che godeva Di grande autorità Anche Di un naturale carisma E che riuscì Grazie alla sua capacità La sua intelligenza Politica A creare A consolidare Un potente stato Uno stato Che poi Cominciò ad espandersi Sempre di più E ad espandersi Verso le regioni vicine In primo luogo Verso La parte compresa Tra il Danubio Inferiore E i Balcani Ma anche Verso Le colonie greche Della costa occidentale Del Ponte Usino Ovvero Del Mar Nero Questo Espansionismo Di Burebista Consentì Alla civiltà Dacica Di irradiarsi Oltre che Di espandersi E Di avere Ulteriori Mire Espansionistiche E ciò Cominciò Indubbiamente A preoccupare I Romani E da qui Si entrò Per certi aspetti In una sorta Di rotta Di collisione Tra il re Burebista E i Romani Il re Burebista Riuscì poi Anche a entrare In contatto E a sconfiggere Altre popolazioni Barbariche Vicine Quindi Da questo momento In poi In pratica Alla metà Del primo secolo Avanti Cristo L'attenzione Dei Romani Verso i Daci Si trasformò In una vera e propria Preoccupazione Quando Burebista Cominciò A spingersi Sia con attacchi Sia con incursioni Sino alle frontiere Della provincia romana Della Macedonia E quindi A intaccare In maniera diretta Quelli che erano Gli interessi Romani E in una situazione Di questo tipo Era evidente Che i Romani Non potevano Assolutamente Lasciar perdere Questa situazione Ma dovevano Intervenire In maniera Molto più Incisiva Di quanto Non avessero fatto Sino a quel momento Il primo Che riuscì a comprendere La necessità Di muovere guerra I Daci Per il potenziale Pericolo Che avrebbero Potuto Rappresentare Per Roma Fu Cesare Il quale Oltretutto Decise Di intervenire Non soltanto Perché i Daci Rappresentavano Un pericolo Significativo Ma anche Perché Il re Burebista A sua volta Aveva dato Il suo appoggio A Pompeo Nel corso Di quella Guerra civile Che vi era stata Tra Cesare E Pompeo E proprio Per punire Questo appoggio Che Burebista Aveva dato A Pompeo Cesare Iniziò A fare I preparativi Per una grande Spedizione militare Contro la Dacia A dimostrazione Poi Che Non aveva Assolutamente Sottovalutato Il pericolo Dacico Cesare Concentrò Ben 16 Legioni Pronte ad attaccare Un numero Imponente Di soldati Che dimostra In maniera Evidente Come Cesare Temesse Il pericolo Dacico Ma per uno strano Gioco del destino L'anno 44 Avanti Cristo Fu però Fatale Sia Cesare Sia Burebista In quanto Entrambi Furono Accomunati Anche nella sorte E vennero Assassinati Rimandando Di conseguenza In questo modo Di circa 130 anni Una guerra Che sembrava Ormai a questo punto Inevitabile Lo scontro Non poteva Che avvenire In quanto Il pericolo Dei Daci Era ormai Un pericolo Sempre più Concreto La situazione Poi Rimase Irrisolta Per alcuni Decenni Perché Roma In quel contesto Non era Nelle condizioni Di affrontare Il pericolo Dacico Stava affrontando Un periodo Intenso Di guerre Civili All'indomani Dell'uccisione Di Cesare E leidi Di marzo Le guerre Civili Che poi Coinvolsero Ottaviano E Marco Antonio E quindi La questione Dacica La vexata Questio Dacica Si riproporrà Circa 130 anni Dopo Perché la guerra Era ormai Inevitabile Si tratta Di una cronaca Di conseguenza Di una guerra Annunciata Quindi 130 anni Dopo Avverrà Lo scontro Definitivo Perché Nel frattempo La situazione Politica A Roma Non consentiva Di occuparsi Direttamente Della minaccia Dacica Ma la stessa Situazione Di difficoltà Che viveva Roma Viveva anche La Dacia A Roma Dobbiamo ricordare Lo scontro Tra Ottaviano E Marco Antonio L'inizio Del Principato Le varie Situazioni Che si Verificheranno Anche Di difficoltà Sul piano Politico E per quanto Riguarda La Dacia Una situazione Per certi aspetti Analoga Perché dopo La morte Di Burebista Il suo regno Si disgregò Subito A causa A causa di una rivolta Interna Per certi aspetti Che rimaneva Che rimaneva Nella Dacia Nella Dacia Che era stata Da Burebista Unificata Era Il potere Dei sacerdoti Il quale In un contesto Di questo tipo Ebbero una grande Influenza E furono Praticamente L'elemento Unificante Dei vari Regni E quindi I Daci In sostanza Erano Indeboliti Da una situazione Di questo tipo E L'instabilità Politica Del regno Dacico Fu Un pericolo Per la sua Sopravvivenza Tant'è che Al tempo Di Augusto Strabone Ricorda Nella geografia Che la Dacia Era talmente Indebolita Che pensò Addirittura Di sottomettersi A Roma Ma il corso Degli eventi Andò Diversamente Sarà Ottaviano Augusto Che Entrerà In rotta Di Collisione Con i Daci Soprattutto Con Quei Daci Che Erano Andati Al di là Dei loro Territori E avevano Invaso I territori Che erano Sotto Il dominio Dell'impero Romano E Appunto Sappiamo Dalle res Gesta Edivi Augusti Che Ottaviano Augusto Dovette Intervenire Per ricacciarli Al di là Del Danubio E Ottaviano Augusto Dice Anche Nelle Res Gesta E Che Intervenne Costringendo I Daci A Sottomettersi All'autorità Del popolo Romano In realtà I Daci Non furono Sottomessi All'autorità Del popolo Romano Ma Quanto Meno Furono Rintuzzati Loro Attacchi E furono Controllati In maniera Più Capace Rispetto A quanto Non era Stato Fatto In Precedenza Proprio Perché Le incursioni Dei Daci Si facevano Sempre di più Preoccupanti E Questa Preoccupazione Fu Ulteriormente Alimentata Anche Negli anni Nei decenni Successivi Perché Molto spesso L'aristocrazia Guerriera Dacica Per Affermare Il proprio Potere All'interno Dello Stato Dacico Che era Comunque Ancora Smembrato Tendeva Proprio A fare Razzie Verso I territori Vicini E quindi In qualche Modo A mettere In serie Difficoltà Quelli Che erano I territori Che erano Nell'orbita Dell'impero Romano Addirittura Che erano Territori Romani In tal senso Si spiegano Gli attacchi Gli assalti Verso La provincia Della Mesia Mettendo Molto spesso In difficoltà Con le loro Incursioni Gli interessi Romani In quei Territori L'instabilità Politica Dei Daci In ogni modo Non fermò Lo sviluppo Della società Dacica Né tantomeno Il suo Progresso Perché Durante Tutto Il primo Secolo Dopo Cristo Vi fu Un continuo E generale Progresso Della società E della civiltà Dacica Che raggiunse In questo momento La propria Maturità Sul piano Degli insediamenti Si vede Si vede come Le tipologie Abitative Migliorano Decisamente Dai semplici Tuguri Che avevano Caratterizzato Gli insediamenti Precedenti Ora Si Arrivò A delle case In legno Con basamento In pietra A delle residenze Fortificate Come nel caso Dell'aristocrazia Guerriera E anche La produzione Ceramica Migliorò Decisamente Così come La metallurgia La metallurgia In modo particolare Del ferro Che ebbe modo Di migliorarsi In maniera Decisiva Del resto È il momento Quello del primo secolo Dopo Cristo In cui La civiltà E la società Dacica Hanno la possibilità Di meglio Affermare Se stessa L'aristocrazia Di origine Gentilizia Prende Consapevolezza Anche della propria Forza Così come La classe Sacerdotale Che esercitò Una grande Autorità Fu l'elemento Che in qualche modo Costituiva Il legame Quel legame Unificante Che ancora Non c'era Realmente Sul piano Politico In modo Particolare In questo Contesto Cronologico Si sviluppa Quello che Diverrà Il centro Più Importante Di tutta La Dacia Sulle montagne Di Orashtie Più precisamente Nella parte Sud occidentale Della Transilvania Crebbe rapidamente Un centro Che divenne In breve tempo Una vera e propria Città Un centro Che era Contraddistinto Da un certo Sviluppo Urbano E che Claudio Tolomeo Appunto Definito Basileion Cioè La Regia In riferimento Alla città Di Sarmizegetusa Sarmizegetusa Era Un Oppidum Sostanzialmente Vale a dire Una città Fortificata Si trattava Di un vasto Insediamento Esteso Per alcuni Chilometri Sulle montagne A più di mille metri Di altitudine E quindi In una collocazione Geografica Particolare Ma il fatto Che si trattasse Di un centro Posto Ad una Altitudine Come Quella Che ho ricordato Dimostra Che si trattava Soprattutto Di un'area Sacra Cioè Che questo centro Aveva una valenza Sacra In maniera Particolare E questo Spiega Appunto L'altitudine Perché non era In una collocazione Più privilegiata Per quanto riguarda I commerci E Sarbi Zegetusa Cominciò A divenire Non soltanto Il centro Sacro Ma Proprio perché Meta Di periodici Pellegrinaggi Da parte Dei daci Che qui Confluivano Per partecipare Alle cerimonie Religiose Divenne poi Occasione Di ulteriori Momenti Di aggregazione Come fori E mercati Per cui si arrivò Ad una popolazione Sempre più Permanente Tanto da Divenire Una città Con una Certa Densità Demografica E in sostanza Sarbi Zegetusa Che Claudio Tolomeo Appunto Definisce Regia Rappresentò Il punto D'incontro E di unione Dei daci E il punto Da cui poi Si arrivò Ad una Ulteriore Unificazione Dopo l'esperienza Del re Burebista E quindi Per certi aspetti Sarbi Zegetusa Regia Rappresentò Per i daci Quello che fu Delfi Per il mondo Greco Arcaico Già dal tempo Di Burebista Il potere Politico Del resto Si avvalse Dell'apporto Significativo Della classe Sacerdotale E forse Per comprendere Anche Le scelte Che Verranno Compiute Successivamente Dal re De Cebalo Di andare Incontro Di affrontare Il proprio Destrino Un destino Che Non poteva Che andare Nella direzione Tracciata Di essere Conquistata Dei Romani Beh E forse Nella scelta Di De Cebalo Concorse In maniera Significativa Proprio Questo legame Forte Dei daci Con La religione Un aspetto Questo Che forse Spiega Anche Molti Degli aspetti Della civiltà Dacica Quindi Sarmi Zegetusa In sostanza Fu Il centro Unificante In un momento Di instabilità Politica Del mondo Dacico Quel centro Che poi In una fase Successiva Portò I daci A creare Dopo L'esperienza Di Burebist Un ulteriore Regno Coeso Forte Solido E tutto Questo Grazie Al re De Cebalo La crescita Di Sarmi Zegetusa Regia Che divenne In pratica La capitale Del mondo Dacico La capitale Prima Religiosa E poi Politica Come ho avuto Modo Di dire Concorse Anche a Coagulare Attorno A sé Anche L'aristocrazia Guerriera Che cominciò A superare Quella che è stata L'instabilità Politica Che aveva Contraddistinto I decenni Precedenti Ma Sostanzialmente Questa aristocrazia Guerriera Molto spesso Si alimentava Delle sue Razzie Dei suoi Saccheggi Che Indubbiamente Andavano Nella direzione Di quelli Che erano I territori Da questo Punto di vista Più Attrattivi E quindi Molti di questi Assalti Si riversavano Verso i territori Che erano Nell'orbita romana O erano Direttamente Dominati Dai romani In modo particolare In tal senso Verso la provincia Dell'Amesia E' quello che Si verificò Nell'anno Sessantanove Dopo Cristo Quando i daci Invasero L'Amesia E Questo fu Il primo momento Forte Di cesura Tra il mondo romano E il mondo dacico Perché di fronte Ad una situazione Di questo tipo Anche seppur In un contesto Per quanto riguarda Roma Particolarmente Difficile Perché Appunto Sono gli anni Della dinastia Giulio-Claudia Nel 68 Dopo Cristo Fu ucciso Nero Nel 69 L'anno In cui invasero I daci La Mesia E' il cosiddetto Anno dei quattro Imperatori Cioè Un anno Di anarchia Militare Ma In un contesto Come questo Nel momento In cui L'imperatore Vespasiano Arrivò Al potere Non poté Che preoccuparsi Della questione Dacica Perché gli assalti Le razzie Erano diventate Così evidenti E così Pericolose Per Roma Che dovette In primo luogo Consolidare Quel confine E di conseguenza Preoccuparsi Della minaccia Dacica I romani Generalmente Tendevano Il più possibile Ad evitare Le guerre Anche perché Le guerre Significavano Un sacrificio Economico Non indifferente Tendenzialmente Nelle aree Lungo Il Limes Tendevano Ad attuare Dei protettorati Creavano Dei sistema Di stati Cliente E quindi Questa poteva Essere La soluzione Che Vespasiano Ipotizzava Anche per i Daci Cioè creare Uno Stato Che fosse Cliente Che fosse In legami Di amicizia Con i romani E quindi Che i romani Avessero una sorta Di protettorato Su questo regno Per cercare Di evitare I pericoli E le minacce Soprattutto Per evitare Una guerra Che in quel Frangente storico Roma Non poteva Certamente Permettersi Ma la situazione Per quanto riguarda La minaccia Dacica Era tale Che tutto Questo Venne Meno Quindi È probabile Che L'imperatore Vespasiano Per cercare Di evitare Uno scontro Un conflitto Che Sarebbe stato Impegnativo Soprattutto In quel Frangente Per Roma Che era Uscita Dal Principato Di Nerone Era Uscita Seriamente In difficoltà E anche Dal cosiddetto Anno Dei quattro Imperatori Da un anno Di anarchia E quindi Vespasiano Cercò Di evitare Più possibile Un conflitto Con i daci Che continuavano Comunque I loro assalti E Le loro Incursioni In Mesia E arrivò Con tutta probabilità Ad un Trattato A concludere Un trattato In base al quale Roma Appunto Dava Degli aiuti Dei sussidi Ai daci E in cambio Evitava Le loro Incursioni E nel contempo Però Vespasiano Si preoccupò Di consolidare Quel confine Creando Tutta una serie Di infrastrutture Che controllavano Meglio Il Danubio La situazione Però Nonostante Questo Trattato Che con tutta Probabilità Fu attuato Tra Vespasiano E i daci Non migliorò Del resto Per Roma Era difficile Ad un certo punto Tollerare Un potere Dacico Considerevole Ai confini Dell'impero Tanto più Che i daci Persistevano Ancora Nelle loro Incursioni Ma la grave Irreversibile Crisi Nei rapporti Tra l'impero Romano E la dacia Si verificò Nel contesto Della politica Generale Dell'imperatore Domiziano Infatti L'ultimo Dei Flavi Domiziano Fu imperatore Dall'81 Al 96 D.C. L'ultimo Dei Flavi Cercava Di consolidare Il proprio Potere Personale Nell'alveo Si potrebbe Dire Di quella Che era La tradizione Del principato Di Nerone E proprio Per questo Consolidamento Di potere Personale Per questo Suo Regime Autocratico Entrò In aperto Conflitto Con il Senato Di conseguenza In un Momento Come Questo Diocleziano Pensò Bene Che la guerra Con i Daci Fosse un Momento Per superare La difficoltà Che gli stava Vivendo Sul piano Del proprio Regime Autocratico E indubbiamente La situazione Che si verificò Successivamente Portò Alla guerra Con i Daci Perché Per cercare Di risolvere Alla situazione Economica Difficile Che si stava Verificando L'imperatore L'imperatore Domiziano Era decisamente Era decisamente Più Conflittuale Rispetto Ai predecessori Indusse I Daci A Attaccare Nel contempo Era Salito Al potere Come re Di Urpaneo Che era Divenuto Re dei Daci Che indubbiamente Rispetto Agli altri Suoi Antagonisti Dell'aristocrazia Guerriera Aveva Una maggiore Capacità Sul piano Strategico E sul piano Politico E quindi Di Urpaneo Rendendosi Conto Che la Soppressione Dei sussidi Romani Poteva essere L'inizio Di una Conflittualità Vere e propria Decise Di attuare Un attacco A sorpresa Negli anni 85 86 In Mesia Di Urpaneo Alla testa Dei Daci Attraversò Il Danubio Con tutta probabilità Coperto Di ghiaccio E attaccò In maniera Fulminea A sorpresa L'esercito Romano Infliggendo Una sonora Sconfitta Addirittura Nel corso Dello scontro Morì Il governatore Della Mesia Gaio Oppio Sabino E È probabile Che le legioni Furono Seriamente Danneggiate Se non In alcuni Casi Anche Distrutte Di fronte A questo Attacco A sorpresa Da parte Di Di Urpaneo L'imperatore Domiziano Ovviamente Non poteva Rimanere A guardare E decise Di intraprendere La prima Spedizione Militare Contro I Daci Prima però Si preoccupò Di consolidare Il sistema Difensivo Romano In quel contesto Territoriale Perché si era Reso conto Della sua Fragilità Quanto L'attacco Dacico Aveva mostrato Palesemente Tutto questo E Per cercare Di presidiare Meglio Quel territorio Decise Proprio In quel frangente Di Riorganizzare La provincia Della Mesia Che fu Divisa In due Province La Mesia Superiore Che era difesa Da due legioni Che aveva A capo Un governatore Consolare Comprendeva Tutta la parte Occidentale Della provincia Tutta quanta La parte Rimanente Sino alla foce Del Danubio Diventava La Mesia Inferiore Che era anch'essa Comandata Da un governatore Consolare E anch'essa Presidiata Da due legioni E Però Oltre a ciò Decise Una tempestiva E massiccia Reazione Nel senso Che decise Di colpire Di Urpaneo E di portare Guerra Ai Daci Quindi Da parte Dell'imperatore Domiziano Vi fu Una tempestiva E massiccia Reazione Una reazione Che indusse Con tutta probabilità Il re Di Urpaneo Ad abdicare E il potere Passò A Decebalo Decebalo Così come Celeudo Scrivono Le fonti In modo particolare Abbiamo Un ritratto In tal senso Significativo Da parte Di Cassio Dione Nella storia Romana Era Un re Dotato Di grande Capacità Di grande Abilità Non soltanto Sul piano Politico Perché Il re Decebalo Concorse In maniera Significativa All'indomani Appunto Della sua Salita Al trono A coagulare Attorno A sé L'interesse Di tutta quanta L'aristocrazia Guerriera Dacica Ma concorse Anche A unificare A cementare In maniera Massiccia Il regno Dacico E A intrattenere Rapporti Ancora più Solidi Con quella Classe Sacerdotale Che era Stata Nei momenti Di smembramento Politico O di Instabilità Politica Il cemento Che aveva Tenuto assieme Tutto quanto Il mondo Dacico Cassio Dione Ce lo Descrive Quindi come Un re Dotato Di grandi Abilità Di grande Capacità E Anche di Grande Capacità Sul piano Strategico Come del resto Lo evidenzia Molto bene Quello che sarà Lo sviluppo Della guerra E quindi Si trattava Di un re Che poteva Creare Non poche Preoccupazioni Ai romani Tant'è Che lo stesso Imperatore Domiziano Lo temeva Molto In quanto Vedeva In questo Re Un re Che poteva Coagulare Attorno A sé Anche Le altre Popolazioni Barbariche Quindi Il timore Da parte Dei romani Era quello Che diceva Lo diventasse In un certo Qual modo Il capo Di una Coalizione Antiromana E di conseguenza Anche questo Indusse L'imperatore Domiziano A Prendere Proprio Di mano La situazione Per punire I daci Portando La guerra In Dacia E a questo Proposito Affidò Il comando Di questa Spedizione Militare Non a un generale Di provata Esperienza E questo Fu per Domiziano Un errore Fatale Bensì Ad un uomo Di sua Totale Fiducia Del resto Una scelta Di questo Tipo Era anche Indutta Dalla situazione Particolare Che l'imperatore Viveva In quanto Era in difficoltà Nei rapporti Del senato E per affrontare Una guerra Così impegnativa Pensò Di avvalersi Di un uomo A lui vicino Piuttosto Di un generale Di esperienza Che comunque Non conosceva Così direttamente E la sua Scelta In tal senso Cadde sul Prefetto Del pretorio Cornelio Fusco Cornelio Fusco Prima di Attaccare Il re Dei Daci Decebalo Fece un estremo Tentativo Per ridurlo All'obbedienza E quindi Gli fece Anche una sorta Di offerta Un'offerta Di pace Che però Decebalo Rigettò Con Scherno Così almeno Sostiene Cassio Dione Nella sua Storia romana Infatti Decebalo In maniera Sprezzante Rispose a Cornelio Fusco Che egli Non avrebbe Mai più Attaccato I possedimenti Romani Se Roma Ogni anno Gli avesse pagato Due oboli Per ciascun Cittadino romano Era ovviamente Una proposta Provocatoria Ma l'abilità Di Decebalo Si coglie Anche in questa Provocazione Perché era una Sorta di Stratagemma Per cercare Di far perdere La pazienza A Cornelio Fusco E fargli Commettere Qualche errore Strategico Come del resto Avvenne E l'abile Mossa Del re Dei Daci Diede I suoi risultati Tant'è che Cornelio Fusco Attraversò Rapidamente Il Danubio Per entrare In Dacia E colpirli Nel cuore Del regno Dacico Nella speranza Di sottometterli Definitivamente Ma Come Poi Si verificò Sottovalutò Del tutto L'avversario E soprattutto Sottovalutò Il contesto In cui Sarebbe dovuta Avvenire la guerra Perché La Dacia Era un territorio La cui Morfologia Era caratterizzata Da delle Asperità Da dei Boschi Da delle Situazioni Quindi In cui L'esercito Romano Se non Avesse Pianificato Adeguatamente Questa Campagna E questo Attacco Al cuore Dacico Sicuramente Avrebbe Trovato Grandi Problemi E in effetti Così Avvenne Perché In maniera Improvvida Cornelio Fusco Entrò In Dacia Cadde In una Trappola Il suo Esercito Fu Duramente Sconfitto E subì Ingenti Perdite Tanto Che Lo stesso Comandante Romano Cadde Sul campo Di battaglia Addirittura Addirittura Una legione La Quinta All'Aude Venne Venne Definitivamente Distrutta E da questo Momento Scompare Dalla scena Militare E dalle fonti Fu Una vera E propria Catastrofe Sul piano Bellico E l'eco Della disfatta Fu grande In tutto Quanto Il mondo Romano Per cui Domiziano In ragione Di questa Sconfitta Una sconfitta Disastrosa Per certi aspetti Paragonabile Con i dovuti Distinguo Al disastro Subito Ai tempi D'Augusto Nell'inverno Del 9 d.C. Dal legato Imperiale Publio Quintilio Varo Da parte Di Arminio Beh Questo disastro Concorse In maniera Determinante A mettere Ancora più In difficoltà L'imperatore Nei suoi rapporti Con il senato In quanto L'immagine Dell'imperatore Soprattutto In ragione Di questa Disastrosa Sconfitta Ne subì Una riduzione Fu fortemente Ridimensionata E tant'è Che probabilmente Anche questa Sconfitta Concorse Ad armare Le mani Dei congiurati Che poi Lo avrebbero Ucciso Nel 96 D.C. Quindi Anziché Rappresentare Per Domiziano Un successo Che gli avrebbe Consentito Di guadagnare Quel credito Nei riguardi Del popolo Del senato Romano La campagna Militare Di Cornelio Fusco Fu talmente Disastrosa Che poi Sarà Per certi Aspetti Decisiva Nel delinearne Le sue Sorti L'imperatore Domiziano Che quindi Aveva Cercato Attraverso La guerra Contro i Daci Di ridare Slancio Smalto Alla propria Immagine Di Imperatore Ne sortì In sostanza L'effetto Inverso Perché La tragica Sconfitta Di Cornelio Fusco E addirittura La perdita Di una Intera Legione La quinta Laude Fu una Sconfitta Talmente Disastrosa Che l'imperatore Domiziano Ne subì Tutte quante Le conseguenze Certo Certo è Che L'impresa Dei Daci La guerra Contro i Daci Ci consente Anche Di riflettere Su come Questi Barberi Queste popolazioni Barbariche Non fossero Sul piano bellico Così Sprovvedute Come talvolta Si è indotti A pensare Mi viene Da dire Quasi L'immagine Epica Per certi aspetti Introduttiva Del film Il gladiatore In cui Appunto Il personaggio Protagonista Interpretato Da Russell Crow Dice Al mio segnale Scatenate L'inferno In cui Si contrappongono Nel film Il gladiatore L'esercito Romano Che ha Una sua Struttura Gerarchica Organizzato Ben addestrato E dall'altra parte Le popolazioni Barbariche Nello specifico Del film I germani Che escono Allo scoperto Da una foresta E attaccano Appunto In maniera Feroce L'esercito Romano Certo È un'immagine Cinematografica Che non corrisponde Certamente A quanto avvenne Nel corso Della guerra d'Acica Perché il re De Cebalo Aveva dimostrato Come del resto E ben esemplificato Nel ritratto Che ne ha fatto Cassio Dione Aveva dimostrato Tutta La sua Abilità Sul campo Di battaglia E Certamente La guerra D'Acica Lasciò Dei segnali Irreversibili Nell'immagine Appunto Dell'imperatore Che Da quel momento In poi Si trovò In serie Difficoltà Sul piano Della politica Tant'è che I rapporti Con il senato Peggiorarono Ulteriormente Tanto che Si arrivò Ad una situazione Di attrito Evidente E Tanto che Lo stesso Imperatore Pensò Che L'unica Soluzione Per riprendersi Da una situazione Di questo tipo Fosse quella Di riprendere La guerra Con i Daci Stavolta Auspicando Una maggiore Fortuna Un maggior Successo Rispetto All'episodio Precedente E in effetti Così avvenne Stavolta Però Presa la lezione Di quanto Era avvenuto Con la sconfitta Tragica Del prefetto Del pretorio Cornelio Fusco Affidò L'incarico Di fare La guerra Ad un comandante Indubbiamente Più preparato Più capace Di quanto Non fosse stato Cornelio Fusco E proprio A questo riguardo Individuò Come Comandante Lucio Tettio Giuliano Che era Un generale Molto esperto Evitò I pericoli E i rischi In cui era caduto Il suo collega Che poi Aveva trovato La morte Sul campo di battaglia Cornelio Fusco E nel momento In cui Ricevette L'incarico Cominciò A preparare La spedizione In maniera Molto attenta Perché si rendeva Conto Della necessità Di avere Una strategia Decisamente Più accorta Si trattava Di affrontare Un nemico Sul proprio campo Di battaglia In un territorio Che del resto Non era poi Così Conosciuto E che Rischiava Di mettere In difficoltà L'esercito Romano Perché Le imboscate Una volta Che l'esercito Romano Era entrato Nel territorio Dacico Erano Indubbiamente Sempre Molto pericolose E potevano Accadere In ogni momento Proprio Per questo Egli dedicò Molta attenzione A marciare Con l'esercito E ad evitare Soprattutto Un tragitto Che potesse Esporre L'esercito Alle incursioni Agli assalti Dei Daci Così Appunto Avvenne La marcia Una marcia Lenta Dell'esercito Romano Un esercito Che era Costituito Da legioni Molto esperte Molto preparate L'esercito Entrò Nel territorio Dacico Seguì La zona Pedemontana Di una regione Che si chiama Il Banato Che è Possiamo dire La regione Che consente Di accedere A quello Che è Il cuore Il centro Nevralgico Del Regno Dacico Là dove Si trovava Appunto La capitale Sar-Mesegetusa Regia E il percorso Era stato Scelto Opportunamente Con grande Attenzione Per evitare Sia la pianura Troppo aperta Ed esposta E quindi Gli attacchi Potevano divenire Estremamente Pericolosi Sia nel contempo Le montagne Boscose Le montagne Che caratterizzavano In gran parte La morfologia Della Transilvania I romani Giunsero Così Sino a Tapae Grosso modo Nello stesso Luogo Dove era Venuto Lo scontro Precedente Che aveva visto L'annientamento Della legione romana La quinta A laude In un luogo Che era stato Ipoteticamente Individuato Proprio In ragione Della facilità Di accesso Alla capitale Del regno dacico E qui Orientativamente In questo luogo Perché Non si è certi Di dove Avvenne Con precisione La battaglia Anche se In tal senso Gli storici Gli studiosi Hanno fatto Alcune ipotesi In un passaggio Che era tutto sommato Stretto Avvenne lo scontro Tra l'esercito Romano E quello Dei daci In corrispondenza Di un luogo Che è quello Appunto Delle porte Di ferro Transilvani Che così Questo luogo In tempi Moderni E' stato Appunto Chiamato Qui Il generale Tettio Giuliano Decise Di affrontare Apertamente Il re Dei daci Dicebalo Stavolta Era stato Molto accorto In tutte le sue scelte L'esercito Era schierato A battaglia E tutto quanto Era appunto Stato curato Sin nei minimi Particolari Ciò nonostante Ciò nonostante Le fonti Mettono in evidenza Come si trattò Di uno scontro Di una battaglia Particolarmente Cruenta La battaglia Fu feroce Moltissimi Soldati Caddero Da una parte E dall'altra I romani Riuscirono Alla fine A sconfiggere I daci E si trattò Comunque Di uno scontro Molto Duro In cui Morirono Anche Molti soldati Romani E dobbiamo Immaginare Quello che Molto spesso Non si immagina In questi casi Cioè Anche quello che avviene Dopo una battaglia Cruenta Con i corpi Di questi uomini Riversi a terra E L'esercito Vincitore Che si impossessa Delle spoglie Dei nemici Vinti Fu Una sconfitta Stavolta Per Decebalo Il quale Vole affrontare I romani Rendendosi conto Che per il proprio popolo Non c'era altra possibilità Che non fronteggiare Direttamente I romani Con quell'orgoglio Che Non solo Ha contraddistinto Questo re Sicuramente Una figura Piena di carisma Un personaggio Carismatico Ma Anche un intero popolo Perché Poi Alla fine Quello che si evince Dalle guerre d'aci Che è la fierezza Di un popolo Che consapevole Anche di quella Che sarebbe stata La propria rovina Perché alla fine Poi I daci Scomparvero Dalla storia In ogni caso Affrontò Con coraggio E fierezza Un destino Che non poteva Che essere avverso Perché L'esercito romano Era indubbiamente Di gran lunga Superiore Ma anche qui Cassio Dione Ci conforta Con quel ritratto Di cui Ho parlato Poc'anzi Cioè In cui Cassio Dione Mette in evidenza La capacità Strategica Anche l'astuzia Del re De Cebalo Tant'è che Cassio Dione In un passo Della storia romana Appunto Ricorda Come De Cebalo Fu anche Molto abile Nella sicurezza Curarsi La ritirata Perché c'è un passo In cui Lo storico Greco Dice che De Cebalo Fece tagliare Gli alberi Su una collina E poi Li equipaggiò Come se fossero Stati Dei soldati E attraverso Questo stratagemma Riuscì a ritirarsi Subendo Meno perdite Perché i romani Appunto Pensavano Di avere Di avere Un'altra parte Consistente Dell'esercito Dacico Sulle colline Pronto ad attaccarli Uno stratagemma Che comunque Dimostra L'astuzia Di questo Generale Di questo re Generale Dalle grandi Capacità Anche sul campo Di battaglia Ma dopo Questo brillante Successo Militare Finalmente Il caso Di dire Dell'esercito Romano Perché Appunto I romani Ebbero grandi Difficoltà Nello sconfiggere I daci Quando La vittoria Sembrava Ormai Vicina La vittoria Definitiva Sul re De Cebalo E i daci L'imperatore Domiziano Non pago Forse Di questa Situazione Favorevole Commise Un gravissimo Errore Nel senso Che per Risolvere Definitivamente Quella che era Ormai La vexata Questio Dacica Chiese Il sostegno Di altre Popolazioni Barbariche Nello specifico Il sostegno Dei Quadi E dei Marcomanni I quali A loro volta Rispinsero La richiesta Cioè Rispinsero La richiesta Di Domiziano Di poterlo Sostenere Nella battaglia Decisiva Finale Appunto Contro De Cebalo E i daci Arrabbiato Per questo Digniego Per certi aspetti Imprevisto L'imperatore Domiziano Decise quindi Di punire Queste tribù Ancora prima Di porre fine Alla guerra Contro i daci Si trattò Di una scelta Assolutamente Improvvida In quanto L'imperatore Non solo Quindi Non ottenne Alcun aiuto Da parte Dei Quadi Dei Marcomanni Ma facendo Guerra Loro Venne Sonoramente Sconfitto Un'altra Sconfitta Vergognosa Che ancora Di più Alimentò Quella che era L'immagine Decisamente Negativa Che l'imperatore Ormai Aveva A Roma Anche In un momento In cui La sorte Porteva A volgere Se avesse Ottenuto Un successo Definitivo Sui daci A suo favore Egli Ebbe modo Di incompiere Un errore Decisivo Che sbiadì È il caso Di dire Ulteriormente La sua Immagine Quindi L'immagine Dell'imperatore Domiziano Ne uscì Ulteriormente Ridimensionata Siamo Nell'anno 89 Dopo Cristo L'imperatore Era sempre Più In difficoltà Perché I rapporti Con il senato Si erano fatti Ancora Di più Conflittuali Lo stesso Popolo Che di primo Acchito In un certo Qual modo Lo amava Cominciava Ad abbandonarlo Anche perché Le sconfitte Che aveva subito Indubbiamente Avevano avuto Una certa Eco Nell'urbe A Roma E quindi Di fronte Ad una situazione Di questo tipo Pur consapevole Anche Delle negative Ripercussioni Che Una sua Eventuale Decisione Di attuare Trattative Di pace Con Il re Dei daci Decebalo Pur consapevole Di una decisione Di questo tipo Egli pensò Che fosse Giunto il momento Di arrivare Ad una pace Ad una Sorta Di tregua Arrivò A questa Considerazione Per diverse Motivazioni Ma possiamo dire Sostanzialmente Due In primis Il fatto Che l'imperatore Domiziano Si era reso conto Dell'impossibilità Con le forze Di cui Disponeva Di sferrare L'attacco decisivo Al cuore Del regno Dacico Sarmisegetusa Appunto Quelle difficoltà Che per certi aspetti Lo avevano Indotto A chiedere L'aiuto Di altre Popolazioni Barbariche Appunto Iquadi E Marco Manni In secondo luogo Perché Gli riteneva Che la spedizione Militare Contro De Cebalo E il successo Di Tettio Giuliano Avessero Comunque Avuto Un effetto Positivo Nel senso Che Avevano Costituito Un efficace Deterrente Nello scongiurare Ulteriori Iniziative Belliche Da parte Del re De Cebalo E dei Daci Cioè In sostanza La spedizione Militare E la vittoria Di Tettio Giuliano Costituì Almeno questo Secondo L'idea Dell'imperatore Un efficace Deterrente Per evitare Quelle Incursioni Quegli assalti Che portarono Poi Allo scontro Frontale Tra i due Eserciti Quello romano E quello Dacico E quindi E quindi Tra L'imperatore Domiziano E il re Dei Daci De Cebalo Si arrivò A fare Trattative Di Pace Trattative Di Pace Le cui Clausole In sostanza Rimettevano A posto La situazione Preesistente Nel senso Che La Dacia Ritornava Ad essere Un regno Cliense Vale a dire Un regno Cliente Amico Ed alleato Di Roma Ed era questa Tutto sommato Una situazione Comunque Positiva Perché I regni Clienti In ogni caso Non creavano Particolari Problemi Di belligeranza E soprattutto Questo era Indubbiamente Positivo Per Tutto Quell'ambito Che è l'ambito Danubiano Che aveva Creato Non poche Preoccupazioni In precedenza Nel contempo De Cebalo Si impegnava A restituire I prigionieri Romani Quei prigionieri Che erano stati Fatti Nel corso Degli scontri Precedenti Le insegne Romane Che erano state Strappate Nonché L'equipaggiamento Militare Cioè Le cosiddette Spoglie Che venivano Sottratte Ai soldati Romani Uccisi Sul campo Di battaglia Cosa che però I daci Non fecero Mai Completamente E praticamente Roma In questo Ambito Vale a dire Il contesto Danubiano Continuò Quella politica Che era stata Inaugurata In precedenza Dall'imperatore Ottaviano Augusto E il re De Cebalo Oltre a ciò Si impegnava A concedere Ai romani Il libero Passaggio Attraverso Attraverso La dacia Per consentire Loro Di attaccare In maniera Definitiva I marcomanni E i quadi Che si erano Ribellati E che avevano Poi concorso Concorso Ulteriormente Con la sconfitta Che i romani Avevano subito A mettere In difficoltà L'imperatore Quindi La pace Tra i romani E i daci Costituiva Una sorta Di compromesso Valido Sostanzialmente Per entrambe Le parti Ma è indubbio Che con la pace De Cebalo Ottenne di più Di quanto Avesse sperato Intanto Perché Lo scontro Con Lucio Tettio Lo aveva messo Di fronte Alla superiorità Evidente Dell'esercito Romano E quindi Si era reso Conto Che con le forze Di cui Disponeva Non poteva Certamente Frapporre Ad un esercito Come quello Romano Che era una macchina Bellica Pressoché Perfetta Si potrebbe dire Del resto Del resto Quindi È una situazione Favorevole Per il re Dei daci Perché Comunque Aveva ottenuto Uno status Che per la verità Il regno dacico Aveva in precedenza Vale a dire Quello di regno Cliente Ma nel contempo L'impero romano Si impegnava A fornire Dei sussidi Degli aiuti Quei sussidi E quegli aiuti Che Nell'urbe A Roma Furono seriamente Rimproverati All'imperatore Domiziano Tant'è Che Molti A questo Proposito Parlarono Di una pace Comperata Quindi Questa pace Comperata Fu un ulteriore Elemento Di difficoltà Di fragilità Dell'immagine Dell'imperatore Per la verità Non era una novità Che i romani Fornissero Aiuti Aiuti Anche di carattere Economico Sussidi Era una consuetudine Soprattutto Nei riguardi Dei regni Clienti Là dove Si stabiliva Una sorta Di protettorato Romano I romani Intervenivano Per mettere Nelle condizioni Quei regni Anche Di migliorarsi Era Del resto Nell'interesse Dei romani Che quei regni Clienti Avessero Delle condizioni Di stabilità Nel contempo I romani Evitavano Di fare Delle guerre Inutili E le guerre Nell'antichità Così come Aimee Avviene Ancora oggi Costavano Parecchio Non soltanto In perdite Umane Ma anche Sul piano Economico Quindi La pace Comperata Indebolì Ancora di più L'immagine Dell'imperatore Domiziano Che dovette Affrontare Non poche Difficoltà Dopo L'89 D.C. Nell'89 D.C. Ad esempio Scoppiò Una pericolosa Rivolta Di Lucio Antonio Saturnino Il governatore Della Germania Superiore Che coinvolse Anche una tribù Germanica La ribellione Poi fu Rapidamente Sedata Schiacciata Ne seguirono Sanguinose Repressioni E Proprio Nel corso Di questa Rivolta Nel sedare Questa rivolta Ebbe Modo Di mettersi In luce Quello che sarebbe Poi Divenuto Un grande Imperatore Vale a dire Marco Ulpio Traiano Che fu Decisivo Nel sedare La rivolta Di Saturnino Il futuro Imperatore Infatti Si trovava A Mogontiacum Che corrisponde All'attuale Magonza E qui Partecipò Come comandante Della legione Settima Gemina Alla repressione Della ribellione Per Traiano Possiamo dire Che questo Episodio Rappresentò Una vera e propria Svolta Nel senso Che gli consentì Di raggiungere I gradi Più elevati Della carriera Tanto Che lo stesso Domiziano In segno Di riconoscenza Gli offrì Il proprio Sostegno Per divenire Console Nel 91 D.C. Ma La tensione Tra L'imperatore Domiziano E la nobiltà Senatoriale Si era ormai Acuita Decisamente Benché Domiziano Fosse popolare Nei ceti bassi Della società E anche Tra i soldati Era però Fortemente Osteggiato Dall'aristocrazia In primo luogo Proprio In ragione Di quella Che prima Abbiamo definito Politica Autocratica Ma anche Perché aveva Esacerbato Il culto Imperiale E sappiamo Benissimo Come i romani Fossero molto Sensibili Affinché Queste Situazioni Di Culto Imperiale Non fossero Così Evidenti Come Appunto Avverrà Nel corso Della storia Romana L'imperatore Quindi Dovette Difendersi Si può dire Da diverse Congiure Alcune reali Altre immaginarie Cadde In un certo qual modo In uno stato Di paranoia Alla fine Si arriverà All'anno 96 D.C. Quando L'imperatore Domiziano Cadde Vittima Di una Congiura Che fu Ordita Contro di lui Dopo la morte Violenta Dell'imperatore La sua memoria Venne addirittura Condannata Dal senato Subì Quella Che si dice La Damnazio Memorie Cioè La condanna Della memoria Condanna Della memoria Che era La peggiore Cosa Che potesse Capitare A un imperatore Ad un personaggio Politico Perché La condanna Della memoria Significava Essere Sottoposti Costretti All'oblio Della storia Era una condanna Non soltanto Sul piano Diciamo così Ideale Ma anche Sul piano Formale Nel senso Che quando Un imperatore Subiva la condanna Della memoria Ad esempio Il suo nome Veniva Cancellato Cancellato Nelle iscrizioni E ci sono In tal senso Tracce Evidenti Di come Appunto L'imperatore Veniva Cancellato Perché la sua Memoria Fosse Dimenticata Da tutti Quanti Il 19 Settembre Del 96 Dopo Cristo Domiziano Quindi Viene Assassinato Da un gruppo Di congiurati E lo stesso Giorno Il senato Proclamava Il nuovo Imperatore Marco Cocceio Nerva Un vecchio Senatore Nato Anarni Quindi Originario Dell'Umbria Era un membro Dell'aristocrazia Italica Discendente Da una famiglia Senatoria Di antico Lignaggio Il padre Il nonno Erano stati Ad esempio Importanti E anche Celebri Giuristi Nerva Nerva Era un senatore Che aveva avuto Una brillante Carriera Politica Ma che Non aveva Alcun tipo Di esperienza Militare Era un senatore Si vuole Di transizione Ma La proclamazione Di Nerva Dimostra Come in questo Periodo Il senato Riprende Quel suo ruolo Di baricentro Del potere A Roma E quindi Fu Importante Da parte Del senato Riassumere Quel ruolo Per il quale Era stato Esautorato Nel corso Ad esempio Della dinastia Giulio Claudio In maniera Progressiva Da Ottaviano Augusto In poi Sino A Nerone In cui I rapporti Tra l'imperatore E il senato Erano divenuti Assolutamente Conflittuali Quindi In questa Riassunzione Di potere Da parte Del senato Si spiega Appunto La proclamazione Di Marco Cocceio Nerva Il quale Nei due anni Nei quali Fu imperatore Vale a dire Dal 96 Al 98 Dopo Cristo Si trovò A fronteggiare Situazioni Non facili Perché Certamente La sua Esperienza Politica Gli consentì Di fronteggiare Abilmente La situazione Ma La sua Mancanza Di esperienza Militare Lo esponeva A dei pericoli Tant'è Che Si parla Di congiure Che furono Ordite Nei suoi riguardi In particolare Di una Da parte Del comandante Della guardia Pretoriana Cassio Dione A questo proposito Ricorda Che Marco Cocceio Nerva Affrontò Con coraggio Questa congiura Giungendo addirittura Ad offrire Il gladio La spada Appunto E apporgere La gola Ai congiurati Il vecchio senatore Però Si rendeva Conto Che Serviva Anche Avere Un sostegno Da parte Dell'esercito E quindi Un sostegno Militare Quel sostegno Su cui Certamente Non poteva Contare Da parte Sua E quindi In tal senso Si spiega L'adozione Il 2 settembre Del 97 Dopo Cristo Di quello Che era Il governatore Della Germania Superiore Che venne Adottato E venne Associato Appunto Al potere Il governatore Della Germania Superiore Vale a dire Il valente Generale Marco Ulpio Traiano Che era Stato Associato Al potere Con il titolo Di Cesare Questo atto Politico Indubbiamente Apportò La calma A Roma Perché Traiano Godeva Di grande Prestigio Militare Era popolare Nell'esercito E soprattutto Era sostenuto Anche da un gruppo Senatoriale Molto Influente Motivo Per il quale Appunto Nerva Riuscì a porre Rimedio Alla situazione Nel contempo Il senato Mantenne La propria Funzione Di baricentro Del potere Politico A Roma Poco dopo Nel gennaio Del 98 D.C. Il vecchio Senatore Divenuto Imperatore Marco Cocceio Nerva Morì E Traiano Divenne Il nuovo Imperatore Merva Era morto Dopo appena 14 mesi Di regno Traiano Divenne Per decisione Senatoria E acclamazione Militare Il nuovo Imperatore E con Traiano Viene inaugurato Quello che viene Definito Il principato Adottivo Cioè La scelta Dell'imperatore Cadeva Su migliore Non Dipendeva Da vincoli Di sangue Così come Era avvenuto Ad esempio Con la dinastia Giulio-Claudia E poi Anche con Quella Flavia Principato Adottivo Fu un momento Importante Perché appunto Consentirà A quelli Che sarebbero Stati Più Capaci Di salire Al potere E di divenire Appunto Imperatori Alla Notizia Della morte Dell'imperatore Nerva Che avvenne 28 gennaio Del 98 Dopo Cristo Traiano Quasi Per certi aspetti Si era Preparato La notizia Lo aveva Raggiunto Mentre si trovava Colonia Come governatore Della Germania Superiore Ora era lui Il nuovo Imperatore E quindi Ora Si era reso Conto Delle grandi Responsabilità Che gli doveva Assumere Innanzitutto Con Traiano Abbiamo una Particolarità Per certi Aspetti Nel senso Che è il primo Imperatore Provinciale Cioè Non Di Roma Nemmeno Italico Ma originario Della Spagna Precisamente Di Italica Una città Che Diede addirittura I Natali A tre grandi Imperatori Traiano Appunto Adriano Il suo successore E più avanti Teodosio Quindi Era originario Della Spagna Anche se Per la verità I genitori Erano Di origine Italica Ciò non toglie Che questo È un elemento Che indubbiamente Va messo In evidenza E che È un elemento Se vogliamo Anch'esso Di straordinaria Modernità Dell'Impero Romano In cui Appunto Tutti quanti Potevano Se erano dotati Di grandi capacità Non soltanto Adire alle cariche pubbliche Avere la possibilità Di fare Un cursus Honorum Di grandi Risultati Una carriera Straordinaria Brillante Come per certi aspetti Avvenne Per molti Personaggi Ma addirittura Anche un provinciale E Traiano Lo dimostra Poteva Divenire Imperatore Beh questo È un elemento Da non sottintendere In quanto Dimostra Anche la capacità Appunto Da parte Dei Romani Di valorizzare Anche Le province E In tal senso L'acclamazione Dell'imperatore Traiano Lo dimostra In sostanza Per l'impero romano Non era importante Il dato geografico Di provenienza Si poteva Essere Nativi Della Spagna Come nel caso Di Traiano E divenire imperatore Si poteva essere Nativi Della Libia Come nel caso Dell'imperatore Settimio Severo Il dato geografico Era indifferente Quello che era importante Era sentirsi Appartenenti Ad una patria Comunis Vale a dire Quella dell'impero romano E tutto questo Appunto Si verificherà Grazie a degli strumenti Straordinari Di integrazione Che i romani Uno schiavo Poteva addirittura Affrancarsi Non solo Divenire libero Ma anche acquisire La cittadinanza Addirittura I figli Acquisivano Una piena cittadinanza Romana Una cittadinanza Che si dice Appunto De optimo iure Cioè Di pieno diritto E questo Della cittadinanza Romana Era appunto Uno straordinario Un formidabile Strumento Di integrazione Sociale Che coinvolse Non solo Gli italici Ma che coinvolse Tutti I provinciali E ciò spiega Perché appunto Ci furono Imperatori Che da un certo Momento in poi Provennero Dalle province Traiano appunto Appena Divenuto Imperatore Si rese conto Della particolarità Del momento Si era reso conto Della necessità Di fare Estrema Attenzione Per quanto riguarda Quella che possiamo dire In termini moderni La politica estera Ma anche per quanto riguarda La politica interna Vale a dire La situazione Contingente Di Roma Era necessario Intervenire In alcuni ambiti Pensiamo in tal senso All'ambito Economico In cui C'erano i segnali I segnali Anche talvolta Significativi Di una crisi Economica Incipiente E si era Reso conto Anche Che Con la fine Della dinastia Flavia Con l'uccisione Di Domiziano Il senato Aveva assunto Una nuova Centralità Quella centralità Appunto Che aveva portato All'elezione Di Neva E quindi Era assolutamente Consapevole Di quelli Che erano I problemi Che Roma Stava Vivendo Egli del resto Aveva avuto Una lunga Esperienza Una lunga Esperienza Soprattutto Sul piano Militare Era Nativo Come si è detto Di Italica Della regione Ispanica Della Betica Ma proveniva Da una Famiglia Di origine Italica Il padre Era riuscito A fare carriera Sotto i Flavi Ed era arrivato Persino A rivestire Nel 79 80 dopo Cristo Il proconsolato Dell'Asia Egli Quindi Introdusse Il figlio Nella carriera Militare Tant'è che Traiano Fu alle dipendenze Del padre Come tribuno Militare E cominciò Da questo momento In poi Una lunga Militanza Militare Rimase Tribuno Militare Addirittura Per dieci anni Dai Diciassette Ai ventisette Anni Di età Un'esperienza Questa Che gli fu Molto importante Perché Come tribuno Militare Non soltanto Cominciò A condividere La vita Di truppa Si potrebbe Dire Ma anche A capire Profondamente Quelli che erano Gli umori Dei soldati E si vedrà Come ad un certo punto In poi Della storia Di Roma Sarà importante Tutto questo Nel momento In cui Saranno Poi Addirittura I soldati Le legioni Ad acclamare L'imperatore Quindi Questa prolungata Militanza Tra le truppe Fu per Traiano Particolarmente Preziosa Perché Ne trasse Molti Insegnamenti Condividendo La loro vita Insegnamenti Che riuscì A tesaurizzare Con grande Esperienze Con grande Abilità Egli Tutto sommato Si potrebbe dire Si sentì Un vir militaris Nel senso Che era Un uomo Esperto Della vita Militare Ed era Consapevole Che per Ottenere Il meglio Il massimo Dai suoi soldati Era necessario Vivere Come loro Condividere Non soltanto Appunto Le difficoltà Le asperità Della vita Militare Ma anche Condividere I loro momenti I loro momenti Di quotidianità Per questo Traiano Sin dai primi anni Della sua esperienza Di uomo Di comando Andava spesso In mezzo alle truppe Per cercare Di capire In che modo Loro vivevano E soprattutto Quello che pensavano E come Vir militaris All'indomani Della morte Di Nerva Preferì Rimanere Sul Reno Finché Non fosse stato Certo Di avere esaurito Il proprio compito Di consolidare La frontiera E con questo E di evitare Futuri rischi E pericoli Per l'impero Piuttosto Che Ritornare A Roma Quello che Tutti quanti Si sarebbero Aspettati Quindi Traiano Per quasi Due anni Sino all'ottobre Del 99 Dopo Cristo Anziché Rientrare A Roma Rientrare Nell'urbe Come tutti quanti Si sarebbero Aspettati In primis Il senato Che aveva Voglia Di accogliere Il nuovo Imperatore Anche Per cercare Di capire Un po' meglio Questo imperatore Di cui Aveva sentito Parlare Molto bene Anziché Rientrare A Roma Si trattenne Sul Reno Per cercare Di evitare Quei rischi Quei pericoli Che lungo Quell'imes L'impero romano Correva E rimase E rimase Presso Gli eserciti Di stanza Nelle province Renane E danubiane Per rimettere In sesto Il lime Ma questa Decisione Di non Rientrare A Roma Gli costò Gli costò Diverse critiche Perché era stato In qualche modo Visto Come un atteggiamento Se non sprezzante Un po' Anomalo Per un imperatore Perché In passato Tutti quanti Si erano subito Affrettati A rientrare A Roma Per cercare Di tenere Sotto controllo Più direttamente La situazione Ma soprattutto Per essere Accolti E per cercare Di controllare Di amministrare L'impero romano Dalla sua Capitale Dall'urbe Appunto Ma Traiano Questo Personaggio Così Carismatico Che si Contradistingueva Anche per La sua Altezza Che era Ben superiore Alla media Che questo Era un elemento Che viene Sottolineato Dalle stesse Fonti Traiano Pensò bene Di rimanere Lungo Il Limes E Qui Si rese Conto Della necessità Che era Importante Consolidare I confini Dell'impero romano E nel Consolidamento Dei confini Dell'impero romano Oltre Alla situazione Che egli Ben conosceva Da vicino Vale a dire Della frontiera Renana Si era Reso conto Della necessità Di intervenire Decisamente Per cercare Di risolvere Una volta Per tutte Quella Che era La questione Dacica Che del resto Egli doveva Conoscere Piuttosto bene Essendo stato Appunto In un certo Momento Da un certo Momento In poi Vicino All'imperatore Domiziano Di essere Entrato Da un certo Momento In poi Si può dire Nelle sue Grazie Nel momento In cui Ebbe modo Di sconfiggere Saturnino Si era Si era Reso conto Della necessità Di vincere Definitivamente I daci Anche perché I daci Decebalo In primis Non avevano Per niente Rispettato Quelle che erano Le clausole Della trattativa Di pace Che erano Intercorse Tra l'imperatore Domiziano E il re Dei daci Decebalo Non solo Decebalo Non aveva Restituito Tutti quanti I prigionieri Romani Né tantomeno Le spoglie Di guerra Ma addirittura Stava utilizzando I sussidi Economici E l'aiuto Tecnico Romano Sia per Rafforzare L'esercito Fabricando nuove Armi E perfezionando A questo Proposito Ancora meglio Gli addestramenti Sia per Presidiare Meglio La Dacia Costruendo Nuove Fortezze E garantendo Così Una più Efficace Difesa Del territorio Quindi La Dacia Agli occhi Di Traiano Non solo Godeva Di una Condizione Di un potere Molto più Grande Di qualunque Regno Alleato Cosa Che per la verità Non era Consentito Da Roma Ma addirittura Stava assumendo Sempre di più La fisionomia Di un potenziale Nemico Per l'impero romano Poiché Tutti i segnali Che da lì Provenivano A partire Dalle alleanze Che il re Dei Daci De Cebalo Stava stringendo Preannunciavano La volontà Di questi Di prepararsi Gradualmente A muovere Guerra Contro i Romani Ma era Quella Del rafforzamento Del consolidamento Della Dacia Ad opera Di De Cebalo L'unica motivazione Che spingeva Che muoveva Traiano A far guerra Re dei Daci No Vi erano altre Ragioni Innanzitutto Una ragione Che si potrebbe dire Di carattere Personale Vale a dire Legata Alla legittimazione Della propria Autorità Imperiale L'imperatore Traiano Certamente Era un valente Generale Aveva dimostrato La sua capacità Nel momento In cui Era riuscito A sedare La rivolta Di Saturnino Nella Germania Superiore Ma Aveva bisogno Di ottenere In tal senso Maggiori consensi Cioè Di legittimarsi Ancora di più E che cosa Ci poteva essere Di meglio Che L'impresa Dacica Per ottenere Tutto questo E poi Non solo Queste motivazioni Altre motivazioni Erano di carattere Militare Strategico La Dacia Era una sorta Si direbbe Di Propugnaculum Imperi Cioè Una sorta Di avamposto Era Un'area Strategica Per quanto riguarda Gli assetti Futuri Del mondo Danubiano Per quanto riguarda I rapporti Anche con Le popolazioni Barbariche Che si affacciavano Su quel territorio E quindi Queste motivazioni Di carattere Militare Strategico Erano indubbiamente Di grande Rilevanza E non potevano essere Certamente Disattese Da un imperatore Così abile E così Attento A questi Rapporti Come era appunto L'imperatore Traiano Motivazioni Di carattere Politico Perché certamente Intraprendere La guerra Contro I Daci Lo avrebbe Ancora di più Consolidato Per quanto riguarda Il suo Potere E soprattutto Gli avrebbe Consentito Di affrancarsi In maniera Più significativa Nei rapporti Con il Senato Il Senato Che dopo Nerva Si sentiva Completamente Il baricentro Della scena Politica Di Roma Ma che Non aveva Assolutamente Fatto i conti Con una figura Così carismatica Come sarà Quella poi Di Traiano Oltre alle motivazioni Di carattere Politico C'era anche Un orgoglio romano Che andava Rinvigorito Dopo Quel trattato Disonorevole Condicebalo Trattato Che era ancora Ben vivo Nei romani Trattato Che aveva Portato Appunto A quella pace Comperata Che aveva Rappresentato Una profonda Ferita Per l'orgoglio Romano Tanto da Avere intaccato Per certi aspetti L'immagine Della grandezza Di Roma E a ciò Si aggiungono Poi Le motivazioni Di carattere Economico La conquista Della Dacia Avrebbe consentito Di riversare Nel sistema Produttivo Nel sistema Economico Romano Molti Schiavi E soprattutto Avrebbe consentito Di rimpinguare Le esangui Ormai Casse Dell'impero Facendo Affluire Oro Perché La Dacia Era conosciuta Nell'antichità Come Una sorta Di vero E proprio Eldorado Erano Note Da tempo Le miniere D'oro Della Dacia E certamente Questo rappresentava Per Traiano Una forte Attrattiva Un ulteriore Elemento Che egli Considerò Ampiamente Prima di Intraprendere La guerra Contro I Daci Oltre a ciò Vi erano Poi Motivazioni Per certi aspetti Di natura Ideale Traiano Amava Alessandro Magno E in qualche Modo Si sentiva Per certi aspetti Un emulo Voleva Imitarne Le gesta E le imprese Daci Che avrebbero Concorso In tal senso Proprio A raggiungere Questa sua Ispirazione Che del resto Egli perseguì E del resto Vediamo Ben rappresentata Nella colonna Traiana Che tra le altre cose Appunto È la celebrazione Delle gesta Di un imperatore Come Traiano Che si sente Vicino Attraverso Quest'impresa Ad Alessandro Magno E la sua Grandezza Come generale Quindi Tutte queste Motivazioni Tutte quante Messe insieme Indussero L'imperatore Traiano A prendere In considerazione L'idea Di riprendere La guerra Contro I Daci Motivazioni Che erano Di carattere Quindi ideale Ma di carattere Pratico Rendendosi conto Appunto Che la Dacia Ormai Rappresentava Una seria Minaccia Per l'impero Romano E come tale Doveva essere Risolta Questa situazione In maniera Definitiva E decisiva Una volta Per tutte Del resto Non è che il primo passo La conquista Della Dacia Di quella che sarà La politica Espansionistica Di Traiano Che rimane Nel nostro Immaginario Collettivo Come Un Imperatore Conquistatore Con Traiano L'impero romano Raggiunse La sua Acme Il suo Apogeo In termini Di Estensione Territoriale Riuscì Nella sua Politica Espansionistica Non solo Ad acquisire A conquistare La Dacia Ma altri Territori Più orientali Come L'Arabia Petrea Che era Certamente Un territorio Piccolo Ma importante Perché di lì Passavano Le vie Carovaniere E quindi Traffici E commerci Diretti Verso Oriente La Siria La Mesopotamia E poi Anche L'intenzione Che non andò A buon fine Di intraprendere La guerra Contro i parti Gli acerrimi Nemici Di Roma Uno scontro Quello di Traiano Con i parti Che non si Concluse Positivamente Quindi Una politica Espansionistica Che portò L'imperatore Traiano A dilatare In maniera Significativa I confini Dell'impero romano Arrivando A portare L'impero Ad un'estensione Mai raggiunta In passato E che Gli vasse Poi anche Per certi aspetti L'appellativo Di Optimus Princeps Cioè Di ottimo Principe Un principe Un imperatore Che si contraddistinse Non solo Con i successi Militari Sul campo Di battaglia Ma si contraddistinse Anche Per la sua capacità Nell'agire Politico Nell'arte Del governare E possiamo dire Che in tal senso La sua figura Ebbe Una larga fortuna Anche nei secoli Successivi Nello stesso Rinascimento A cominciare Anche dal Medioevo Ad esempio Dante Nella commedia Lo ricorda Non tanto Per le sue Imprese belliche Ma lo ricorda Proprio Per la sua Capacità Nell'agire Politico Di essere Un imperatore Equilibrato E tutto ciò Si sintetizza Si cristallizza Per certi aspetti Nel titolo Che gli ebbe Di Optimus Optimus Princeps Che gli fu conferito All'indomani Della sua Acclamazione Di imperatore Nel senato Consulto Dell'anno 98 Dopo Cristo E di cui Si fregiò Guarda caso All'indomani Della prima Campagna Vellica Vittoriosa Contro i Daci Cioè solamente A partire Dal 103 Dopo Cristo Dopo aver Vinto Per la prima Volta I Daci E che adottò Ufficialmente A partire Dal 114 Dopo Cristo Quasi che Egli avesse Anche una Certa Attenzione Nel fregiarsi Di questo Titolo Di Optimus Di non Urtare La sensibilità Appunto Del popolo Romano E quindi Quella capacità Di equilibrio Che caratterizzò Tutta quanta La sua politica E il suo Operato Non soltanto Dal punto di vista Bellico Ma anche Dal punto di vista Delle scelte Che egli adottò Nella politica Romana E anche E anche Sul piano Sociale Attraverso Attività Che portarono Traiano A dare Un sostegno Significativo Alle classi Meno Abbienti Attraverso Quell'istituto Che è conosciuto Dagli storici Come L'instituzio Alimentaria Che era una sorta Di assistenza Sociale Alle classi Meno Abbienti Affinché Soprattutto I giovani Fossero posti Nelle condizioni Di avere La possibilità Di migliorare Le loro condizioni E magari Di poter Essere Il nerbo Della furturo Apparato Amministrativo Dell'impero Romano E così Quindi Non soltanto Per la sua Attività Si direbbe Bellica Ma Nel suo Agire Politico Che del resto Plinio Il giovane Suo Stretto Collaboratore Nonché Amico Lo ricorda Nel panegirico Che gli Di dedica E quindi I primi Successi Importanti Che consentirono Di arrivare A tutto Questo Cioè Che consentirono Poi All'imperatore Traiano Di essere Ricordato Dalle stesse Fonti Come Un grande Imperatore Tutto In sostanza Partì Dalle scelte Che egli operò E dai primi Successi Militari Che conseguì Che furono Certamente Decisivi Nel costruire L'immagine Di un Imperatore Vincente In tal senso Come si Ho detto La Dacia E De Cibalo Capitava A proposito Nel senso Che poteva essere Un banco Di prova Significativo Per l'imperatore Per cercare Di ottenere Successo La vittoria Militare E quindi La legittimazione Che egli Cercava di Conseguire Là dove Un suo Predecessore Appunto L'imperatore Domiziano Aveva fallito E da qui Appunto Traiano Iniziò Ma Da vir militaris Appunto Abile Capace Quale Egli Era Si Rese Conto Della Necessità Di Arrivare A questa Campagna Militare Contro La Dacia In maniera Graduale In maniera Progressiva Non aveva Nessuna Fretta In tal senso Era ben Consapevole Da valente Generale Quale Egli Era Che il modo Migliore Per vincere Una guerra Era di Prepararla Puntualmente Di prepararla Anche Nei minimi Particolari Di questo Aveva Bisogno E questo Aveva Imparato Nella sua Lunga Militanza E condivisione Con i suoi Soldati E Proprio Nel periodo In cui Egli si trovava Sul fronte Renano Si può dire Che subito Iniziò A preparare A progettare La campagna Bellica Che di lì A poco Intraprese Contro La Dacia Innanzitutto Egli Si rendeva Conto Che la conquista Non poteva essere Procrastinata Ulteriormente Perché i segnali Che provenivano Anche dagli Informatori Che comunque I romani Avevano Erano Segnali Preoccupanti Nel senso Che Il re dei Daci De Cebalo Si stava Preparando Si stava Armando Perché Anche Egli era Consapevole Che comunque I romani Avevano Tutto L'interesse Di risolvere Definitivamente A loro Vantaggio La guerra Contro Di loro E in ragione Di questo L'imperatore Traiano Cominciò Già Nei primi Mesi In cui Divenne Imperatore A prendere Tutte quante Le informazioni Necessarie Per preparare Quello che è Uno degli elementi Essenziali Per vincere Una guerra Vale a dire L'assetto Logistico Che soprattutto In Dacia Era particolarmente Importante E particolarmente Significativo Proprio per questo Sappiamo E lo sappiamo Sia direttamente Sia implicitamente Dalle fonti Che Egli Fece Delle Ricognizioni Sul Limes Da Nubiano Per rendersi conto Di persona Di quella Che era La situazione Da Abile Generale Quale Gli era Che non Lasciava Assolutamente Nulla al caso Andò a visitare Gli accampamenti Per rendersi conto Non soltanto Di quella Che era La condizione Degli accampamenti E di conseguenza Dei soldati Ma anche Di quella Che era La loro collocazione Perché Era fondamentale Soprattutto Sull'imes Da Nubiano Che la collocazione Degli accampamenti Fosse funzionale Appunto A quello Che era Il tentativo Di conquista Che di lì a poco L'imperatore Romano Avrebbe Attuato Se Prima Si è detto Che Le guerre Daci Che sono La prima Vere e Propria Guerra Mediatica Della storia Lo si è detto Soprattutto In ragione Di quel Monumento Straordinario Che è la colonna Traiana Perché per la verità Per quanto riguarda Le testimonianze Storiografiche Le fonti In sostanza Storiografiche Ma anche letterarie Abbiamo Pochissime informazioni E questo Questo è Per certi aspetti Un dato Anomalo Molte delle opere Sono andate perdute Sappiamo ad esempio Che lo stesso Imperatore Traiano Nel suo intento Anche Propagandistico Se vogliamo Aveva scritto I commentari De Bello Dacico Raccontando Le vicende E esaltando Anche Le conquiste I successi Militari Che aveva Ottenuto In Dacia Ma questi Commentari De Bello Dacico Sono andati Ahimè Perduti E' rimasto Solamente Un frammento E lo sappiamo Questo frammento Lo conosciamo In quanto Ci è stato Tramandato Da un grammatico Di nome Prisciano Nel VI secolo Ma per la verità E' un piccolissimo Frammento Che indica Semplicemente La direzione Di marcia Dell'esercito Imperiale Verso Il regno Dacico Sappiamo Anche Che un altro Resoconto Delle guerre Daciche Fu scritto Da Tito Statiglio Critone Che era Il medico Personale Dell'imperatore Traiano E questo Resoconto Il cui nome E' Gittica Anch'esso E' andato Perduto Ma nel corso Della storia Successiva Altri autori Si misurarono Nel raccontare Le imprese Daciche Rendendosi conto Della rilevanza Che questa Conquista Che questa Vittoria militare Ebbe Nella vita Dell'imperatore Traiano E di queste Informazioni Di queste fonti Ahimè Non c'è rimasto Pressoché Nulla E questo E' un dato Di per sé Anomalo Che ci consente Comunque Di riflettere Anche Sulle difficoltà Che ha Uno studioso Uno storico Antico Là dove Le informazioni Le fonti Sono Scarse Perché Le fonti Per quanto riguarda La storia antica Verrebbe da dire Sono a macchia Di leopardo Nel senso Che Nella storia Antica Nella storia Romana Abbiamo Dei momenti In cui C'è assenza Di documentazione O quantomeno Scarsità Di informazioni E molto spesso Il ruolo Dello studioso Dello storico E' proprio Cercare Il più Possibile Di Disumere Dei dati Di Evincere Delle informazioni Alla luce Di una Documentazione Che talvolta E' piuttosto Lacunosa E questo E' un elemento Importante Degno Di considerazione Ma in questi Casi Molto spesso E' l'archeologia Che ci viene Incontro E sicuramente Questo avverrà Per le guerre d'aciche Come del resto Le scoperte Archeologiche Che si stanno Facendo In questi anni In Romania Ovviamente Nella Transilvania Stanno Dimostrando Molto bene Perché queste Scoperte Archeologiche Che riguardano Ad esempio Alcuni Accampamenti Che sono stati Meglio indagati Con scavi Più sistematici Ma che riguarderanno Negli anni a venire Anche la civiltà dacica Che sembra Per certi aspetti Stata cancellata Dalla storia Che probabilmente Non è stata Indagata In maniera Più esaustiva Sul piano archeologico Saranno Queste scoperte Che consentiranno Di avere Maggiori informazioni E di comprendere Meglio Come sono avvenute In realtà Le imprese Che Traiano Portò a compimento Indagia Certamente La fonte Più importante Per quanto riguarda Il valore Documentale Per lo studio Delle guerre Che possiamo Definire Daco Romane È costituita Senza dubbio Dalla colonna Traiana Che è uno Dei capolavori Assoluti Dell'arte Romana La colonna Traiana Da questo punto Di vista Ci consente Di desumere Tante informazioni E quindi Come si è detto Di sopperire Alla estrema Lacunosità Per non dire Assenza Delle fonti Storiografiche A questo riguardo Perché La fonte Della colonna Traiana Consente Di avere Una narrazione Che in alcuni momenti Si fa precisa Dettagliata Negli aspetti Topografici E geografici Di quelli che dovevano Essere anche I luoghi In cui Avvennero Gli avvenimenti Saglienti Delle imprese Daciche Di Traiano In cui Appunto Si mette bene In evidenza Non soltanto L'attività Della guerra Le guerre E gli scontri Cruenti Tra romani E daci Ma in cui Soprattutto Si può Notare Quella che è stata L'estrema Attenzione Che l'imperatore Traiano Ebbe Per quanto riguarda L'ossetto Logistico Prima di intraprendere La guerra Contro i daci Del re Di Cebalo In sostanza Noi possiamo Vedere Dalla colonna Traiana Quello che con tutta probabilità Avremmo potuto leggere Nei commentari De Bello Dacico Cioè Nel diario Delle campagne Scritto Da Traiano Soltanto Che nella colonna Traiana Abbiamo l'occasione Di vedere Tutto questo Direttamente Con i nostri Occhi Sono 114 I rilievi Della colonna Traiana Che documentano Talvolta Con minuzia Di Particolari Le imprese Daciche 114 Rilievi In cui Il generale Traiano Che è l'assoluto Evidentemente Protagonista Della colonna Traiana Compare Per ben 59 Volte E compare Un aspetto Da mettere In evidenza Sempre con La medesima Statura Dei suoi Luogotenenti E soldati Quasi un uomo Tra uomini Quasi un soldato Tra soldati Ed è un aspetto Questo Che possiamo Cogliere Anche nel momento In cui Il focus Della narrazione Della colonna Traiana È proprio Sull'imperatore Traiano Come ad esempio Nel momento Della cosiddetta Ad locuzio Cioè nel momento In cui Il generale L'imperatore Traiano Arringa I suoi soldati Prima Di intraprendere Lo scontro Della battaglia Lo spettatore Può seguire Quindi Nella sua Successione Le scene Della colonna Traiana Perché La colonna È interamente Ricoperta Da un lungo Frigio A basso rilievo Che l'avvolge A spirali In cui Via via Si avvicendano Gli episodi Salienti Accaduti Nel corso Delle due Guerre in Dacia Di Traiano La narrazione A spirale Che si svolge Lungo tutta quanta La colonna Traiana Sembra quasi Alludere Sia la struttura Del rotolo Di papiro Il volume Appunto Sia i grandi Velari In stoffa Che venivano Esibiti In occasione Dei trionfi Militari Su cui erano Del resto Raffigurati Gli avvenimenti Più importanti Salienti Delle guerre Vittoriose Certo che La colonna Traiana Chi la vede Dà tutta L'impressione Quasi Come si è già Avuto modo Di dire Di assistere Ad un film In cui Rilievi Rappresentano Altrettanti Fotogrammi In cui L'attenzione Della spettatore È tenuta In grande Considerazione Perché L'altezza Dei vari Rilievi Non sempre È omogenea Varia Dai 60 Agli 80 Centimetri E questo Tiene conto Della percezione Dell'occhio A seconda Dell'altezza In cui I rilievi Sono posti A dimostrazione Di come La valenza Comunicativa Della colonna Traiana Fosse tenuta In grande Considerazione L'eccezionalità E unicità Del monumento È appunto Quella Di rappresentare Un racconto Impresa Diretta Diretta Delle guerre Daciche Tutto Quanto Il racconto È permeato Dell'intento Celebrativo In cui Emergono Chiaramente I valori Dell'imperatore Dei romani I valori Come La virtus La virtù La fedeltà L'eroismo Ma anche Un aspetto Che va adeguatamente Messo in rilievo Il rispetto Per il nemico Vinto Di cui Non si può Non riconoscere Il coraggio Ed il valore Guerriero Che fa emergere Quindi Con maggiore Intensità La grandiosità Dell'impresa E anche Nel caso Di Decebalo Nella rappresentazione Della scena Definitiva Cioè Il suo suicidio La forza Del re Dei daci Nell'accettare La sconfitta Così come Avviene Non soltanto Nel suicidio Del re Ma anche Nel suicidio Collettivo Dei daci Questo è un aspetto Se vogliamo Nuovo Il fatto Che non soltanto Vengono Celebrate Le gesta Di Traiano E le gesta Dei soldati Romani Perché La colonna Traiana È Nel contempo Sia l'epopea Delle imprese daci Che ma anche L'epopea Dell'esercito Romano Ma c'è anche Attenzione Nei riguardi Del nemico Sconfitto Di cui Di cui si tiene In grande Considerazione Il coraggio E in cui ci sono Anche delle scene Dense Di pathos Come quella A cui si è fatto Poc'anzi Riferimento Del suicidio Di Decebalo Quando Egli decide Di suicidarsi Con la Sicca Con un pugnale Sotto Un albero Ricurvo Per evitare Di cadere Nelle mani Nemiche Dei romani E per evitare L'onta Che gli sarebbe Occorsa Nel momento In cui Appunto Sarebbe caduto Vivo Nelle mani Dei romani E sarebbe stato Poi portato In trionfo A Roma Quindi la colonna Traiana È tutto questo Non solo Scene belliche Scene di guerra Ma anche ciò Che è dietro Le quinte Della guerra Che viene Si potrebbe dire Celebrato In modo Altrettanto Significativo Come i preparativi Per le battaglie L'allestimento Delle fortificazioni E degli accampamenti La costruzione Di strade E ponti Da parte Dei soldati Romani E più di ogni Altra cosa La colonna Traiana Racconta Però Il crudo Realismo Della guerra Con i suoi drammi La sua dimensione Di tragicità Quella dimensione Che abbiamo colto Poc'anzi Nel tragico Suicidio Del re Dei daci De Cebalo Ciò non toglie Che al di là Di questi Aspetti L'elemento Saliente Della colonna Traiana È la sua Valenza Documentaria Una valenza Documentaria Che è stata vista In diverso modo Dagli studiosi Dagli storici C'è chi La ritiene Un'immagine Attendibile E per certi aspetti Fedele Delle guerre daci Che quindi Accorda Piena credibilità Alle scene Che vengono Rappresentate E quindi Si attiene Per certi aspetti Alla lettera Soprattutto In ragione Del fatto Appunto Che mancano Altre testimonianze Come quelle Storiografiche Di cui si è detto Ampiamente Ci sono altri Studiosi Altri storici Che invece Al riguardo Hanno un'opinione Un parere Più cauto Nel senso Che considerano Il monumento Da un punto di vista Meramente artistico E quindi Non fedele Alla reale Ricostruzione Degli eventi Anche in ragione Degli intenti Propagandistici Che erano Sottesi Alla creazione Della colonna Traiana E che non potevano Che essere In un monumento Di straordinaria Forza comunicativa Come la colonna Enfatizzati Ed idealizzati Direi che E per quanto riguarda Il valore testimoniale Della colonna Traiana La verità In tal senso Sta nel mediare Le due posizioni E' indubbio Che l'approccio Ideologico Propagandistico Sotteso Alla sua erezione Sia forte Non poteva essere Altrimenti Perché è un monumento Celebrativo Un monumento celebrativo Delle gesta Dell'imperatore Traiano E' altrettanto vero Che però Soprattutto là Dove possiamo Comparare I rilievi Con le fonti Storiografiche Abbiamo anche Dei riferimenti Storici Ben precisi E ben concreti Un'altra fonte Di grande rilievo Documentario E' rappresentata E' rappresentata Dal complesso monumentale Del Trofeum Traiani Trofeum Traiani Che fu eretto Per celebrare Il successo Dei romani Nella mesia inferiore Il Trofeum Traiani Che si trova Nell'attuale Adam Clissi A circa 70 km A nord Della città Di Costanza L'antica Tomis In Romania E più precisamente Nella parte Nord orientale Del territorio Appunto Della mesia inferiore Il Trofeo Di Traiano Fu innalzato Dall'imperatore Per celebrare La vittoria Sui Daci Si tratta Di un monumento Imponente Le cui metope Raffigurano Scene di combattimento Tra romani E daci Ed è un monumento Costituito Da un altare Quadrato Una sorta Di tumulus Funerario Eretto appunto Per onorare Ed eternare La memoria Dei soldati Romani Caduti Sul campo Di battaglia Quindi Tropeum Traiani E' un altro Monumento Importante E significativo Che Se non ci dà Delle indicazioni Particolari Circa lo svolgimento Delle due Spedizioni Daci Comunque Ci fornisce Delle informazioni Per certi aspetti Ancora più attendibili Perché più precise Relativamente Agli armamenti Cioè Relativamente Alle armi Usate Sia dai romani Sia Dai daci E questo è Indubbiamente Un valore Importante Per comprendere Anche Quelle che furono Le scelte Adottate Relativamente Gli armamenti Dai due eserciti Sia quello Romano Sia quello Dacico Ciò che Comunque Si evince Molto bene Sia dalla Colonna Traiana Sia dal Trofeum Traiani E' L'estrema Attenzione Che l'imperatore Traiano Ebbe Nei riguardi Dell'assetto Logistico Della guerra E questo Si evince Molto bene Sia Nei rilievi Della colonna Traiana Sia Nelle metoppe Del trofeum Traiani Una volta Presa La decisione Della guerra Di intraprendere La guerra Contro i daci Traiano Appunto Da abile Capace Comandante Quale Egli era Cominciò Subito A preparare La spedizione Bellica In Dacia Pianificando E progettando Con grande cura E zelo L'assetto Strategico E logistico Che avrebbe Consentito Di evitare Quei pericoli Quei rischi Quegli errori Che avevano Compromesso Almeno in parte Le campagne Militari Precedenti In modo particolare Le campagne Militari Di Domiziano Proprio Per questo Egli Fu molto Attento Circa L'assetto Organizzativo E in effetti Questo lo si può Cogliere Molto bene Nei rilievi Della colonna Traiana L'esercito Romano In Contraiano Raggiunse Il più alto Livello Di professionalità Possiamo dire Sia per quanto Riguarda La tecnica Nel combattimento Sia per L'addestramento E questo Dimostra L'estrema Attenzione Che egli Ebbe Nei riguardi Dei soldati Merito Indiscusso Dell'imperatore Fu appunto Quello di Intervenire Decisamente Sull'esercito Allo scopo Di renderlo Più Efficiente Soprattutto Rendendosi Conto Della necessità Di riformare La disciplina Militare E in effetti Egli si rendeva Conto Che la disciplina Militare L'organizzazione La preparazione Delle milizie Erano elementi Imprenscindibili Per ottenere I successi Militari Che egli Si auspicava Egli pertanto In ragione Di questo Diede L'incarico Agli ufficiali E i propri ufficiali Di sorvegliare Affinché I soldati Negli accampamenti Fossero Assiduamente Costantemente Non solo Controllati Ma anche Addestrati Al combattimento Sottoponendoli Proprio per questo A dei duri E incessanti Esercizi Che consentivano Di conseguenza Di migliorare L'organizzazione E la mobilità Proprio Per questo Proprio Per addestrare Meglio Le sue truppe Abbiamo Delle informazioni Dalle fonti In modo particolare Da Cassio Dione Che ci dice Che era solito L'imperatore Traiano Ricorrere A dei falsi Allarmi Al fine Di poter Assaggiare Da vicino Da vicino Quella Che era La capacità Di reazione Dei propri soldati Soprattutto Per abituarli Ad affrontare Con prontezza E rapidità Quelle che potevano Essere Le incursioni Gli attacchi A sorpresa Dei daci Quelle incursioni E quegli assalti Che erano stati Gli elementi Che più Avevano messo In difficoltà Gli eserciti Romani Che avevano Combattuto Prima di Traiano I daci E quindi Proprio In ragione Di questo Egli Cercò Il più possibile Di preparare I soldati Imponendo loro Una più rigida Disciplina In un momento In cui I soldati Stavano Qualche modo Perdendo Quello che era Il senso Della durezza Della vita Militare Dopo il periodo Delle grandi conquiste Dell'età Repubblicana La vita militare Si era fatta Meno dura E questo Era un elemento Che indubbiamente In certi momenti Aveva indebolito L'esercito E lo aveva portato Anche ad ottenere Degli insuccessi Militari Certamente Questi Continui Addestramenti E questa Disciplina Più rigida Esponeva L'imperatore Anche a delle difficoltà Perché In questo modo Egli rischiava Di alienarsi Le simpatie E la popolarità Che aveva presso I soldati Ma la sua Abilità La sua capacità Di persuasione E soprattutto Quello che si è detto Prima Il suo essere Un vir militaris In grado Di cogliere Gli umori Dei propri soldati E del proprio Esercito Lo aiutarono Molto Nel evitare Quelli che potevano Essere Dei pericoli Che potevano accadere Di rivolte Oppure Di situazioni Pericolose In cui L'esercito Non rispondeva Più Ai comandi Del proprio Generale Ai comandi Dell'imperatore Traiano Quindi Traiano Senza intraprendere Delle drastiche Riforme Militari Riuscì Nell'intento Di incrementare La preparazione Dell'esercito Disciplinandolo Organizzandolo Trasformandolo Così In quel potente Strumento Della sua Politica Espansionistica Che lo avrebbe Portato Ad amplificare E ad Iliatare In maniera Significativa Quelli che erano I possedimenti I domini Dell'impero romano Ma qual era L'esercito Di cui Poteva Disporre Traiano Nel momento In cui Decise Di intraprendere La spedizione Militare In Dacia Nel momento In cui Divenne Imperatore Traiano Poteva contare Su di un esercito Composto Da 30 Legioni Che erano Distribuite Come Era avvenuto Da Ottaviano Augusto In cui Lungo tutti quanti I confini Dell'impero romano Quindi Traiano Disponeva Sostanzialmente Di circa 400.000 soldati Comprendendo In questo numero Le legioni Le legioni Le truppe Ausiliari Cosiddetti Ausilia Appunto I marinai Delle flotte I classiari I pretoriani Vale a dire La guardia personale Dell'imperatore Quindi Un esercito Di 400.000 uomini Un esercito Certamente Non così Imponente Come molto Spesso Si è indotti A pensare Soprattutto Se lo si Rapporta All'entità Dei territori Che un esercito Come questo Doveva controllare E difendere In pratica La pace La sicurezza Dell'impero Erano assicurate Da un numero Non elevato Di soldati Che dovevano Sorvegliare Più di 9.000 Kilometri Di frontiere Era questa Una funzione Decisamente Ardua Ed impegnativa Quella che L'esercito Romano Doveva Assolvere Soprattutto Perché Non vi erano Dei veri E propri Confini Da presidiare Vale a dire Dei confini Così come Noi li Intendiamo Ovvero Delle linee Ben nette E stabili Di demarcazione Territoriale Come avviene Per gli stati Moderni La frontiera Romana Quindi i confini Dell'impero Il confine Cosiddetto Limes Rappresentava In realtà Una zona In continuo Movimento A seconda Delle necessità Difensive Questo comportava Di conseguenza Non un rigido Estatico Dispositivo Difensivo Bensì Un sistema Di protezione E controllo Del territorio Che può Definirsi Dinamico La cui sicurezza Era garantita Dai soldati Ma soprattutto Dalla loro Mobilità Dalla loro Organizzazione Dal loro Addestramento E quindi Se si compara Appunto L'esercito Costituito Da 400 mila Soldati Rispetto Ai chilometri Di frontiere Che dovevano Controllare Questo ci fa capire Quanto fosse Un compito Molto Arduo Quello che Attendeva L'esercito Di Traiano Soprattutto Perché Con Traiano L'impero Come si è detto Ormai più volte Dilattò Decisamente I suoi confini Per queste ragioni Che si sono Adotte La consistenza Dell'esercito Era Certamente Ben più limitata Rispetto Alle reali Necessità Ma si spiegava Ed è da spiegarsi Con il notevole Dispendio Che comportava Notevole Dispendio Anche sul piano Economico Motivo Per il quale Appunto L'esercito Romano Non crebbe Mai Oltre Queste dimensioni Le imprese Daciche Di Traiano Quindi Sono anche L'epopea Dell'esercito Romano L'esercito Romano Come si sa Era costituito Di due tipi Di unità Militari Le legioni E le truppe Ausiliarie I cosiddetti Ausilia La legione Rappresentava La vera e propria Ossatura portante Dell'esercito Romano Costituita Da cittadini Romani Era composta All'incirca Da 6.000 soldati Che formavano La fanteria Pesante Le truppe Ausiliarie Erano all'incirca Della stessa Consistenza Delle legioni Erano Composte Da reparti Di fanterie Ma soprattutto Di cavalleria Che costituiva Per certi aspetti Il nerbo Il punto di forza Di queste milizie Vedremo Che nelle imprese Daci Che la cavalleria Romana Avrà un ruolo Importante Perché Dicebano Non poteva Frapporre Alla cavalleria Romana Una cavalleria Altrettanto Abile E capace I militari Che facevano Parte Degli Ausilia Quindi Erano Reclutati Tra le popolazioni Che molto spesso Erano state Conquistate Assoggettate Erano Persone Di nascita Libera Che non Possedevano La cittadinanza Romana E che Dopo Circa 25 anni Di servizio Militare Al momento Del congedo La cosiddetta Missio Onesta Avevano La possibilità Di acquisire La cittadinanza Romana Per sé Per la moglie Ed i figli E questo era Un incentivo Significativo Per quelle Persone Che attraverso La militanza Nell'esercito Romano Nel corpo Degli ausilia Delle truppe Ausiliari Appunto Aveva la possibilità Di integrarsi Pienamente Nella società Romana Divenendo Cittadini Romani A tutti Gli effetti Senza contare Poi Che La militanza Nell'esercito Consentiva Comunque Di migliorare Le proprie Condizioni Sociali Perché L'esercito Romano Era Per certi aspetti Un esercito Di mestiere I soldati Ricevevano Uno stipendium Una paga Che non era Certo Elevato Ma che Consentiva A loro In un momento Soprattutto Di crisi Economica Incipiente Di avere Di che vivere Per sé E talvolta Per le famiglie Le famiglie Non legali In quanto I soldati Non potevano Sposarsi Che molto Spesso Si creavano Attorno Agli accampamenti Militari Quindi L'esercito Era dunque Una macchina Complessa Dall'alto livello Di specializzazione E questo Si evince Molto chiaramente Nella colonna Traiana In cui L'esercito È protagonista Si potrebbe dire Quasi Alla pari Dell'imperatore Traiano E l'immagine Del soldato Nella colonna Traiana È un'immagine Centrale Ma è il soldato Non solo Che combatte Soldato Combattente Ma è il soldato Che costruisce Il cui Sudore Ha consentito Di scavare Fossati Per la difesa Costruire Accampamenti Ma anche Quelle opere Civili Come strade E ponti Che sarebbero state Le infrastrutture Necessarie Per la definitiva Inclusione Del territorio Conquistato Nell'impero romano E L'attività Dei soldati Che non solo Combattono Ma anche Che concorrono In maniera Significativa A costruire Quelle che diremmo Le infrastrutture Si comprende Molto bene Soprattutto In ragione Delle conquiste Daci Che Si può vedere Appunto Nei rilievi Della colonna Traiana Soldati Intenti Ad abbattere Alberi A trasportare Tronchi Per aprire Vie Praticabili Ma tutto questo Dimostra La grande Solerzia Con cui Traiano Si dedicò Sin dall'anno 99 D.C. Nel cercare Di fare Quei lavori Di ammodernamento Delle infrastrutture Militari In prossimità Della Dacia Della dacia E di strade De accademiche Fortificazioni E di strade importanti Le strade Nascevano In primo luogo Come Elementi importanti sul piano militare e questo spiega come fossero proprio i soldati a costruire le strade su cui poi passavano le persone, passavano i commerci, ma in primo luogo erano elementi importanti sul piano militare. Per quanto riguarda la conquista della Dacia tutto questo fu fatto con grande attenzione, nel senso che l'imperatore Traiano si preoccupò molto di evitare quei rischi e il modo migliore era quello di apprestare delle fortificazioni che consentissero in ogni momento di proteggere l'esercito romano. Ma poi in preparazione delle guerre daciche egli fu molto attento sul piano dell'esercito, nel senso che pensò che l'unico modo che egli aveva di sconfiggere il re dei daci era da una parte evitare i rischi, dall'altra cercare di attuare una sorta di morsa dell'atenaglia attorno al regno dacico e poi successivamente attorno alla sua capitale, vale a dire Sarmizegetusa Regia. Per questo spostò molte truppe, le spostò dalla Pannonia, dalla Mesia e nel complesso questi preparativi coinvolsero molti soldati, complessivamente 14 regioni, quindi un esercito particolarmente significativo. Quindi la preoccupazione per preparare adeguatamente la spedizione contro i daci ci fu una preoccupazione che impegnò molte energie e anche molto tempo, tant'è che non soltanto l'imperatore Traiano cercò di pianificare al meglio le infrastrutture necessarie per preparare la conquista, ma anche intervenne decisamente sul piano dell'assetto logistico. La gestione della logistica in una spedizione militare era fondamentale e per questo motivo egli affidò questo incarico ad un suo stretto e fidato collaboratore. Del resto la logistica militare romana è sempre stata particolarmente e celebrata e fu poi presa a modello anche da eserciti che vennero dopo. Lo stesso Napoleone tenne in grande considerazione la capacità logistica dei romani. E l'attenzione logistica che si vede molto bene nella colonna Traiana, in tutte le sue fasi, si può così riassumere in una fase preparatoria che consistette nell'erezione di fortificazioni romane lungo il Danubio nel consolidamento di quelle che erano le basi logistiche già esistenti, nella preparazione anche dei depositi di vivere, dei granai, dei magazzini, perché una parte importante era quella nell'assetto logistico relativo al vettovagliamento delle truppe, che è un aspetto non secondario perché un esercito ben alimentato era a garanzia di affrontare una battaglia nelle migliori condizioni possibili, ma si trattava di vettovagliare, di alimentare un esercito di migliaia di soldati e questo è un aspetto non secondario. Non a caso i soldati avevano con sé un'autonomia relativamente al cibo per alcuni giorni, nella loro sarcina che era una sorta di zaino il cui peso era particolarmente significativo, all'incirca 30-35 kg avevano questa autonomia per i momenti in cui le marce erano particolarmente forzate, ma poi l'esercito quando si muoveva non era costituito soltanto dai soldati, ma anche dalle salmerie, quindi una lunga sequela di carri che portavano oltre agli equipaggiamenti, oltre alle macchine belliche, appunto tutto è necessario per il vettovagliamento, per mettere nelle condizioni l'esercito di essere ben alimentato. Un'altra fase che si evince molto bene relativamente all'assetto logistico nella colonna traiana è il trasporto dei viveri e delle truppe attraverso le barche, questo fu un elemento importante che consentì a Traiano in alcuni momenti di porsi al riparo. Le barche, quindi la navigazione, il controllo della navigazione sul Danubio fu un elemento anch'esso che concorse in maniera pressoché decisiva al successo che egli alla fine riuscì a conseguire. E poi, altro elemento che si vede molto bene nella colonna traiana, il compito che ogni soldato assolveva di boscaiolo, garpentiere, muratore a seconda delle esigenze, soprattutto là dove si entrava in contatto con un territorio come quello d'Acico che non si conosceva adeguatamente e che pertanto aveva necessità di un'attività più intensa da questo punto di vista. Altrettanto importante fu la distribuzione, la collocazione dell'esercito e, non ultimo, la mobilitazione di nuove unità militari che furono spostate in prossimità dei confini della Dacia nelle province vicine perché l'intendimento dal punto di vista della strategia dell'imperatore Traiano era quello di stringere il regno d'Acico e poi successivamente la capitale, vale a dire Sarmesegetusa regia, in una sorta di morsa Atenaglia. Per fare questo aveva bisogno di molte legioni. Del resto, quando Cesare aveva ipotizzato la conquista della Dacia, quando vi era sul regno d'Acico come re Burebista aveva ipotizzato un impiego di 16 legioni e non fu dissimile l'atteggiamento dell'imperatore Traiano perché egli mobilitò in Dacia ben 14 legioni, un numero significativo che dimostra con quale attenzione egli aveva preparato la guerra e soprattutto che non correva l'errore che era stato fatto dai predecessori, vale a dire di sottovalutare il nemico. E così l'imperatore Traiano poteva contare sulle quattro legioni della Pannonia, sulle tre legioni della Mesia Superiore, sulle due legioni della Mesia Inferiore, su altre tre legioni che provennero dalle province germani, che allo scopo, rendendosi conto che la guerra si poteva preannunciare dura e logorante, anche per supplire poi alle perdite che erano state subite da Domiziano, vennero create altre due ulteriori legioni, la trentesima Ulpia precisamente e la seconda Traiana. Quindi un esercito particolarmente imponente per una conquista come quella della Dacia che si preannunciava significativa. Oltre a questa mobilitazione di truppe, di truppe, di milizie significativa, ben quattordici legioni e quindi quasi la metà dell'intero potenziale bellico romano impegnato in una guerra come quella d'Aci, che è un dato di per sé che evidenzia molto bene come egli temesse i Daci e Decebalo, oltre a ciò intervenne anche nel dotare le milizie dell'equipaggiamento più funzionale ad affrontare i Daci. E in tal senso si era reso conto di come l'armamento dei Daci fosse particolarmente temibile, in modo particolare, le temibili falces, vale a dire delle lunghe spade, delle falci per certi aspetti, le falci daciche, che venivano impugnate a due mani e che avevano un effetto dirompente sui soldati romani. Proprio per cercare di sopperire a queste temibili falces, apportò l'imperatore Traiano dei miglioramenti all'elmo dei soldati romani, rinforzando la calotta dell'elmo con delle staffe di ferro incrociate per renderle le calotte, quindi l'elmo più resistente ai colpi terribili delle falces, e nel contempo anche munì i soldati romani di schinieri per proteggere le gambe e di maniche per proteggere gli arti. Questo si vede molto bene nelle raffigurazioni che troviamo dei soldati romani sulle metope del trofeum Traiano, e quindi questo dimostra ancora di più l'estrema attenzione che Traiano ebbe nella preparazione della guerra dacica. Dopo tutto ciò, e dopo essersi dedicato per due anni, quasi due anni alla preparazione di questa guerra contro i daci, e dopo essere ritornato nel frattempo a Roma per essere finalmente salutato come imperatore, Traiano decise di iniziare la prima spedizione dacica. Per fare questo egli si impegnò anche in un'abile lungimirante politica diplomatica, perché se il timore dell'imperatore Traiano, ma il timore che aveva avuto anche il suo predecessore, l'imperatore Domiziano, era quello che Dicebalo divenisse il capo di una coalizione in chiave antirumana, un altro aspetto importante che l'imperatore Traiano curò fu quello di cercare il più possibile di isolare Dicebalo. Per questo egli intrattenne rapporti fattivi con le popolazioni barbariche che si affacciavano sul regno dacico, in modo particolare riuscì a convincere, a divenire alleati sarmati iazzigi, che del resto avevano delle vecchie ruggini degli attriti con i daci e i sarmati iazzigi, divennero così alleati dei romani. I quadi e i marcomanni dell'Europa centrale, quelle popolazioni barbariche che sconfissero Domiziano, se non divennero alleate comunque furono convinti a non partecipare alla guerra e quindi rimasero neutrali, mentre i romani non riuscirono in alcun modo a intrattenere rapporti e relazioni particolari con le tribù dei sarmati, in modo particolare i sarmati rossolani. Quindi questa politica diplomatica dell'imperatore Traiano tendeva ad isolare Dicebalo per poterlo meglio combattere. Nel contempo il re dei daci attuò la stessa strategia, cioè si rendeva conto che per frapporsi in maniera energica e efficace contro un imperatore così abile come Traiano, di cui si era chiaramente reso conto della grande abilità sul piano della strategia bellica, pensò bene di cercare di chiudere accordi con le popolazioni vicine e quindi attuare anche egli una politica diplomatica che in qualche modo consolidasse la sua posizione e soprattutto gli consentisse di avere delle importanti alleanze. Così riuscì a chiudere un accordo con i sarmati rossolani, i quali disponevano di una forte cavalleria corazzata che poteva mettere in serio pericolo, quantomeno in difficoltà, la cavalleria romana e poi sostennero Decebalo anche altre tribù come i Bastarni, gli Alani che si erano insediati ad es della Dacia. Ancora più importante per il re dei daci Decebalo fu poi l'alleanza con le popolazioni germaniche che si trovavano nella parte nord-occidentale, in modo particolare la popolazione germanica dei Buri. Si pensa poi che il re dei daci avesse iniziato ad allacciare contatti con i parti. Decebalo era consapevole che i parti avevano da sempre rappresentato una spina nel fianco orientale dell'impero romano e quindi contava su un loro sostegno per cercare di avere una maggiore forza proprio in ragione di questa alleanza. Ma i parti in quel frangente vivevano una situazione di particolare fragilità al loro interno e quindi non diedero al re dei daci Decebalo l'apporto tanto auspicato. E così dopo tutta questa lunga preparazione, il 25 marzo del 101 d.C., l'imperatore Traiano partì da Roma per dirigersi verso la Mesia Superiore, da dove sarebbe iniziata la prima guerra d'Acica. Traiano aveva scelto anche i migliori comandanti su cui poteva contare, comandanti di grande valore militare, di provata esperienza, che erano stati al suo fianco per anni. In tal senso si pensi a Publio Elio Adriano, quello che sarebbe divenuto l'imperatore successore di Traiano, a Lucio Licinio Sura, amico e consigliere di Traiano, che è sempre raffigurato nella colonna Traiana alla sua destra. Se sappiamo delle dimensioni, come si è detto, dell'esercito romano che Traiano utilizzò per conquistare la Dacia, sostanzialmente 14 legioni e quindi all'incirca 70 mila soldati legionari altrettanti ausiliari, complessivamente 150 mila soldati, non sappiamo nulla delle reali dimensioni dell'esercito dacico. È possibile che comunque dalla parte dei daci partecipassero principalmente i guerrieri aristocratici, quei guerrieri aristocratici che avevano dato non poche preoccupazioni nel momento dell'instabilità politica della dacia e che il re Decebalo, in ragione del suo carisma, era riuscito a coagulare attorno a sé. I guerrieri aristocratici formavano la cavalleria dacica e poi molti gruppi di contadini liberi che costituivano la fanteria dacica. Quindi, secondo calcoli che non possono essere che orientativi, tenendo conto che un esercito che attaccava come quello romano doveva essere due o tre volte superiore di numero, si può ipotizzare che i combattenti di cui poteva disporre Decebalo si aggirassero intorno ai 50 mila uomini, una forza senza dubbio consistente, il cui valore però cresceva in ragione della perfetta conoscenza del territorio, delle fortificazioni e del sostegno che l'esercito dacico avrebbe avuto presso la popolazione. E in effetti così avvenne perché appunto uno degli alleati maggiori del re dei daci Decebalo fu la perfetta conoscenza del territorio, ma stavolta l'imperatore Traiano, contrariamente a quanto era accaduto con Domiziano, non fece errori. Anzi, egli avanzò dopo aver attraversato il Danubio verso il regno dacico, suddividendo l'esercito in tre colonne, così mettono in evidenza le teorie più recenti relativamente alla conquista della dacia. Una colonna penetrò in dacia adierna, avanzando poi verso Tibiscum, lungo un sentiero alquanto stretto tra le montagne, e probabilmente le fortezze daciche, situate sulla riva danubiana, opposero una resistenza, ma furono rapidamente distrutte. La principale colonna dell'esercito romano al comando dell'imperatore seguì il percorso che aveva fatto Tettio Giuliano nell'87 d.C., colui che era riuscito a vincere appunto i daci, vale a dire da Viminacium in direzione nord-est, verso la regione del Banato, attraverso appunto i rilievi pedemontani, per entrare poi decisamente verso il cuore del regno dacico. L'avanzata dell'esercito romano in dacia avvenne però senza fretta e con la massima cautela. Mentre si penetrava nel territorio nemico, venivano nel contempo create tutte le infrastrutture necessarie per la sicurezza delle operazioni militari e per l'approvvigionamento, vale a dire vie, ponti, campi fortificati in terra in legno, posti di guardia e depositi. Questo per creare attorno a sé tutto un reticolo di infrastrutture che avrebbero potuto supportare significativamente l'esercito romano e evidentemente anche proteggerlo meglio in caso di attacchi a sorpresa. La maggiore preoccupazione dell'imperatore, nonché il tratto dominante si può dire della sua strategia in dacia, fu quella appunto di proteggere le truppe romane da eventuali attacchi e di evitare possibili assalti a sorpresa. Per questo, contestualmente all'avanzata dell'esercito, gli ingegneri romani misuravano e mappavano il territorio dacico perché questo avrebbe consentito indubbiamente di potersi porre al riparo da situazioni che potevano divenire in ogni momento pericolose. Decebalo, nel contempo, anziché fronteggiare l'esercito romano, cercò di eludere il più possibile ogni combattimento aperto, anche perché si rendeva conto che una battaglia in campo aperto sarebbe stata decisamente molto impegnativa e se non negativa per le sorti dell'esercito dacico e quindi cercò di attuare una guerra, se vogliamo, di logoramento, di nervi, per cercare in questo modo di indurre Traiano nell'errore. Quella stessa strategia, sostanzialmente, che era stata adottata dai daci contro Cornelio Fusco e che poi avrebbe portato Cornelio Fusco a quell'errore tragico della sconfitta che subì. Ma questa guerra di logoramento, questa guerra di nervi che aveva impostato Decebalo, però non trovava stavolta terreno fertile, in quanto l'imperatore Traiano non cadde nell'errore così come fece Cornelio Fusco nel corso della rovinosa sconfitta dell'esercito romano, ed anzi Traiano non fece che attendere le mosse del nemico. E così, in questa attesa, si può riflettere su questa che è la prima parte della guerra dacica, in cui si frappongono questi due personaggi, Traiano e Decebalo, personaggi dotati di grande carisma, di grande preparazione, di grande intelligenza sul piano militare, sul piano della strategia. Quella intelligenza che avremo modo di cogliere nel proseguo degli eventi salienti della prima spedizione dacica. Quindi le prime fasi della prima guerra dacica di Traiano, iniziata nel 101 d.C., furono fasi contraddistinte proprio da quella che era la strategia che il re dei daci di Decebalo stava portando avanti, vale a dire una guerra di logoramento, una guerra di nervi, aspettando le mosse del nemico, le mosse dell'imperatore Traiano, sperava in questo modo di far cadere in errore l'imperatore o quantomeno di indurlo ad esporsi, quello che era poi l'auspicio dei daci. L'imperatore Traiano però ovviamente aveva fatto tesoro di tutto quanto era avvenuto in passato, di quelle che erano state le sconfitte, in alcuni casi disastrose, che erano avvenute sul territorio dacico. E proprio per questo andò con estrema cautela, anzi cercò il più possibile di evitare quei rischi e quei pericoli e proprio in ragione di ciò aveva diviso l'esercito in più colonne. La colonna che egli comandava era la parte più consistente dell'esercito romano, un esercito che era abituato anche ad addentrarsi in territori nemici, in territori non del tutto conosciuti. In ragione del questo egli si avvasse molto dell'apporto degli exploratores, cioè di coloro che anticipavano l'esercito, andavano per certi aspetti in avanscoperta con lo scopo proprio di vedere quelli che potevano essere gli eventuali rischi, gli eventuali pericoli di un'avanzata che comunque si contraddistingueva proprio per essere lenta allo scopo di evitare di cadere in imboscate che sarebbero state poi traumatiche e decisamente negative per l'esercito romano. Quindi nel territorio dacico l'esercito avanzò e incontro all'imperatore Traiano andarono una delegazione di barbari, di alcuni barbari che andarono a parlare con Traiano per cercare in qualche modo di indurlo dal soprassedere dai suoi intendimenti di portare la guerra nel cuore del regno dacico. Si presentò dinnanzi all'imperatore questa delegazione che gli portò così testimonia anche non solo Cassio Dione che è il nostro testimone potremmo dire indiretto delle guerre daciche ma anche un rilievo della colonna Traiana che portarono all'imperatore un grande fungo sul quale in latino era scritto che i buri, vale a dire queste popolazioni germaniche che avevano chiesto questo incontro con l'imperatore Traiano e gli altri alleati dei daci lo invitavano a rinunciare alla guerra. Si trattava di una richiesta per certi aspetti un po' anomali, sembrerebbe quasi inverosimile se questo non fosse documentato sia appunto dalla storia romana, dall'opera di Cassio Dione sia da un rilievo della colonna Traiana. In ogni caso l'imperatore non tenne in alcun conto la richiesta dei barbari alleati di Decebalo perché in ragione di questo Decebalo aveva creato attorno a sé un consenso da parte delle popolazioni barbariche che avevano tutto l'interesse, almeno quelli che erano più vicini al re dei daci, ad aiutarlo, a supportarlo contro l'impero romano che comunque era un impero per loro piuttosto minaccioso. Quindi l'imperatore Traiano rinunciò, rifiutò questo invito da parte dei buri e delle altre popolazioni barbariche alleate e continuò ad avanzare. Continuò ad avanzare sino a quello che era il punto cruciale dell'invasione da parte dell'esercito romano della Dacia e il punto cruciale non poteva che essere quello di Tapae, presso quelle che modernamente sono chiamate le porte di ferro danubiane. Qui erano avvenuti anche gli scontri precedenti, le battaglie più importanti tra i romani e i daci. Era un passaggio obbligato perché era un punto nevralgico che controllava l'ingresso alla Transilvania, un punto che proprio per questo suo carattere di punto importante era ben presidiato ovviamente dai daci e quindi l'unica possibilità che i daci avevano di frenare l'avanzata dell'esercito romano era di affrontarli alla prima occasione utile in cui si sentivano comunque abbastanza coperti e questo punto era quello di Tapae che proteggeva l'accesso a Sarmizegetusa, Regia, la capitale del Regno dacico, questa capitale che come si ho detto aveva la struttura di un oppidum, vale a dire di una città fortificata e che era posta a più di mille metri di altezza. E lo scontro avvenne a Tapae e fu uno scontro molto cruento in cui vi furono molte perdite umane sia da una parte, cioè sia dalla parte romana sia dalla parte dacica. A questo proposito, proprio per mettere in evidenza la crudezza di questo scontro, lo storico greco Cassio Dione racconta che Traiano addirittura utilizzò le proprie vesti per farne delle bende per medicare numerosi feriti che erano riversi accanto ai morti sul campo di battaglia. Alla fine dopo questo scontro cruento in cui i Romani e i Daci si affrontarono gli uni contro gli altri, si affrontarono apertamente utilizzando quelle che erano le loro strategie e qui indubbiamente possiamo immaginarci quello che era l'effetto anche di questa durezza di scontri in cui i Romani cercavano di anticipare i colpi delle terribili falces, quelle falci che i Daci impugnavano a due mani e che avevano un effetto dirompente sui Romani. Ma alla fine, alla fine, i Romani riuscirono ad avere la meglio e a conseguire un importante successo. Un successo che ovviamente apriva l'accesso verso la capitale dacica, verso Sarmizegetusa, regia. Ormai l'esercito romano era consapevole che stava sempre di più progredendo verso la capitale. L'unica possibilità che avevano i Daci per cercare, se non di fermare, di rallentare l'avanzata dell'esercito romano, nell'attesa che il re dei Daci di Cebalo potesse in qualche modo frapporre una resistenza maggiore, magari grazie anche al concorso di quelle popolazioni barbariche con cui si era alleato, l'unica possibilità della resistenza dacica, appunto, era quella di attaccare l'esercito romano mentre penetrava sempre di più verso il cuore del regno dacico. Attaccarlo con assalti a sorpresa, con incursioni che, se non avevano un effetto significativo per quanto riguarda il conflitto, certo è che in un certo qual modo servivano a mettere sempre più in difficoltà l'esercito romano e magari ridurlo sul piano numerico. Gli scontri sulle montagne dovettero essere molto cruenti perché i Daci si opposero con tutte le loro forze, causando anche in queste incursioni, in questi assalti, rilevanti perdite agli invasori. La fortezza di Costeshti, sulla strada che portava direttamente alla capitale del regno dacico, vale a dire a Sarmesegetusa, fu conquistata e i Romani, verso la fine dell'autunno dell'anno 101 d.C., dopo sostanzialmente pochi mesi dall'inizio della guerra dacica, giunsero nelle vicinanze della capitale del regno dacico, appunto Sarmesegetusa regia. L'esito della guerra stava ormai arridendo a Traiano e tutto stava avvenendo così come l'imperatore aveva pianificato, con quella estrema attenzione di cui gli era capace. Ma Traiano, per attaccare di Cebalo, aveva concentrato gran parte delle forze, delle forze romane, tutto il potenziale romano si potrebbe dire nella parte orientale dell'impero attorno alla Dacia e per concentrare, per mobilitare tutte queste truppe, tutte queste milizie, ricordo appunto le 14 legioni che furono impiegate nel corso della prima spedizione dacica, trascurò ovviamente altri settori delle frontiere, come è il caso del basso corso del Danubio, che proprio per questo erano rimasti poco difesi, tanto che addirittura in quella parte, vale a dire appunto nel basso corso del Danubio non vi era nessuna legione che presidiasse quel territorio che era anche piuttosto esteso e quindi si trattava di un'area piuttosto vulnerabile. Con tutta probabilità l'imperatore ritenne che la difesa del basso Danubio fosse comunque sicura o comunque non considerò particolarmente pericolosa, quella che si verificò invece molto impegnativa per i romani, vale a dire l'alleanza che i daci avevano intrattenuto con la popolazione dei sarmati rossolani. Certo è che qui Decebalo ha da valorare ancora di più quello che Cassio Dione mette in evidenza relativamente alla sua capacità strategica e di comandante militare, si rese conto della fragilità del sistema difensivo romano proprio in quell'area e cercò di sfruttare tutto questo a proprio vantaggio, rendendosi conto che quella leggerezza per certi aspetti strategica dell'imperatore Traiano nel basso corso del Danubio avrebbe potuto se non risolvere a proprio vantaggio la guerra d'Acica perché si rendeva conto che questo era assolutamente impossibile, ma quantomeno a mettere in serie difficoltà i romani e a cercare nel contempo una soluzione che fosse più efficace per quanto riguarda appunto il conflitto d'aco romano. Quindi il re dei Daci grazie alla sua anche abilità diplomatica convince i suoi alleati, in modo particolare i sarmati rossolani delle pianure orientali, la popolazione germanica dei buri dei carpazzi settentrionali e anche alcune tribù del ceppo linguistico traccio che erano insediate ad oriente dei confini della Dacia, li convince tutti quanti a partecipare ad una grande offensiva verso la Mesia inferiore, vale a dire verso quel territorio che era rimasto così sguarnito di milizie romane. Pertanto masse considerevoli di barbari attraversarono così il Danubio e si riversarono nella Mesia inferiore colpendola duramente. Iniziarono tutta una serie di saccheggi, il territorio fu invaso e fu messo a ferro e fuoco e si trattò di un assalto tanto imponente che subito l'imperatore Traiano si rese conto della difficoltà della situazione e di come questa controffessiva dacica avrebbe potuto mettere a repentaglio il successo che aveva così conseguito nella battaglia di Tapae. Non sappiamo con esattezza quando avvenne questo imponente assalto. È stato supposto che gli invasori fossero penetrati a sud del Danubio nel tardo autunno oppure in inverno, in inverno in modo particolare approfittando del fatto che il fiume, che il Danubio era gelato, ma l'intervento sul teatro bellico della flotta romana che ebbe nella risoluzione di questa difficile situazione per l'imperatore Traiano un ruolo molto importante, quindi l'intervento della flotta romana fa optare per la prima possibilità, vale a dire per un attacco in autunno, altrimenti i rigori dell'inverno non avrebbero consentito l'utilizzo da parte di Traiano della flotta romana. I daci debbono avere anche pensato che i difficili spostamenti lungo il Danubio comunque in autunno avrebbero rallentato fortemente le manovre di Traiano per cercare di porre rimedio a questa importante controffensiva, ma l'intenzione comunque dei daci unitamente alle popolazioni barbariche di cui erano alleati era quella di fare una controffensiva a sorpresa che avrebbe consentito innanzitutto di allentare quella morsa tenaglia che l'imperatore Traiano stava attuando proprio nei riguardi del cuore del regno dacico, vale a dire di Sarmizegetusa Regia. La sorpresa per l'offensiva nella mesia inferiore fu grande, fu grande anche per Traiano che forse qui ebbe modo ridendersi conto anche egli della grande capacità strategica del re dei daci di Cebalo e si rese conto anche per certi aspetti di aver sottovalutato questa parte dell'assetto strategico romano nella mesia inferiore. e quindi la situazione rischiava di diventare pesantemente critica per i romani. La provincia era devastata, era messa a ferrofuoco. Cassio Dione, che come al solito è il nostro potremmo dire testimone oculare anche se indiretto di quegli avvenimenti, indiretto e anche tardo evidentemente di quegli avvenimenti ricorda che persino le proprietà personali del governatore della mesia inferiore, vale a dire Magno Laberio Massimo, furono saccheggiate e che addirittura un suo schiavo di nome Callidromo fu fatto prigioniero dai rossolani e fu consegnato poi a Decebalo. E' strana la vicenda di questo schiavo di Callidromo perché dopo la guerra nell'anno 104 d.C. Decebalo lo offrì quasi come segno di amicizia e di riconoscenza per certi aspetti al re dei parti durante le trattative per un'alleanza antiromana. Quindi questo schiavo Callidromo fu un dono che il re dei Daci Decebalo offrì ai parti sperando che i parti potessero dargli manforte in quello che era il conflitto d'aco romano. La situazione però interna dei parti in cui il regno era in un momento di particolare difficoltà non consentì a Decebalo di avversi di un supporto, quello dei parti, che sarebbe stato molto importante per gli esiti della guerra. I parti si sa che erano notoriamente nemici dei romani e furono tra i popoli che più li misero in difficoltà a cominciare dalla prima grave sconfitta che i romani subirono dai parti, vale a dire nel 53 a.C., in cui Crasso fu ucciso e addirittura i parti riuscirono a strappare le insegne romane che saranno poi recuperate successivamente da Ottaviano Augusto. Nonostante le devastazioni, comunque l'Amesia inferiore resistette nel complesso abbastanza bene, vale a dire tutto sommato gli effetti negativi di questa invasione da parte delle popolazioni barbariche alleate di Decebalo furono contenuti e del resto questo dimostra comunque la capacità dell'impero romano nei territori che aveva conquistato, la capacità di presidiarli comunque anche se non erano così provvisti di milizie come era il caso appunto della provincia della Mesia inferiore. Traiano non appena comunque venne a conoscenza della gravità della situazione nella Mesia inferiore affidò subito ai suoi generali l'incarico di continuare le operazioni militari in Dacia e immediatamente alla testa di un imponente esercito partì prontamente per quello che sarebbe divenuto il nuovo teatro bellico. Il re dei Daci di Decebalo era quindi riuscito nel suo intendimento cioè di spostare il teatro bellico in un altro contesto, in un contesto certamente lontano a Sarmizegetusa Regia, la capitale. In questa occasione Traiano ebbe modo di rendersi conto pienamente di come quel lavoro di organizzazione di pianificazione della prima spedizione dacica cominciò a dare i suoi frutti nel senso che tutto quel tempo, quasi due anni che gli dedicò alla preparazione della campagna militare contro i Daci, gli consentì di costruire strade, di scavare ad esempio una via nelle montagne vicine alle Cateratte del Danubio che consentì proprio questa via un rapido accesso delle milizie romane attraverso la Mesia superiore per entrare nella provincia minacciata. E questo fu un importante elemento che avrebbe consentito all'imperatore Traiano di volgere la situazione alla fine a proprio vantaggio perché gli stessi barbari che avevano dato il loro supporto a Decebalo in questa imponente controffensiva nella Mesia inferiore subito rimasero sorpresi non solo della reazione così rapida e immediata dell'imperatore Traiano, il che non poteva essere diversamente vista l'esperienza militare che egli aveva, ma anche di come questa reazione fu così repentina, immediata, tant'è che in pochissimo tempo, grazie anche al supporto della flotta militare romana sul Danubio, Traiano riuscì ad arrivare sul luogo della controffensiva e arrivato sul luogo subito non perse tempo e cominciò ad affrontare quelle che erano le popolazioni che si erano ribellate e che davano manforte ai daci di Decebalo. E li affrontò nel corso di due battaglie. In una prima battaglia che forse fu una battaglia notturna, l'imperatore inflisse una dura sconfitta agli alleati barbari. Gli alleati che probabilmente erano anche non nel pieno delle loro forze, non nel pieno appunto del loro esercito in quanto una parte di loro era ancora intenta a saccheggiare la provincia della Mesia inferiore, non aspettandosi appunto una reazione così pronta dell'imperatore Traiano. Il combattimento sembra sia avvenuto nella regione pedemontana dei Balcani, nella parte sudorientale della foce del fiume Oescus. Questa importante vittoria, che poi si rivelerà decisiva, fu poi celebrata con la fondazione di una città, di una città greca, chiamata Nicopolis ad Istrum, una città che corrisponde all'odierna Nikyup nella Bulgaria settentrionale, e come dice il nome Nicopolis appunto, una città dedotta, fondata proprio con l'intendimento di celebrare questa vittoria, che avrebbe avuto un peso specifico importante per la conclusione della prima guerra d'Acica. Ma la coalizione barbarica, che nel frattempo si era raccolta, radunata in numero maggiore, disponeva ancora di grandi forze e quindi era necessario un ulteriore scontro. Lo scontro decisivo si ebbe con tutta probabilità sul piccolo altopiano di Andanclissi, vale a dire nell'attuale Dobrugia sud occidentale, una regione che si affaccia sul Mar Nero, sul Mar Nero occidentale e che attualmente fa parte della Romania. I legionari e gli ausiliari romani combatterono con successo la fanteria dei Daci, armati con le terribili falces, e la cavalleria sarmatica corazzata, nonché i guerrieri buri. La battaglia fu anche in questo caso molto difficile, ma Traiano, grazie alla sua abilità e alla sua strategia, alla fine riuscì a vincere, anche grazie al sacrificio di un ufficiale, di un Praefectus Castrorum che si occupava della riserva strategica e che entrava in campo solamente in caso di grande pericolo per l'esercito. Grazie anche al sacrificio di questo Praefectus Castrorum, alla fine la vittoria dei Romani fu certa, ma sul campo di battaglia caddero quasi 4.000 soldati romani, a dimostrazione di come si trattò di uno scontro molto importante, molto cruento e che portò ai Romani molte perdite umane. Ma con tutta probabilità questo scontro, questo scontro che poi verrà ricordato dallo stesso Traiano con l'erezione del Trofeum Traiani proprio ad Anclissi, là dove si verificò questo scontro, che concluse per certi aspetti, con esito favorevole per i Romani, la prima guerra d'Acica. Nel senso che fu un colpo terribile per Decebalo, egli aveva comunque pensato di mettere in difficoltà in modo maggiore di quanto nella realtà fosse avvenuto l'esercito romano e alla fine, e alla fine invece, la battaglia di Adam Clissi semmai creò ancora più difficoltà all'esercito dacico. I Romani, subito dopo la vittoria di Adam Clissi, continuarono le ostilità con i daci. Nel frattempo Traiano ritornò nel territorio d'Acico per meglio coordinare, per meglio seguire di persona le operazioni della prima guerra d'Acica e nel 102 d.C. i Romani erano quasi in prossimità della capitale, nell'immediata vicinanza della capitale d'Acica di Sarmizegetusa, Riga. Ormai la situazione per i daci era decisamente negativa, addirittura nel corso degli attacchi che vennero fatti dai Romani una sorella di Decebalo venne catturata dall'esercito romano. Tuttavia, nonostante tutto questo, i daci continuavano ad opporsi in maniera strenua. Nel contempo, l'esercito imperiale riusciva ad espugnare ad una ad una tutte le fortezze che proteggevano la capitale del Regno d'Acico, trovando in una di esse le macchine di guerra, le armi romane e le insegne legionarie che erano state sottratte a Cornelio Fusco nell'86 d.C. e quindi si trattava per l'esercito romano di una rivincita importante poter recuperare quelle insegne che avevano sancitto la definitiva fine della Legione Quinta Laude. Alcune unità militari romane, inclusa la cavalleria Maura guidata dall'usio quieto, attraversarono le montagne vicine a Sarmizegetusa minacciandola da sud. In una situazione di questo tipo, ormai l'accerchiamento di Sarmizegetusa regia si poteva dire compiuto. «Privato di ogni possibilità di continuare la lotta, il re dei daci diceva, lo rendendosi ormai pienamente conto di quella che era la sua disperata situazione e la disperata situazione del suo popolo nell'estate del 102 d.C. con tutta probabilità». Questo fu il momento nell'estate del 102 d.C. fu costretto a chiedere la pace ai romani. E si trattò di una pace molto onerosa per le sorti del popolo dacico. Le condizioni di pace furono per certi aspetti terribili per i daci di Decebalo. La Dacia ritornava ad essere un regno cliente dei romani, così come era stato in passato, ma stavolta aveva uno statuto, uno status, che era decisamente peggiore rispetto al passato, perché evidentemente non vi erano altre condizioni. L'imperatore Traiano chiese lo smantellamento di tutte quante le fortezze daciche, la liberazione di tutti i priginieri romani che erano ancora tenuti in ostaggio e che non erano stati a suo tempo consegnati con le trattative di pace che erano state fatte tra l'imperatore Domiziano e Decebalo. I daci inoltre avrebbero dovuto restituire l'armamento e l'equipaggiamento militare migliore che avevano, che era stato realizzato proprio in preparazione della guerra contro i romani. E quanto a tutti gli altri aiuti, i sussidi che i daci avevano ottenuto in passato dai romani, tutto quanto venne sostanzialmente annullato. Anzi, anzi, la Dacia, possiamo dire che non soltanto perse molto con questa guerra, ma addirittura fu costretta ad abbandonare, per certi aspetti, ogni sua politica estera autonoma, quella politica estera autonoma che aveva consentito a Decebalo di intrattenere rapporti, accordi, alleanze con le altre popolazioni barbariche vicine. Con tutta probabilità, la condizione più dura che il re dei daci Decebalo dovette accettare fu la perdita di alcune regioni. Tutto lo spazio già occupato dalle truppe romane rimaneva sotto occupazione militare. Si trattava del Banato, almeno nella zona montuosa e pedemontana, di tutta la Vallacchia, insieme all'Oltenia, o piccola Vallacchia, della Moldavia meridionale, ed infine di quelle che erano le aree sud-occidentali e sud-orientali della Transilvania. Quindi Decebalo non aveva soltanto avuto una situazione di ridimensionamento per quanto riguarda la Dacia sul piano dello status, ma subiva la Dacia un'occupazione militare e per di più veniva significativamente ridimensionata per quanto riguarda l'entità territoriale. Addirittura, proprio in ragione dell'occupazione militare romana, guarnigioni romane rimasero nei punti strategici, specialmente presso le porte di ferro Transilvani che è la curvatura dei Carpazzi, e queste guarnigioni romane, nell'intendimento dell'imperatore Traiano, dovevano avere lo scopo di essere una sorta di deterrente per il re dei daci di Decebalo, di non rispettare le clausole della trattativa di pace che era stata instaurata con i romani, e nel contempo anche deterrente per far sì che il re dei daci non avesse più alcun desiderio di iniziare una guerra contro i romani. Nel contempo anche Sarmizegetusa Regia era controllata e pare che una guarnigione romana fosse proprio distanza in prossimità dell'antica capitale del regno dei daci. A Tapae, inoltre, per celebrare il successo militare importante dei romani che aveva aperto le strade alla conclusione positiva della prima spedizione dacica, venne anche costruito un altare dove ogni anno si onorava la memoria dei romani caduti sul campo di battaglia. In sostanza la dacia fu notevolmente ridimensionata e tutte queste condizioni che l'imperatore Traiano aveva imposto al re dei daci di Decebalo mostrano chiaramente la sfiducia che egli ancora nutriva nei riguardi del re dei daci. L'imperatore, pertanto, volle proprio mantenere uno stretto controllo sul regno dacico che era stato vinto ma che, ad avviso di Traiano, poteva ancora ribellarsi di nuovo in ogni momento. I Azzigi, la popolazione barbarica che aveva avuto un ruolo importante come alleati di Roma, mantenevano del resto una certa pressione sulla dacia e questo era per Traiano un ulteriore elemento a suo giudizio che mirava a scoraggiare qualsiasi tentativo da parte di Decebalo di poter riprendere la lotta contro i romani. Traiano riteneva così che il regno dacico non avrebbe mai più potuto rivestire alcun ruolo politico e militare. Era stata creata così una dacia debole secondo gli intendimenti dell'imperatore. Decebalo, tuttavia, dal canto suo, restava sul trono, godendo ancora di grande prestigio ed autorità presso i daci perché era l'indiscusso capo e il regno dacico, comunque, ridimensionato, disarmato, continuava ad esistere. Il suo regime giuridico rimaneva quello di uno stato cliente di Roma con condizioni, appunto, sfavorevoli, ma continuava ad esistere. E questo, indubbiamente per i daci e per Decebalo, era un aspetto positivo da cui, pensavano, potessero partire per riprendere la loro autonomia o, quantomeno, uno status decisamente migliore rispetto a quello a cui erano stati ridotti. Dobbiamo immaginarci, alla fine della prima campagna bellica contro i daci, quello che fu l'effetto a Roma di questo successo importante, di un successo eclatante. Traiano ritornò a Roma e ritornò a Roma come colui che era riuscito a vincere laddove altri in passato. Non erano, non solo riusciti a vincere, ma erano stati sonoramente sconfitti, come è il caso dell'imperatore Domiziano, la cui caduta, in qualche modo, si può anche legare alle sconfitte subite contro i daci. Arrivò a Roma, fu festeggiato con un grande trionfo, con tutta quella che era la liturgia, che era ben nota nei trionfi romani, e ricevette persino il titolo di dacicus. Tant'è che su alcune emissioni monetali, su alcune monete del 102 d.C., per celebrare con la dovuta risonanza, come avveniva in questi casi, successo conseguito, venne rappresentata nella leggenda di queste monete, appunto, la Dacia Victa. La Dacia, sì, era stata vinta, ma non era stata annientata. In ogni caso, dopo la prima guerra dacica, il prestigio dell'imperatore Traiano si era fortemente accresciuto, perché era riuscito a legittimare, era il suo intendimento, l'intendimento per il quale aveva intrapreso questa battaglia, questa guerra contro i daci, era riuscito a legittimare ancora di più sul piano militare la sua capacità di generale, ma questa legittimazione sul piano militare consentiva ancora di più a far comprendere come Traiano fosse, sì, un grande generale, un grande stratega, ma fosse nel contempo anche un politico che avrebbe avuto modo, di lì a poco, di mostrare anche le sue capacità in questa direzione. Quindi il successo che l'imperatore Traiano conseguì nel corso della prima guerra dacica, che si concluse nel 102 d.C., fu un successo importante non solo sul piano militare, ma anche sul piano politico, perché consolidò ancora di più la posizione di Traiano a Roma. Il Senato, che con l'elezione di Nerva pensava di essere ancora nelle condizioni di avere quella centralità, di essere ancora il baricentro del potere a Roma, si rese conto che con Traiano questo non sarebbe potuto accadere, perché questa legittimazione sul campo di battaglia avrebbe avuto indubbiamente delle ripercussioni anche sul piano politico e Traiano, lo aveva dimostrato anche nel corso della guerra dacica, era un uomo energico che voleva tenere sotto controllo la situazione e quindi voleva in qualche modo cercare di avere il controllo completo della situazione a Roma. La conclusione della pace tra Romani e Daci non significò comunque una duratura soluzione e Traiano ne era consapevole da questo punto di vista. Era arrivato ad accettare la pace, a concludere la prima spedizione dacica, per tutta una serie di motivazioni, innanzitutto perché comunque l'esercito, pur essendo stato il conflitto non particolarmente lungo, la prima guerra dacica durò dal 101 al 102 dopo Cristo, l'esercito comunque era per certi aspetti logorato, era stata una impresa bellica piuttosto impegnativa e poi Traiano, da persona intelligente, lungimirante, quale egli era, si rendeva conto che non poteva rimanere lontano da Roma per molto tempo, perché la situazione a Roma rischiava di divenire per certi aspetti pericolosa, nel senso che il Senato tendeva ad acquisire sempre più poteri, ad acquisire un ruolo maggiore approfittando dell'assenza dell'imperatore. La Dacia era stata duramente colpita, ridotta territorialmente, ma Traiano era consapevole che per risolvere definitivamente la questione dacica doveva annientare il nemico e in ragione di questo, nel periodo in cui egli fu a Roma, cominciò a prepararsi nell'eventualità di una seconda spedizione bellica e in tal senso abbiamo dei segnali evidenti di come l'imperatore Traiano stesse preparandosi a questa eventualità, nel senso che rivide ulteriormente quello che era l'assetto strategico e l'assetto logistico che avrebbe consentito appunto di dare un colpo decisivo, mortale, al regno dacico e da questo punto di vista cercò di adottare tutte le soluzioni che gli avrebbero consentito di stringere ancora di più in una morsa mortale il nemico dacico. Inoltre, inoltre, egli, proprio in ragione di questo, si preoccupò di dotare il territorio in prossimità della Dacia di tutte quelle infrastrutture che da una parte avrebbero avvantaggiato l'esercito romano nella conquista che si auspicava definitiva della Dacia, dall'altro avrebbero costituito all'indomani della conquista l'ossatura portante dell'inclusione della Dacia, divenuta poi provincia romana, nell'ambito dell'impero. e in tal senso fece costruire un'opera importante, un ponte che consentiva di unire la mesia superiore al territorio dacico, il ponte di Drobeta. Questo ponte che fu costruito dall'architetto Apollodoro di Damasco, che era l'architetto di Traiano, fu molto importante perché da una parte consentì all'esercito romano di arrivare nel corso della seconda spedizione dacica in maniera più agevole sul territorio dacico, ma avrebbe poi consentito all'indomani della conquista di avviare quella importante fase di romanizzazione che avrebbe vissuto la Dacia romana. Si trattò di un'opera veramente avveniristica, e non solo per quei tempi, in quanto si trattava di un ponte in calcestruzzo e legno, lungo 1135 metri e alto 19 sul pelo dell'acqua, costituito di 20 imponenti piloni, il tutto realizzato in tempi record, anche si potrebbe dire per i nostri tempi, cioè in nemmeno un anno e mezzo, nell'intervallo tra la prima e la seconda guerra dacica. 1135 metri costruiti in un anno e mezzo dimostra quella che era la grande capacità dei ingegneri romani e soldati romani, non solo, appunto, come si è detto, di soldati combattenti, ma anche di soldati costruttori. Un ponte che rimase il più imponente mai costruito sino al 1800. La realizzazione del ponte di Drobeta, ricordata da uno dei rilievi della colonna traiana e largamente celebrata dalla propaganda ufficiale, tanto da essere magnificata anche nelle emissioni monetali, costituì veramente un'opera veneristica per quei tempi, tanto che ce ne dà testimonianza lo stesso Cassio Dione, il quale, nella storia romana, a proposito del ponte, esprime la sua entusiastica ammirazione, sottolineando, in un passo, lo sforzo fatto per costruirlo in un terreno fangoso e su di un fiume rapido e profondo. Per chi ancora oggi va a visitare la città di Drobeta, l'antica città di Drobeta, l'odierna Turnus Severin, può vedere ancora le tracce di questo ponte, perché sono conservate le due teste di ponte, quella sulla riva romena, appunto, a Turnus Severin, e l'altra sulla riva serba, in quanto il ponte fu poi distrutto progressivamente, in maniera definitiva, nel XVIII secolo dagli austriaci per la sistemazione del canale navigabile. Un'opera avveniristica, frutto dell'ingegno di Apollodoro di Damasco, di questo architetto tanto amato da Traiano, che egli conobbe con tutta probabilità quando Traiano fu tribuno militare in Siria, così sembrerebbero documentarci le fonti. Si trattava di un militare, di un militare di genio, caso di dire, per quanto riguarda Apollodoro. Apollodoro che fu un esperto di pogliorcetica, cioè di arte dell'assedio, dell'uso delle macchine belliche, ma che ebbe modo di dimostrare tutta la sua maestria di architetto, non solo con il ponte di Drobeta, ma con tante altre opere che furono costruite proprio nell'età di Traiano. Si pensa in tal senso al foro di Traiano, ai mercati traianei, al porto di Fiumicino, agli archi trionfali di Ancona, di Benevento, al rifacimento di età adrianea del panteo, una dimostrazione proprio di come Apollodoro di Damasco fosse amato così tanto da Traiano da affidargli quelli che erano monumenti e sostanzialmente più rappresentativi della sua età. È strano il destino, poi, di Apollodoro di Damasco, così tanto amato da Traiano, invece osteggiato da Adriano. Si dice che Apollodoro di Damasco, in più di un'occasione, avesse criticato quelli che erano gli intendimenti dal punto di vista architettonico e urbanistico di Adriano e questo fu il motivo dell'attrito e, si direbbe poi, dell'inimicizia profonda che si creò tra i due, tanto che Adriano, il successore dell'imperatore Traiano, l'avrebbe poi messo a morte. Il ponte di Drobeta ovviamente mostrava in maniera palese quelli che erano i reali intendimenti dell'imperatore Traiano e li mostrava appunto a Decebalo, ai Daci, i quali si rendevano conto che i Romani volevano assolutamente non soltanto che la Dacia fosse uno stato cliente, ma avevano intenzione poi di annetterla e quindi di conquistarla e si trattava pertanto di una situazione insostenibile per i Daci e per il re Decebalo e ovviamente questo, ancora di più, li metteva in difficoltà. Sul piano della situazione interna del resto Decebalo si rendeva conto che questa situazione in cui il regno dei Daci ha praticamente sottoposto ai Romani con la presenza dell'occupazione romana sul territorio dacico rischiava di mettere in serio pericolo quella che era la stabilità del regno, un regno in cui sia l'aristocrazia guerriera che appoggiava il re dei Daci in ragione del carisma di cui egli era dotato, potremmo dire, sia la religione non potevano in nessun modo accettare questa situazione di suddittanza nei riguardi dei Romani. Del resto, questo lo si può comprendere molto bene anche nell'atteggiamento ostile che i Daci avevano nei riguardi della guarnigione romana che era stanziata in prossimità di Sarme Zegetusa, regia, centro religioso e spirituale del popolo dacico e come tale la guarnigione veniva vista come una sorta di atto sacrilego nei riguardi dei Daci. Quindi ciò indubbiamente indusse Di Cebalo a porre rimedio alla situazione cercando là dove era consentito di fortificare non soltanto Sarme Zegetusa ma tutto quanto il territorio che era rimasto ancora dacico e anche cercando di armare ed equipaggiare nuovamente l'esercito dacico in preparazione di una guerra che di lì a poco si sarebbe poi effettivamente verificata. La prospettiva di una dominazione di Roma era vista del tutto inaccettabile per l'aristocrazia dacica e questo spiega quelli che saranno gli eventi che si verificheranno subito dopo. Il re dei daci era di fronte ad una scelta o far sì che la dacia rimanesse un regno cliente con uno statuto così ridimensionato oppure decidere di riprendere le ostilità ma era pur consapevole che sia in un caso sia nell'altro per il regno dacico l'autonomia che aveva avuto nei tempi passati era messa seriamente a repentaglio. È difficile capire per certi aspetti come mai i daci nonostante la situazione di regno cliente decisero di affrontare ancora una volta l'esercito romano pur essendo consapevoli che questo avrebbe comportato la loro definitiva scomparsa. Vi erano molti motivi come si è detto soprattutto motivi di orgoglio se pensiamo all'aristocrazia guerriera ma soprattutto motivazioni di carattere sacro per cui una suddittanza una dominazione romana era vista come del tutto inaccettabile. Il caso Sbelli possiamo dire che portò alla seconda guerra dacica fu quello che si verificò di lì a poco vale a dire il fatto che il comandante dell'esercito romano in dacia Gneo Pinario Emilio Cicatruca Pompeo Longino andò ad un incontro con Decebalo dopo essere stato invitato e andò a questo incontro senza prendere particolari misure di sicurezza e fu indubbiamente un atto di leggerezza ma dimostra che ormai sia il governatore sia i romani confidavano nel rispetto delle regole nel rispetto delle clausole di pace così come erano intercorse tra i romani e i daci ma qui venne fatto prigioniero in maniera inaspettata da Decebalo e si trattò ovviamente per Roma di un grave oltraggio e questo comportò poi in sostanza la nascita di una vera e propria tensione tra i romani e i daci un atto assolutamente audace di evidente violazione del trattato di pace del 102 dopo Cristo tanto più che nel contempo Decebalo poco prima aveva iniziato una guerra contro i sarmati assigi contro quelle popolazioni che erano state alleate dei romani e questa guerra che poi si concluse favorevolmente per i daci venne fatta senza tener conto in alcun modo non solo dei divieti di Roma che imponevano per le clausole di pace di evitare qualsiasi politica estera autonoma da parte dei daci ma ancora di più tenendo conto che gli diassigi erano stati molto importanti come alleati per i romani proprio nel corso della prima spedizione dacica i daci di Decebalo ebbero la meglio sugli diassigi e si impossessarono di nuovo di quei territori che avevano precedentemente perduti e che erano stati dati ai romani come premio agli diassigi per la loro collaborazione nel corso della prima spedizione dacica questi due atti di evidente violazione delle clausole di pace vale a dire la prigionia del governatore dell'esercito romano in dacia e la guerra contro gli essigi furono le cause che portarono subito allo scontro che di lì a poco si sarebbe verificato e l'inizio della seconda spedizione dacica che verrà affrontata dall'imperatore traiano nel 105 d.c. infatti la prigionia del governatore dell'esercito romano in dacia fu fatta da decebalo proprio con l'intendimento di utilizzare il comandante dell'esercito come arma di scambio in qualche modo per cercare di ottenere dall'imperatore traiano delle condizioni più favorevoli ma decebalo non poteva immaginare certamente quello che sarebbe avvenuto il comandante appunto rendendosi conto della situazione di difficoltà in cui si sarebbe trovato traiano decise di togliersi la vita con un gesto eroico di togliersi la vita per sottrarre a decebalo un'arma che indubbiamente sarebbe stata importante quindi il sacrificio del comandante dell'esercito romano in dacia sancì potremmo dire quella che fu la causa dell'inizio della seconda guerra dacica che di lì a poco sarebbe occorsa il 4 giugno dell'anno 105 dopo Cristo l'imperatore Traiano partì da Roma per raggiungere il fronte da Nubiano allo scopo anche questa volta di dirigere personalmente le operazioni militari della guerra avrebbe potuto affidare l'incarico ad un altro generale a generali che gli aveva portato con sé come il suo successore Adriano che era un valente generale come il suo amico fidato nonché stretto collaboratore braccio destro si potrebbe dire Sura ma anche in questo caso volle dirigere personalmente le operazioni perché si rendeva conto della necessità di non delegare ad altri un compito che era comunque arduo in quanto non si fidava certamente dell'abilità strategica del re dei daci di Cebalo la seconda guerra intrapesa da Traiano contro la Dacia anche in questo caso è ricordata in modo piuttosto lacunoso nelle fonti scritte che abbiamo a disposizione e quindi anche in questo caso dobbiamo avvalerci di Cassio Dione che è il nostro testimone per eccellenza si potrebbe dire a questo punto e le informazioni più puntuali che noi abbiamo le possiamo desumere anche in questo caso dai rilievi della colonna Traiana che quantomeno mettono in evidenza quelli che furono i momenti salienti di questa seconda spedizione militare in Dacia senza dubbio dicebalo fece grandi sforzi per prepararsi nel modo migliore alla nuova guerra nonostante i numerosi tentativi diplomatici che egli fece anche in questa occasione per cercare di stringere alleanze preziose con i popoli vicini come era riuscito a fare sapientemente nel corso della prima spedizione dacica non ottenne però in questo frangente quel sostegno che egli auspicava del resto le popolazioni barbariche quelle con cui egli entrò in contatto e da cui si aspettava di avere un appoggio un sostegno stavolta si rendevano conto che la situazione del regno dei daci era certamente molto più difficile e quindi appoggiare di cebalo avrebbe comportato per loro anche esporsi in maniera netta nei riguardi dell'impero romano e quindi evitarono ovviamente di andare incontro ad un pericolo che anche per loro poteva essere significativo tentò anche l'alleanza che aveva tentato in passato con i parti ma anche in questo caso ottenne un diniego nel senso che i parti si rendevano conto che non erano nelle condizioni in quel contesto in quel frangente storico di affrontare l'impero romano e quindi in pratica la situazione che Traiano aveva uspicato cioè dell'isolamento della Dacia si verificò perché potei contare di Cebalo soltanto sui propri uomini sui propri soldati e soltanto quindi sul popolo dacico si riprodusse per certi aspetti la situazione che si era creata nel corso della prima spedizione dacica nel senso che Traiano affrontò la guerra con grande attenzione e cautela conducendola come ci dice Cassio Dione più con prudenza che con ardore avanzò gradualmente assicurando nel contempo i fianchi dell'esercito costruendo tutte quelle infrastrutture necessarie per una penetrazione sicura senza inutili rischi verso la Dacia l'imponente esercito forse ancora più consistente rispetto alla prima spedizione era sostenuto anche in questo caso dagli diassigi che ormai erano divenuti alleati fedeli nel corso delle guerre daciche dell'esercito romano e alla seconda guerra dacica parteciparono molte unità militari della Pannonia che avanzarono percorrendo probabilmente la valle del fiume Muresh l'esercito della Mesia inferiore che rappresentava una seconda colonna procedette da sud-est attraverso la curvatura dei Carpazzi e i passaggi montani dei Carpazzi meridionali la colonna principale come era avvenuto nel corso della prima spedizione dacica comandata dall'imperatore Traiano giunse dalla Mesia superiore e giunse dalla Mesia proprio utilizzando per la prima volta il ponte che Apollodoro di Damasco aveva costruito a Drobeta da qui i romani pare abbiano attaccato il centro della Dacia appunto attraverso diverse direzioni la maggioranza delle milissie impegnate nelle operazioni militari giunse da occidente unitamente a molte legioni parteciparono anche in questo caso alla guerra numerose truppe ausiliarie e unità che potremmo dire etniche come i cavalieri mauri o i fanti di varie tribù germaniche come sempre l'imperatore era accompagnato in questa spedizione da uomini capaci da valenti ufficiali di grande e provata esperienza bellica il disegno strategico di Traiano nel corso della seconda guerra dacica era chiaro anche in questo caso accerchiare il centro del potere dacico e stringendolo e comprimendolo lentamente come un'implacabile tanaglia fiaccare l'ostinata resistenza dei daci e indurli così alla definitiva capitolazione non si conoscono per la verità come si è detto i dettagli delle operazioni belliche ma è certo che stavolta rispetto alla prima guerra dacica la superiorità militare romana era schiacciante i daci anche in questo caso evitarono le battaglie in campo aperto perché Decebalo era ben consapevole che non sarebbe stato nelle condizioni di fronteggiare viso a viso l'esercito romano cercarono invece di lottare sulle montagne facendo della conoscenza del territorio e dell'ambiente le loro armi migliori e sperando in qualche errore tattico strategico da parte dei romani la difesa dacica era quindi sostanzialmente organizzata con un sistema di fortificazioni montane vale a dire le montagne erano state rinforzate e munite con muraglie e la resistenza era così affidata di volta in volta a piccoli gruppi di daci pronti a combattere con coraggio sino alla morte i romani dovevano da prima riprendere le posizioni che raggiunsero nel 102 dopo Cristo e che avevano perduto nel 105 a causa dell'insurrezione dacica che aveva poi portato al secondo conflitto le fortezze dei daci attorno a Sar Mizegetusa furono progressivamente assediate e caddero ad una ad una Cassio Dione a questo proposito dice che Traiano aveva conquistato con grandi sforzi le montagne rinforzate con muraglie questa indicazione del resto dello storico è ben testimoniata dalle tracce archeologiche che sono venute alla luce anche di recente sulle montagne di Orashti e là dove si trova l'antica capitale del regno dacico Sar Mizegetusa Regia e le fortificazioni daciche ormai erano in grande difficoltà la stessa capitale Sar Mizegetusa Regia era ormai assediata e quindi come avveniva negli assedi la situazione per gli assediati si faceva sempre più difficile tanto più che le fortificazioni daciche avevano un punto debole vale a dire la mancanza di risorse d'acqua e l'impossibilità di poter disporre di un adeguato approvvigionamento idrico per lungo tempo solamente alcune condotte assicuravano il rifornimento d'acqua alla parte centrale di Sar Mizegetusa Regia e solamente in una fortezza del resto è stata trovata una cisterna che poteva essere utile allo scopo le testimonianze archeologiche e i rilievi della colonna traiana documentano la presa da parte dei romani delle fortificazioni daciche e nei riliesi si possono vedere le acerrime lotte gli incendi devastanti che contraddistinsero la seconda guerra dacica le grandi fortezze attorno alla capitale resistettero più a lungo ma alla fine l'esercito imperiale riuscì ad annientarle tutte e ormai a traiano non rimaneva in definitiva che porre il risolutivo assedio a Sar Mizegetusa vale a dire colpire mortalmente la capitale e il cuore del regno dacico avrebbe significato la definitiva fine dei daci l'assedio di Sar Mizegetusa iniziò con tutta probabilità solamente nella primavera del 106 d.C. l'imperatore anche in questo caso come aveva fatto nel corso di tutte le operazioni militari della prima e della seconda spedizione dacica diede tutte le disposizioni necessarie per schierare il dispositivo romano per assediare la capitale di Daci espugnarla e così farla capitorare definitivamente come prima cosa diede ordine di isolare completamente gli assediati precludendo in questo modo ogni approvvigionamento e questo avrebbe comportato degli effetti decisamente negativi per i daci vari attacchi romani furono rispinti ma le risorse daci che diminuivano inesorabilmente di giorno in giorno in maniera drammatica un duro colpo per Decebalo come ci testimonia Cassio Dione fu poi l'individuazione da parte dei romani della condotta d'acqua che riforniva Sarmizegetusa Regia da quel momento i daci non poterono più contare nemmeno sull'approvvigionamento idrico e si trattò questo di un colpo mortale un rilievo della colonna traiana che è stato per la verità variamente inteso in passato dagli storici raffigura secondo una recente interpretazione avvalorata da alcuni studiosi alcuni daci che sfiniti si spartiscono le ultime riserve d'acqua tra questi daci sono ben riconoscibili i membri dell'aristocrazia vale a dire i tarabostes detti anche pileati detti pileati dal pileus cioè il tipico copricapo dacico a cono con cui viene raffigurato anche il re dei daci di Cebalo nella colonna traiana e i comuni combattenti dalla testa scoperta vale a dire i comati appunto gli scontri furono estremamente duri e violenti e la resistenza che i daci opposero andò comunque al di là di ogni aspettativa ma alla fine dopo una lotta che si era fatta veramente disperata in tutti i sensi Sarmizegetusa regia fu costretta a capitolare la lotta era ormai troppo impari e l'inesorabile destino dei daci sembrava segnato per sempre traiano lanciò un ultimo attacco contro Sarmizegetusa e riuscì ad entrare nel cuore del regno dacico i rilievi della colonna traiana anche in questo caso raccontano questi drammatici e concitati momenti dell'assalto a Sarmizegetusa e dell'ingresso delle milizie romane nella capitale i daci combatterono come si può evincere chiaramente dai rilievi sino allo stremo delle loro forze e poi rendendosi conto dell'imminente fine diedere fuoco alle loro case per privare i romani del bottino di guerra la capitale Sarmizegetusa cadde così nelle mani dei romani e dopo averla brutalmente saccheggiata come era solito fare in questi casi venne completamente distrutta poi dopo la distruzione in una fase successiva si spargerà il sale ad indicare che lì non sarebbe più potuto essere costruito alcun insediamento con la presa di Sarmizegetusa regia la resistenza dacica però non si esaurì e i daci continuarono a combattere strenuamente la colonna traiana infatti mostra a questo proposito attacchi e scaramucce intorno alla capitale caduta e in una scena si vede chiaramente di Cebalo mentre parla ai daci cercando di incoraggiarli a proseguire la lotta armata in una resistenza che ormai diventava molto impegnativa ma comunque una resistenza ostinata da parte dei daci che non volevano accentare in alcun modo il loro destino il re dei daci di Cebalo dopo la capitolazione di Sarmizegetusa riuscì a mettersi in salvo e a fuggire egli intendeva dirigersi con tutta probabilità verso nord-est poiché in quella regione vi erano ancora molte fortificazioni che resistevano e quindi sperava di mettersi al riparo per cercare di organizzare una resistenza dacica che fosse quanto meno più efficace rispetto a quella che era riuscita a frapporre contro l'esercito romano e sperava dunque di animare ancora di più la lotta impegnando in questo modo i romani nell'unica strategia che a questo punto egli poteva adottare vale a dire in una dispendiosa gueriglia per i romani nel contempo sperava ancora Decebalo di creare nuove alleanze in modo particolare sperava nel supporto della popolazione germanica dei Bastarni oppure dei Sarmati Rossolani che avevano sempre garantito il loro aiuto a Decebalo quindi il re dei Daci cercò di scappare da quella che era la regione ormai accerchiata dai romani ma il suo tentativo non ebbe successo infatti Decebalo accompagnato da una piccola scorta fu intercettato e inseguito da un distaccamento di cavalleria romana quando venne raggiunto egli preferì togliersi la vita per non cadere nelle mani romane e subire l'onta della prigionia la colonna traiana in una delle scene di maggior patos e di grande tensione drammatica raffigura appunto l'audace ed intrepido re dei Daci in un ultimo gesto eroico inginocchiato ai piedi di un albero attorniato da soldati romani mentre si dà la morte tagliandosi la gola con un pugnale ricurvo la sic appunto volgendo però nel contempo con fierezza così lo mostra bene la colonna traiana lo sguardo indomito verso il nemico vincitore una scoperta epigrafica degli anni sessanta conferma il racconto della colonna traiana una scoperta di per sé straordinaria nel senso che ci consente di avvalorare il racconto della colonna traiana si tratta del monumento sepolcrale che è venuto alla luce a Filippi nelle vicinanze dell'attuale Grammeni in Macedonia il monumento sepolcrale di Tiberio Claudio Massimo appunto uno dei cavalieri che raggiunsero Decebalo nel momento in cui il re si stava suicidando e che poi portò la testa mozzata all'imperatore Traiano il quale si trovava nel campo di Rannistorum una non identificata ancora località della Dacia l'iscrizione funeraria del cavaliere romano racconta la sua carriera militare coronata dalla promozione ad Ocurione dell'ala seconda Pannoniorum per aver catturato Decebara e l'iscrizione appunto lo dice molto bene lo esprime molto bene e non soltanto il testo epigrafico racconta appunto l'episodio da parte di Tiberio Claudio Massimo di aver intercettato e di aver assistito al suicidio di Decebalo ma anche l'apparato iconografico della stele rappresenta la stessa scena del suicidio del re dei Daci della colonna Traiana il re dei Daci anche qui è accasciato a terra subito dopo essersi colpito a morte con un pugnale mentre Tiberio Claudio Massimo lo incalza sul suo cavallo Decebalo pertanto preferì morire piuttosto che essere fatto prigioniero dai soldati romani ed essere portato in catene a Roma così come del resto era stato fatto per molti acerrimi nemici dei romani si pensa in tal senso a Vercingetorigi ma a tanti altri come era consuetudine in quella che era la liturgia del trionfo degli imperatori dei grandi generali e così appunto sarebbe accaduto anche con Decebalo durante il trionfo dell'imperatore Traiano il re dei Daci del resto sapeva benissimo che non poteva beneficiare della clemenza imperiale non tanto per essersi opposto strenuamente con un'ostinata resistenza ai romani quanto per aver calpestato un trattato che si era impegnato a rispettare e questo per i romani era considerato del tutto inaccettabile dal punto di vista romano Decebalo era proprio in ragione del fatto che aveva appunto rifiutato che non aveva ad impiuto al trattato che aveva stipulato era considerato di conseguenza un pericoloso nemico ma ancora di più era considerato un infame traditore tant'è che la sua testa il suo braccio destro dopo essere stati tagliati dai soldati furono portati all'imperatore vittorioso e poi mandati a Roma i fasti ostienses che registrano tutti i momenti salienti della storia romana precisamente i fasti ostienses del 2 settembre dell'anno 106 dopo Cristo ricordano che la testa di Decebalo fu gettata sulle scale gemonie una scalinata di accesso al colle Campidoglio nelle immediate vicinanze del carcere Mamertino come si faceva solitamente con i traditori e gli spergiuri questa fu la sorte che toccò all'indomito ed intrepido Decebalo la sorte che toccava appunto a tutti coloro che ostinatamente si erano frapposti a Roma la disperata resistenza dei daci continuò comunque anche senza il loro valoroso re continuò ancora per un po' in vari punti della dacia ma la morte di Decebalo sancì sostanzialmente la completa vittoria di Traiano gli ultimi focolai forse nella parte nord orientale furono così rapidamente annientati il numero dei prigionieri fu considerevole ma quello dei morti fu ancora più grande e la dacia non solo fu devastata ma anche spopolata nel senso che vi furono tantissime perdite umane la colonna Traiana raffigura gruppi di daci che fanno atto di sottomissione che vengono ricevuti con benevolenza dell'imperatore altri rilievi mostrano daci in marcia con le loro greggi scortati da soldati romani e probabilmente potrebbe trattarsi del trasferimento coatto degli abitanti della regione di Sarmesegetusa e del loro insediamento nelle pianure della Transilvania centrale non conosciamo per la verità i territori assoggettati dai romani nel 106 d.C. ma è sicuro che l'esercito imperiale si spinse sino agli ultimi confini della Dacia a comprova di ciò tutte le fortezze daciche cessarono di esistere al momento della conquista se non furono espugnate con la forza furono comunque abbandonate pacificamente presumibilmente su ordine dei romani anche perché ormai per i daci qualsiasi possibilità era ormai preclusa in ogni caso anche se l'esercito romano non occupava effettivamente tutta quanta la Dacia la controllava però ormai saldamente e poteva ovunque imporre la propria volontà un diploma militare emesso nell'agosto del 106 d.C. per l'esercito della Dacia attesta che la nuova provincia era ormai costituita e quindi la data del 106 d.C. sancisce la definitiva conclusione del conflitto la guerra infatti finì al più tardi nell'estate di quell'anno il bottino depredato dai romani fu ingente oltre a tutto quello che i soldati riuscirono a portare via di grande entità era soprattutto il tesoro regale che era costituito da migliaia di monete d'oro e d'argento ma specialmente da molti oggetti gioielli vasi lingotti sia in oro sia in pietre preziose l'oro infatti per i daci aveva per certi aspetti una valenza sacra era un tramite con gli dèi e proprio per questo appunto sia il re sia i sacerdoti avevano creato dei grandi depositi aurei perché l'oro non era un metallo prezioso di scambio quindi non veniva utilizzato nelle transazioni commerciali ma era appunto un elemento di collegamento con le divinità e proprio per questo veniva conservato tesaurizzato nei depositi e quindi possiamo immaginarci la grande quantità d'oro che i romani traiano riuscirono a sottrarre ai daci la colonna traiana a questo proposito riassume in un rilievo la straordinarietà del tesoro dei daci questo rilievo mostra i soldati romani che trasportano numerosi oggetti preziosi sui muli che trasportano numerosi oggetti preziosi su muli per comprendere l'importanza del tesoro di Decebalo basti pensare che esso consentì la costruzione a Roma negli anni successivi alla conquista della Dacia di molti monumenti pubblici alcuni dei quali a comprova di ciò portavano l'iscrizione latina ex manubis ovvero finanziati con il bottino di guerra a dimostrazione di quante risorse aurifere d'oro furono portate a Roma le imponenti spese fatte per il popolo dell'urbe nonché per le celebrazioni del trionfo avvalorano ulteriormente la rilevanza del tesoro dacico senza contare poi che il bottino di guerra sottratto i daci permise dopo il 106 dopo Cristo di risollevare notevolmente le finanze imperiali e di incrementare in modo significativo come è avvalorato dalle testimonianze la coniazione in oro fare un calcolo dell'entità del tesoro di Decebalo è pressoché impossibile perché calcoli di questo tipo sono piuttosto aleatori e opinabili l'unico riferimento quantitativo proviene da un libro di Giovanni Lido uno scrittore bizantino dell'età di Giustiniano ma è un riferimento per la verità non attendibile in quanto riporta dei dati assolutamente esagerati una ricerca più verosimile nella quantificazione ipotizza che i romani si impossessarono di circa 165.000 kg d'oro e 331.000 kg d'argento un bottino indubbiamente di proporzioni enormi certo è che il tesoro regale di Decebalo colpi molto l'immaginario collettivo dei romani del tempo e contribui ancora di più ad accrescere ad alimentare la fama e il prestigio dell'imperatore Traiano e ad eternare l'impresa dacica densa di momenti ed eventi drammatici ma anche di gesta tragiche ed eroiche come ad esempio il sacrificio volontario di Longino e il suicidio di Decebalo spiegare la fonte della ricchezza dei daci e le ragioni della sua straordinaria accumulazione non è facile tanto più che essi avevano difficoltà ad estrarre l'oro e l'argento dalle loro miniere con tutta probabilità riuscirono a sfruttarle in modo adeguato solamente negli ultimi anni della loro indipendenza grazie alla tecnologia romana e agli specialisti chiamati da Decebalo a questo scopo è probabile che tutte queste ricchezze come si è detto rappresentassero per così dire dei valori non economici come avveniva frequentemente tra i barbari valori non economici accumulati nel corso di numerose generazioni preservati per diversi motivi quali il potere il prestigio oppure come si è detto per ottenere la benevolenza degli dei si trattava del tesoro regale di Decebalo ma soprattutto pare appartenessero in gran parte alle divinità e pertanto costituivano depositi sacri nell'imminenza della capitolazione di Sarmizegetusa Decebalo consapevole ormai della fine nascose il tesoro regale in diversi luoghi intorno alla capitale che rappresentava per i daci non solo il centro politico ma anche quello religioso con il monte sacro molti di questi ricchi depositi furono individuati dai romani ma sicuramente non tutti infatti a partire dal tardo medioevo sino al ventesimo secolo in prossimità di Sarmizegetusa sono avvenuti alla luce in vari momenti ripostigli di monete e di oggetti preziosi lo stesso Cassio Dione racconta che Decebalo quando i romani erano ormai prossimi ad espognare la capitale diede ordine di occultare il tesoro regale sotto il letto del fiume Sargezia che scorreva vicino al suo palazzo a Sarmizegetusa il re dei daci pertanto con l'aiuto di alcuni prigionieri deviò momentaneamente il corso del fiume e fatta scavare una buca nell'alveo così dice Cassio Dione vi ripose un'ingente quantità d'oro e d'argento e tutte le cose preziose che possedeva affinché le acque celassero il tesoro che non doveva cadere nelle mani nemiche dopo aver disposto tutto quanto e nascosto il tesoro Decebalo fece uccidere i prigionieri per proteggere il suo segreto ma Bicillis dice Cassio Dione uno dei suoi più stretti collaboratori che era a conoscenza del tesoro e del luogo dove fu occultato fu catturato dai nemici e rivelò loro il nascondiglio questa storia è però poco verosimile ed il resto costituisce un topos letterario un luogo appunto ricorrente frequente nell'antichità è più probabile invece che il re dei daci Decebalo abbia occultato il tesoro regale in più punti ed il resto il recente recupero di diversi braccialetti d'oro massiccio di produzione preromana appunto dimostra tutto questo ed è probabile che gli scavi sistematici degli anni dei decenni futuri magari riporteranno alla luce anche altre preziose testimonianze del tesoro regale di Decebalo dopo la conquista della Dacia ad opera dell'imperatore Traiano l'imperatore rimase nel territorio dacico ancora sino alla primavera del 107 dopo Cristo in quanto si dedicò completamente ad organizzare quella che sarebbe divenuta la nuova provincia la provincia appunto della Dacia romana doveva organizzarla doveva integrarla nell'assetto dell'impero romano tracciarne anche le linee principali della sua costituzione del suo sfruttamento e sviluppo quello che aveva del resto già iniziato a fare nel momento in cui aveva pianificato la conquista perché ne aveva già in quel contesto delineato quelle che sarebbero state le direttrici della colonizzazione della romanizzazione e anche dello sfruttamento la nuova provincia era indubbiamente devastata era stata prostrata il caso di dire da un'aspera e dura guerra che aveva richiesto all'imperatore appunto un'attenzione particolare un'attenzione speciale e quindi prima di ritornare a Roma l'imperatore si dedicò completamente a tutta questa opera di inclusione il caso di dire di questa nuova provincia così importante nell'assetto strategico militare dell'impero romano nell'urbe a Roma appunto la notizia della decisiva vittoria sul re de Cebalo suscitò grandi entusiasmi la vittoria di Traiano venne festeggiata come forse mai era accaduto sino a quel momento un successo militare che ebbe una larghissima eco tant'è che grazie anche in ragione di quello straordinario monumento che è la colonna traiana possiamo dire tranquillamente che le imprese le gesta dell'imperatore Traiano in Dacia corrispondono all'evento bellico forse più è caso di dire mediatizzato di tutta quanta la storia quantomeno di tutta quanta la storia antica la propaganda imperiale quindi celebrò ampiamente la vittoria adacica propagandando in tutto l'impero l'immagine dell'imperatore trionfante la Dacia capta vale a dire la conquista della Dacia venne così a legittimare ulteriormente l'immagine così nitida così fulgida il caso di dire dell'imperatore Traiano e tutto questo lo si può cogliere anche nelle monete sui monumenti che celebrarono ampiamente questo importante avvenimento a Roma Traiano celebrò un secondo trionfo dopo il primo che aveva contraddistinto la fine della prima guerra d'Acica appunto nel 102 d.C. vi furono delle festività grandiose addirittura le fonti ci dicono ben 123 giorni di feste con cerimonie religiose ampie donazioni alla plebe cittadina spettacoli giochi come mai forse era stato fatto appunto in precedenza Cassio Dione che ormai avete imparato a conoscere come il nostro testimone privilegiato per il racconto delle imprese daciche di Traiano sostiene che nelle arene furono addirittura uccisi circa 11.000 animali molti dei quali erano selvaggi ed erano giunti proprio quegli animali portati per l'occasione dai luoghi più lontani dell'impero romano e nelle arene vi combatterono così ci dicono le fonti più di 10.000 gladiatori la vittoria sui daci del re di Cebalo fu per l'impero quindi di grande importanza in quanto consentì la sistemazione definitiva dell'area danubiana e contribuì anche in modo significativo appunto grazie alle immense risorse risorse anche d'oro contribuì notevolmente alla stabilità delle finanze romane ne sono prova a questo riguardo poi le imponenti spese pubbliche che furono compiute dall'imperatore gli straordinari monumenti voluti da Traiano come il nuovo foro monumentale come anche le statue dei prigionieri daci che furono l'imperituro ricordo se vogliamo della conquista e che consentirono ancora di più di celebrare la gloria di un imperatore che si era contraddistinto come un grande conquistatore la dacia dopo la conquista quindi fu gradualmente come si è detto integrata nell'ambito dell'impero romano non tutta la dacia fu occupata in modo permanente dall'esercito imperiale che forse così ci dicono le testimonianze archeologiche gli scavi che sono stati compiuti sinora in Trasilvania che forse arrivò sino alla frontiera settentrionale del dissolto regno di Decebalo e poté imporre comunque l'abbandono di tutte le fortezze daciche ma non rimase in quei territori la superficie vera e propria della dacia romana tutto sommato era abbastanza ridotta che si può dire sostanzialmente che corrisponde grossomodo all'odierna regione della Transilvania ma si trattava di un'area veramente importante e strategica per l'impero romano come del resto avvalorato dal rango del governatore della provincia dalla consistenza dell'esercito che comunque venne qui impiegato nonché dai grandi anzi per certi aspetti imponenti investimenti che furono fatti per sfruttare le ricchezze e le risorse di quei territori questa particolare poi situazione di provincia di frontiera imponeva di conseguenza un'attenzione speciale e un dispiegamento di molte truppe per la difesa dei confini infatti le necessità militari e strategiche richiesero per controllare questo spazio almeno due legioni e quindi complessivamente 12.000 soldati a cui poi vanno aggiunte le truppe ausiliarie gli ausili appunto altrettanto consistenti una di queste legioni era la legio tredicesima gemina giunta allo scopo dalla pannonia che rimase in daccia sino all'abbandono della provincia come vedremo nel 271 dopo Cristo con l'imperatore Aureliano il cui accampamento in pietra che ebbe sempre ad Apulum cominciò ad essere costruito già con l'imperatore Traiano l'altra legione la quarta Flavia Felix proveniente dalla Mesie superiore era a distanza a Berzobis quindi nella regione del Banato non è sicuro se la legione avesse avuto precedentemente un campo legionario sul luogo dove sarebbe poi sorta Ulpia Traiana Sarmizegetusa la nuova capitale della dacia romana ma è comunque certo alla luce delle testimonianze archeologiche che sono venute appunto alla luce in questi ultimi tempi in questi ultimi anni è comunque certo che partecipò alla costruzione della città si suppone inoltre che in questo periodo in cui era necessario che la dacia romana ormai fosse ben presidiata ci fosse una terza legione la prima Adjutrix in quanto sono venuti alla luce mattoni e tegole bollate di questa legione ma in numero limitato e solamente ad Apolum invece di credere ad uno stanziamento duraturo della legio prima Adjutrix in dacia è più possibile plausibile meglio pensare alla presenza temporanea di alcuni distaccamenti di questa legione e più presumibilmente di una vessillazione oltre a queste legioni la provincia disponeva di numerose milizie ausiliari e di cui non conosciamo i nomi le dimensioni e gran parte dei loro accampamenti fortificati ma anche in questo caso gli scavi più recenti stanno fornendo molti dati e consentiranno appunto di ridefinire meglio quelli che furono gli elementi importanti del sistema difensivo della dacia romana in questa prima parte dopo la conquista avendo un esercito così consistente la dacia doveva essere comandata da un governatore consolare ovvero da un legatus augusti proprietore quindi da una personalità di spicco e doveva essere anche un valente comandante appartenente di conseguenza all'entourage dell'imperatore ad ulteriore comprova ad ulteriore dimostrazione dell'importanza militare della dacia romana e della considerazione di questo territorio che non aveva certamente una estesa superficie come si detto poc'anzi ma che comunque rappresentava una sorta di propugnaculum imperii così si può dire cioè una sorta di bastione avanzato dell'impero romano dal momento che aveva i confini con il mondo barbarico più lunghi di tutte quante le province romane l'importanza strategico militare della dacia era quindi notevole trovandosi a nord del danubio e controllando l'altopiano transilvanico e la curvatura dei carpazzi questa nuova provincia del resto a dimostrazione dell'importanza strategica che aveva nell'assetto dell'impero romano divideva il mondo barbarico posto ai suoi confini dall'impero romano ed inoltre precludeva qualsiasi tentativo di coalizione dei germani e degli iazzigi con le tribù orientali sia sarmatiche sia daciche e quindi aveva in sostanza un ruolo chiave nell'assetto del limes danubiano del confine della frontiera danubiana se si osserva la disposizione delle truppe romane sul territorio provinciale dacico si può vedere con chiarezza che non si trattava ancora di un vero e proprio limes ma piuttosto di un esercito di occupazione e tutto il dispositivo militare sembra essere orientato prevalentemente verso ovest e verso nord-ovest da cui in questo momento potevano provenire all'impero romano le minacce principali ad occidente ad esempio erano insediati gli azigi alleati dei romani ma che erano rimasti a quanto scontenti per non aver ricevuto il territorio dacico che da tempo avevano chiesto la loro coesione la loro unità era stabile ed avevano una grande forza militare che in caso di necessità quindi l'esercito romano doveva essere pronto in grado a fronteggiare nella parte nord-occidentale nella valle superiore del fiume Tisa le popolazioni daciche erano ormai sotto la costante pressione delle tribù germaniche ed i vandali cominciavano proprio in quel periodo a stabilirsi nella regione il sistema difensivo romano poi non si preoccupò molto delle tribù daciche che vivevano a nord come il caso dei costoboci e ad est probabilmente i predecessori dei carpi e nemmeno dei sarmati orientali e questo poi si rivelò un errore di valutazione che impegnò notevolmente i romani i romani in definitiva nel definire l'assetto strategico militare della dacia romana tennero ovviamente in grande considerazione quelli che potevano essere i potenziali pericoli le minacce che potevano eventualmente arrecare le popolazioni barbariche vicine il sistema difensivo evidentemente teneva considerazione di tutto questo e fu del resto determinato principalmente dalla morfologia del territorio e dalla configurazione dei rilievi montuosi la situazione della dacia quindi era quella di una provincia in cui il dispositivo difensivo si può definire radiale cioè si trattava di una difesa radiale in cui appunto si teneva in grande considerazione proprio per valorizzare le capacità difensive quelle che erano le opportunità offerte dal contesto ambientale e soprattutto la preoccupazione degli eserciti romani dislocati nella dacia era quella di bloccare gli stretti passaggi delle montagne al fine di evitare incursioni che sarebbero potuto essere poi pericolose l'esercito romano doveva soprattutto contrastare le tribù barbariche che minacciavano l'impero a ridosso della frontiera danubiana e questo fa capire ancora di più quella che era la rilevanza per questo territorio non così esteso ma come si è detto ampiamente strategico vi erano poi delle situazioni particolari una guarnigione romana chiudeva la valle d'accesso verso la capitale del dissolto regno d'acico Sarmizegetusa regia appunto ormai in rovina abbandonata dopo che era stata saccheggiata nel momento in cui i romani posero il definitivo assedio e la conquista dell'antica capitale del regno d'acico e piccoli distaccamenti occupavano il luogo e le sue vicinanze quella che era stata la capitale dei daci divenne per ragioni politiche e religiose un luogo a loro interdetto e proprio per questo a significare questa preclusione nei riguardi di quel luogo i romani com'era consuetudine spassero il sale ad indicare che lì non avrebbero più potuto costruire un caso diverso inoltre era rappresentato da quello che sarebbe divenuto un importante distretto minerario in modo particolare miniere d'oro vale a dire quello dei carpazzi occidentali la regione dal punto di vista economico potremmo dire più importante per i romani il cui sfruttamento delle miniere richiedeva alcune forze militari per la sorveglianza come del resto era consuetudine nei distretti minerari inoltre la guarnigione di drobeta che era costituita da una corte che aveva l'importante compito di controllare l'accesso al grande ponte in pietra il capolavoro potremmo dire di Apollo d'oro di Damasco mentre le corti poste sulla riva sinistra del Danubio all'interno della provincia dovevano assicurare la circolazione per via di terra e per via fluviale su questo percorso vale a dire quello delle cosiddette porte di ferro danubiane nel centro della Transilvania si trovava la legione tredicesima gemina stanziata ad Apulum che poteva intervenire verso qualsiasi frontiera minacciata e proprio per questo appunto si trovava in un luogo strategico al centro di quella che era la regione dell'antica Dacia per questo aveva a disposizione delle vie adeguate verso ovest lungo il Muresh sino a Partiscum oppure verso la regione del Banato verso nord verso Ampelum nel cuore del distretto minerario in sostanza le vie che erano state costruite a cominciare dall'imperatore Traiano in poi avrebbero consentito in caso di necessità agli eserciti di raggiungere quelle aree che erano particolarmente attaccate dalle popolazioni barbariche tutti i daci che si opposero strenuamente ai romani e che riuscirono a sopravvivere il caso di dire gli orrori della guerra furono ridotti allo status alla condizione di deditici in sostanza di persone libere ma senza diritti fondamentali vale a dire senza la cittadinanza proprietà e privi del diritto di costituire comunità legali e anche religiose e questa preclusione questo divieto nella costituzione di queste comunità si spiega anche in ragione della forza di aggregazione che aveva avuto la religione e anche la classe sacerdotale nel coagulare attorno al regno attorno a Decebalo quella che sarebbe stata poi la ostinata resistenza dei Daci l'aspra e sanguinosa guerra contro i Romani quindi non solamente aveva posto fine al regno dei Daci ma aveva anche completamente sconvolto la loro struttura sociale i ceti superiori della società dacica che si erano così tenacemente opposti sino alle estreme conseguenze erano stati distrutti se non proprio fisicamente almeno socialmente e si può dire quindi che la società dacica fu decapitata cioè privata dei ceti superiori la classe sacerdotale era stata completamente annientata così come la religione statale e la stessa nobiltà guerriera che era stata così importante nel supportare il re Decebalo era ormai scomparsa totalmente quindi la principale peculiarità della conquista romana in Dacia fu dunque la pressoché totale dissoluzione dei livelli sociali superiori e questo rappresentava e si vedrà poi successivamente una sorta di anomalia rispetto alle altre province conquistate dai romani in ragione di tutto questo all'indomani della conquista della Dacia Traiano nel pianificare le modalità di inclusione della nuova provincia nell'impero romano e nel delinearne le direttrici di sfruttamento delle risorse si trovò quindi dinnanzi ad una realtà per certi aspetti nuova per i romani nel senso che non era nelle condizioni di applicare quello che era il tradizionale potremmo dire modello di colonizzazione e romanizzazione romana nel senso che era consuetudine all'indomani della conquista che i romani coinvolgessero in quella che è la fase di colonizzazione e romanizzazione le popolazioni locali in modo particolare le elite dirigenti locali che diventavano così quasi dei partner essenziali per la valorizzazione dei territori conquistati da parte dei romani potremmo dire anche lo sfruttamento questo non era certamente possibile perché Traiano e gli imperatori che vennero dopo di lui non furono nelle condizioni appunto di potersi avvalere delle elite dirigenti locali come tramiti importanti del potere imperiale nelle altre province anche nelle altre province danubiane questo avvenne e fu una sorta di consuetudine le elite dirigenti locali del resto avevano tutto l'interesse a collaborare con Roma anche se ovviamente in uno statuto di dominazione e di conquista romana perché comunque nella loro società mantenevano il loro status il loro rango e di conseguenza appunto il modello tradizionale fu applicato in tutte le province romane e però questo non poteva avvenire nella Dacia proprio per le condizioni appunto sia di invasività della conquista sia perché la conquista aveva indubbiamente smantellato decapitato appunto è caso di dire la parte superiore gli elite dirigenti daciche di conseguenza la società dacica all'indomani della conquista si trovava in una situazione di debolezza generale certamente incapace di sostenere l'esercito romano di occupazione e nemmeno nelle condizioni di assumere l'amministrazione locale come era consuetudine nei territori conquistati di conseguenza perché tutto questo avvenisse era necessaria un'intensa colonizzazione del resto a questo proposito le fonti parlano chiaro in modo particolare una fonte per la verità tarda del quarto secolo dopo cristo come eutropio il quale nella sua opera vale a dire del breviarium a burbe condita una sorta di riassunto di compendio della storia di roma a proposito della dacia dice esplicitamente viris fuerat exhausta cioè per colpa delle due guerre la dacia era stata privata dei propri beni rimasta senza uomini e quindi venne colonizzata dall'imperatore traiano sottolinea eutropio appunto con masse infinite di persone provenienti da tutto il mondo romano spostate nella nuova provincia per coltivare la terra e per popolare le città e quindi questa colonizzazione questa colonizzazione così intensa fu un'altra peculiarità che riguarda appunto l'indomani della conquista della dacia la prima forma di colonizzazione ebbe luogo direttamente con l'installazione delle truppe in quanto ogni unità militare accampata negli accampamenti nei castra apportava attorno a sé tutta una moltitudine di civili che cominciavano poi da quel momento in poi a vivere in stretta simbiosi con l'accampamento si trattava di artigiani commercianti fornitori di diversi servizi che vedevano nella presenza di un accampamento militare romano e dei soldati un'opportunità per fare commerci per migliorare la loro condizione di vita in ragione di tutti i traffici che potevano appunto attivarsi per la presenza dei soldati romani i quali come si sa avevano uno stipendium e quindi le rimesse economiche loro erano particolarmente interessanti anche per le popolazioni locali attorno agli accampamenti molto spesso vivevano anche le famiglie non ufficiali perché sino all'imperatore settimio severo i soldati non potevano sposarsi ma creavano nei contesti in cui erano di stanza in cui militavano come sicuramente accadde anche nel territorio dacico creavano delle famiglie ovviamente non legalizzate non ufficiali ma comunque famiglie a tutti gli effetti durante le campagne belliche anche questi civili seguivano le milizie e quindi erano parte si può dire integrante del processo di romanizzazione perché in prossimità degli accampamenti dei castri appunto sorgevano dei villaggi che erano le canabe per quanto riguarda gli accampamenti legionari i vici per quanto riguarda le unità ausiliari e questi insediamenti civili che si sviluppavano attorno agli accampamenti erano molto importanti nella fase di colonizzazione e romanizzazione perché erano i tramiti diretti di quello che era il modus vivendi romano e rappresentavano quindi per le popolazioni locali degli importanti poli di irradiamento della romanizzazione e di conseguenza nella colonizzazione della Dacia significativo fu l'apporto dei militari ma anche l'apporto dei veterani vale a dire di quei soldati che dopo il congedo dopo aver militato per 25 anni decidevano molto spesso di stabilirsi definitivamente nei luoghi dove avevano militato per molto tempo e di recidere così il cordone umbilicale che li legava alle terre natie e così molti veterani rimasero con tutta probabilità in Dacia nella Dacia romana qui avevano l'opportunità nei terreni che erano stati assegnati da Roma di spiegare dopo il congedo anche le competenze l'esperienza che avevano tesorizzato negli anni di militanza alcuni si dedicarono all'agricoltura perché le pianure daciche erano particolarmente fertili e quindi anche archeologicamente sono state rinvenute delle ville rustiche che significano questo tentativo da parte dei veterani di rimanere in loco e di migliorare in questo modo la qualità di vita in un territorio che appena conquistato poteva dispiegare delle opportunità economiche decisamente interessanti non di meno la più grande impresa colonizzatrice dell'imperatore Traiano fu senza dubbio la deduzione la fondazione della colonia di Ulpia Traiana Sarmizegetusa fondata ad opera del governatore decimo Terenzio Scaurià subito dopo la costituzione della provincia più precisamente intorno agli anni 108 110 dopo Cristo la città Ulpia Traiana Sarmizegetusa appunto non coincideva con la Sarmizegetusa preromana Sarmizegetusa regia ma sorgeva all'uscita delle porte di ferro transilvaniche su di un piano pedemontano sino a quel momento disabitato con tutta probabilità sul sito di un accampamento militare romano distrutto dai daci nell'anno 105 dopo Cristo quindi ad una distanza di una quarantina di chilometri all'incirca da quella che era stata l'antica capitale regno dacico vale a dire Sarmizegetusa regia il mantenimento nel nome del toponimo dacico Sarmizegetusa mostrava l'intenzione da parte di Traiano di rendere la nuova fondazione erede legittima e di fatto della capitale distrutta la città che aveva una forma rettangolare con una cinta muraria di 600 metri di lunghezza e di 540 metri di larghezza aveva al suo centro un foro in legno che poi dopo alcuni anni fu trasformato in un foro più monumentale in pietra e mattoni a dimostrazione di come la città sin dai primi anni ebbe modo di svilupparsi e di acquisire anche una certa rilevanza non ultima sul piano economico l'esito quindi della deduzione della fondazione di Sarmizegetusa fu talmente felice che in pochissimi anni la città divenne rapidamente fiorente molto probabilmente il governatore consolare risiedeva temporaneamente a Sarmizegetusa quando doveva esercitare il suo ruolo la sua giurisdizione mentre era presente più spesso ad Apulum dove appunto si trovava a distanza la legione XIII gemina e dove qui poteva assolvere il suo ruolo di comandante militare Sarmizegetusa rappresentò così la più importante città daco romana e costituì pertanto il più rilevante fattore di diffusione e di irradiamento della civiltà romana in Dacia fu il baricentro il punto di riferimento il fulcro della colonizzazione della romanizzazione romana ma di lì a poco altre città daco romane sarebbero sorte che in pochi anni anch'esse raggiunsero un livello di sviluppo economico particolarmente importante piuttosto consistente oltre alla componente di militari e veterani fu la colonizzazione civile che almeno in parte fu spontanea e non solo indotta come si è visto con il passo di Eutropio uomini di ogni condizione sociale giunsero in Dacia alla ricerca di una vita migliore e di tutte quelle opportunità che una nuova provincia poteva offrire e questo era un comportamento che molto spesso si era verificato nelle province appena conquistate perché potevano dispiegare delle opportunità occupazionali economiche decisamente interessanti e quindi in situazioni analoghe ma ancora di più per la Dacia ci furono dei flussi significativi immigratori che sono anche documentati sia sul piano archeologico sia sul piano anche epigrafico e quindi un rilevante afflusso di popolazione civile in tal senso di notevole rilievo per quanto riguarda la colonizzazione e la romanizzazione della Dacia è stato l'apporto degli italici come del resto ben si evince dalla documentazione epigrafica un apporto importante anche perché la situazione nella penisola italica era quella in alcune aree soprattutto in modo particolare nell'Italia centrale nell'Italia meridionale di crisi economiche e quindi molti italici furono indotti a spostarsi dalle loro terre natali verso questi nuovi territori così attrattivi e che avevano così colpito l'immaginario collettivo anche in ragione del immenso tesoro d'oro che fu portato dall'imperatore Traiano a Roma le potenzialità della nuova provincia erano quindi una forte attrazione per questi italici che concorsero in maniera significativa a diffondere maggiormente la romanizzazione cioè la riduzione dei territori conquistati delle popolazioni agli usi e costumi romani concorso in maniera determinante anche a cominciare a rirradiare la lingua latina e è probabile che proprio l'apporto degli italici in questo contesto consentì poi sia alle città d'aco romane di svilupparsi maggiormente ma soprattutto di radicarsi in maniera profonda quella che era la civiltà romana il modus vivendi romano di cui appunto c'è traccia ancora oggi nella romania nella lingua che è una lingua neolatina il fatto che il romeno sia una lingua neolatina è forse chissà dovuto anche a questi italici che si trasferirono nella dacia romana e si trasferirono in un contesto in cui non vi erano popolazioni daciche preesistenti non c'era un substrato linguistico e ciò consentì pertanto alla lingua latina di attecchire da subito e così profondamente risultano oltre ai civili in modo particolare italici attestati anche interi gruppi di persone che furono spostati a cominciare dall'imperatore traiano per ragioni particolari e per ragioni proprio amministrative si potrebbe dire a questo proposito per consentire un più rapido ed efficace sfruttamento delle miniere daciche furono qui impiantate maestranze specializzate è il caso appunto dei coloni liri come comprovano i loro insediamenti nel distretto minerario aurifero dei Carpazzi occidentali che erano conosciuti perché veri e propri specialisti dei lavori nelle miniere venuti in particolar modo dalla Dalmazia centrale è probabile che l'imperatore Traiano nel momento in cui pianificò la conquista e nel momento in cui percorse i territori per giungere sino alla Dacia è plausibile che entrò in contatto con queste comunità illiriche che poi indusse a trasferirsi in Dacia nelle miniere dei Carpazzi occidentali appunto mettendo queste popolazioni nelle condizioni di lavorare e di poter migliorare la propria condizione economica queste comunità illiriche che preservarono i loro nomi d'origine crearono dei legami solidi con il territorio dacico di derovita dei veri e propri insediamenti specialmente attorno ad un sito molto importante vale a dire al Burnus Major che corrisponde all'attuale Rocia Montana in Trasinvania qui si trovavano le miniere d'oro più importanti dell'imperatore Traiano e qui le miniere di proprietà del fisco imperiale vennero organizzate in un grande distretto minerario la cui sede amministrativa era ad Ampelum che corrisponde all'odierna Zlatna in cui vi erano del resto come già si è detto unità militari che sorvegliavano le attività estrattive le miniere d'oro erano dirette da un procuratore che era un liberto imperiale e venivano appaltate per lo sfruttamento a imprenditori coloni e di questo abbiamo delle testimonianze anche molto importanti perché proprio in alcune gallerie delle miniere di Alburnus Major intorno alla metà dell'Ottocento furono rinvenute venticinque tavolette cerate si tratta di un rinvenimento particolarmente prezioso perché poche sono le tavolette cerate sinora rinvenute in tutto il mondo romano venticinque tavolette cerate che ricoprono l'arco cronologico che va dal 131 al 167 dopo Cristo e che ben documentano quella che era l'attività estrattiva di queste miniere documentano infatti contratti di appalto di conduzione di compravendita di prestito in pratica i cunicoli i pozzi le gallerie delle miniere erano appaltate a piccoli appaltatori che possiamo in qualche modo avvicinare i moderni cercatori d'oro i quali poi impegnavano come manodopera dei lavoratori liberi si trattava di un modo di condizione di sfruttamento delle miniere d'oro particolarmente produttivo per l'impero romano erano quindi appaltate e questo lo si può vedere appunto molto bene dal burnus maio chi lavorava nella miniera non era uno schiavo come molto spesso si è indotti a pensare ma in questo contesto cronologico lavoravano lavoratori liberi certo è che il lavoro nelle miniere era un lavoro comunque molto duro tant'è che a questo proposito sappiamo benissimo come la condanna ai lavori forzati nelle miniere la cosiddetta damnazio ad metalla vale a dire la condanna ad estrarre metalli rappresentasse una pena corporale terribile forse la più dura dopo quella di morte così come del resto è documentato dalle fonti in cui appunto si lavorava in condizioni decisamente difficili si pensi in tal senso per avere uno spaccato delle fatiche dei pericoli a cui erano sottoposti minatori antichi ad un passo di Plinio il Vecchio che ben definisce quelle che erano le difficoltà le asperità e la durezza della vita del minatore nelle miniere così dice a questo proposito Plinio il Vecchio con gallerie tracciate su grandi distanze si scavano le montagne al lume delle lampade queste servono anche come misura dei turni di lavoro perché per molti mesi non si vede la luce del giorno questo tipo di miniere sono chiamate arrugge inoltre si aprono all'improvviso frane che schiacciano gli operai tanto che ormai sembra meno temerario andare a cercare perle e porpore in fondo al mare tanto più pericolosa abbiamo reso la terra è per questo che si lasciano archi e intervalli frequenti per sostenere le montagne si incontrano blocchi di roccia che si frantumano con fuoco ed aceto ma più spesso siccome questo procedimento rende le gallerie soffocanti per il vapore ed il fumo si preferisce spezzare la roccia con magli carichi di 150 libri di ferro portano via i pezzi di roccia a spalla di giorno e di notte passandoli ciascuno al suo vicino nell'oscurità solo gli ultimi della catena vedono la luce del giorno se il blocco di roccia sembra troppo esteso il minatore ne segue il fianco e lo aggira e tuttavia il lavoro nella roccia è considerato relativamente facile esiste infatti una qualità di terra una specie di argilla mista ghiaia la chiamano gangadia che è pressoché inespugnabile l'aggrediscono con cune di ferro e con gli stessi magli detti sopra e si ritiene che non ci sia nulla di più duro se non che la cosa più dura fra tutte è la fame dell'oro il passo di Plinio il vecchio desunto dalla sua opera importante dalla naturale esistoria ben documenta quella che era la fatica appunto del lavoro delle miniere sia che si trattasse di lavoro servile sia che si trattasse di mano d'opera libera se pensiamo poi che un minatore scavava pochi centimetri sostanzialmente al giorno le fonti ci dicono all'incirca dodici e se compariamo tutto questo alle miniere di Alburnus Major che sono forse le meglio conservate di tutto quanto il mondo romano in cui ci sono decine decine di chilometri di miniere ci rendiamo conto di quanto fosse stato imponente l'attività estrattiva appunto ad Alburnus Major e di quanto fosse stato importante l'afflusso d'oro che grazie alle miniere di Alburnus Major e della Transilvania poter arrivare a Roma la situazione di Alburnus Major del resto mi preme sottolineare è una situazione particolare si tratta di un sito archeologico straordinario perché non soltanto ci sono le testimonianze meglio conservate delle miniere romane ma attorno alle miniere c'è un'ampia area archeologica in cui ci sono appunto gli insediamenti delle comunità illiriche che lavoravano in quel contesto ma anche gli edifici dei soldati romani che sorvegliavano quelle miniere e le miniere di Alburnus Major vivono una situazione di oggettivo pericolo per i propositi scellerati al caso di dire di una compagnia multinazionale che vuole riprendere l'attività estrattiva per l'estrazione dell'oro e se l'attività estrattiva verrà ripresa per il momento è stata scongiurata e si spera per sempre una documentazione straordinaria non soltanto dell'attività delle miniere nel mondo romano ma di tutta quanta un'area viene a perdersi e quindi questo sarebbe un grosso danno sul piano archeologico ma non solo perché le tecniche estrattive moderne dell'oro non sono come quelle antiche che non erano invasive sul piano dell'ambiente perché per estrarre l'oro dalla roccia urifera si usa un procedimento a base di cianuro e quindi si possono riversare nelle acque tonnellate di cianuro che creerebbe un vero e proprio disastro ecologico e ambientale dopo questa intensa colonizzazione l'imperatore Traiano ritenendo concluso il suo compito si dedicò a quella politica espansionistica che lo portò ad essere definito l'optimus princeps nel 114 dopo cristo l'imperatore ritenne la situazione in dacia ormai sicura e poté pertanto spostare alcune unità militari tra queste la legione quarta Flavia Felix che spostò in oriente in quanto cominciò l'imperatore a dedicarsi alla guerra contro i persiani in questo modo sottovalutò però le tensioni che esistevano nel medio e basso Danubio e che si sarebbero poi notevolmente acuite alla morte di Traiano avvenuta nel 117 in Cilicia come si sa la guerra partica di Traiano non diede i risultati sperati il successore dell'imperatore Traiano fu Adriano che era per certi aspetti un figlio adottivo dell'imperatore e del resto lo legava all'imperatore una parentela e appena divenuto imperatore Adriano il suo successore si trovò costretto a far fronte ad una situazione decisamente problematica che poteva generare rischi e pericoli e quindi si trovò costretto ad attuare a prendere delle misure radicali e dolorose per cercare di ristabilire la sicurezza dell'impero romano che era ora seriamente minacciata Adriano si era reso conto che la politica espansionistica del suo predecessore dell'imperatore Traiano era una politica che non era più adatta in ragione di quella che era stata l'evoluzione nel senso che era troppo impegnativo gestire anche sul piano militare quei territori quei nuovi territori che erano stati appena conquistati per cui cercò invece di consolidare le conquiste che erano state fatte cercò di riportare l'impero romano in confini che erano più facilmente controllabili e questo spiega la sua intensa attività da questo punto di vista e come egli si dedicò anche attraverso i viaggi che divennero sempre più frequenti per rendersi conto di persona di quella che era la situazione lungo il Limes la situazione militare dello spazio danubiano era quindi piuttosto pericolosa quanto l'esercito romano indebolito dallo spostamento di tante unità militari per la campagna bellica di Traiano in Oriente fronteggiava con non poche difficoltà quelle che erano le insurrezioni delle popolazioni barbariche che nel frattempo si erano ribellate in tal senso si pensi all'insurrezione dei Sarmati addirittura avvenne anche uno scontro tra questi in cui morì il governatore della Dacia Gaio Giulio Quadrato Basso a dimostrazione in sostanza di come si verificarono negli anni iniziali dell'età dell'imperatore Adriano quelle prime conflittualità che rischiavano anche di mettere subito a repentaglio le conquiste e tra queste quella della Dacia romana secondo alcune fonti antiche l'imperatore avrebbe ordinato persino la distruzione del ponte di Drobeta per cercare di prevenire in questo modo che i barbari lo utilizzassero per attraversare il Danubio e per entrare così nei territori dell'impero romano ma si tratta di una notizia che però è priva di ogni fondamento anche perché altrimenti non si spiegherebbe il ragguardevole sviluppo della città di Drobeta nei decenni successivi se l'intenzione dell'imperatore fosse stata realmente questa lo storico romano eutropio racconta comunque che Adriano durante la crisi del 118 dopo Cristo che mise in seria difficoltà l'impero e soprattutto lo spazio Danubiano ricorda che l'imperatore Adriano appunto pensò addirittura di abbandonare del tutto la Dacia così come del resto aveva fatto con le nuove province orientali ma che fu convinto dai suoi stretti collaboratori a rinunciare a questo proposito soprattutto per non abbandonare tantissimi cittadini romani nelle mani dei barbari e questo spiega quell'intensa colonizzazione quell'intenso flusso sia di civili sia poi di veterani che decisero di stabilirsi definitivamente in Dacia eutropio vuole così sottolineare non solo la gravità della situazione evidentemente ma appunto anche l'intensa colonizzazione che avvenne in Dacia pochi anni dopo la conquista l'imperatore alla fine riuscì a riportare l'ordine nell'area danubiana rinforzò la difesa delle due mesie la mesia superiore e la mesia inferiore quella che si avvacciava sul mar nero e poi cercò attraverso un'abile politica diplomatica di trattare con le popolazioni barbariche che si erano ribellate riuscendo a concludere una pace in cambio di concessioni territoriali e anche in cambio di sussidi non ultimi anche dal punto di vista economico ad esempio con i sarmati rossolani si impegnò a pagare sussidi cedette loro alcuni territori orientali abbandonati dai romani in sostanza il compito più importante che questa nuova provincia la dacia romana doveva assolvere era quello di sorvegliare i movimenti dei barbari nella parte orientale della dacia e di vietare così ogni loro ingresso ogni loro accesso ma le sue poche truppe non potevano certamente opporsi a qualsiasi attacco di forze nemiche considerevoli ed in questo caso veniva difesa qualora ci fossero situazioni di rischi e pericoli imminenti dal potente esercito della mesia inferiore che così mandava a sostegno della provincia romana le proprie unità la dacia di traiano divenne invece la provincia della dacia superiore mentre la parte più meridionale quella sulla linea del danubio divenne la dacia inferiore dopo aver finalmente pacificato i sarmati rossolani Adriano esaurito il proprio compito e ormai tranquillo che la situazione era rientrata nella normalità con tutti quei sacrifici in termini territoriali di cui si è detto più sopra ritornò a Roma per cercare appunto di controllare da lì quella che era la situazione dell'impero romano ma soprattutto per essere nel cuore del potere in quanto appunto era necessario che la sua presenza a Roma si facesse sentire soprattutto in ragione di quelle che erano le situazioni sempre pericolose che in tal senso si potevano creare quindi con l'imperatore Adriano ci fu in sostanza una riorganizzazione sul piano amministrativo della Dacia romana perché successivamente nella parte settentrionale della Dacia superiore venne creata una nuova provincia la provincia della Dacia Prolicensis da Prolissum che era un punto strategico un fulcro della difesa dell'esercito romano quella difesa appunto radiale di cui si è parlato tutto il sistema militare fu pertanto riorganizzato la Dacia Prolicense garantiva la difesa verso nord-ovest dove si trovavano tribù daci che i gruppi considerevoli di Germani la capitale era appunto Prolissum dove vi era un grande accampamento con tre truppe ausiliarie diverse la Dacia superiore sottratto il territorio che costituiva la Dacia Prolicense aveva di conseguenza una superficie minore ed era presidiata da una sola legione la tredicesima gemina a distanza d'Apulum mentre la legione quarta Flavia Felix ritornava a Singidunum vale a dire l'attuale Belgrado nella mesia superiore infine infine la Dacia inferiore le tre province daciche Dacia porolissense superiore inferiore non erano collegate tra di loro ogni governatore aveva pieni poteri nella sua provincia e non vi era alcun tipo di coordinamento ciò nonostante questo sistema inaugurato dall'imperatore Adriano si rivelò efficace duraturo ma quale fu il destino della Dacia romana dopo l'imperatore Adriano la nuova forma amministrativa che l'imperatore aveva inaugurato nella Dacia assicurò la difesa dei territori che interessavano maggiormente l'impero romano ovvero l'altopiano transilvanico con le miniere d'oro che erano così vitali per le casse dell'impero ed il suo collegamento con la parte meridionale della provincia attraverso appunto il ponte di Drobeta le tre province la Dacia Prolissense la Dacia Superiore e la Dacia Inferiore avevano compiti strategico-militari diversi la Dacia Prolissense ad esempio doveva essere in grado di fronteggiare le potenziali minacce dei germani centro-europei insediati nelle regioni nord-occidentali la Dacia Superiore vigilava sulle risorse del territorio così importanti per l'impero e controllava la popolazione degli Assigi che aveva cominciato a dare serie preoccupazioni infine la Dacia Inferiore sorvegliava i movimenti delle popolazioni nomade rossolane e dei Daci della Vallacchia Nel contempo tutte e tre le province continuavano ad assolvere il ruolo strategico che era stato voluto da Traiano ossia di dividere i barbari transdanubiani e di ridurre in questo modo la loro pressione sia verso la Mesia sia verso la Pannonia La grande abilità in sostanza dell'imperatore Adriano frutto delle sue indubbie capacità diplomatiche fu quella di tessere relazioni fu quella di mantenere il pieno controllo dell'area danubiana operando però nello stesso tempo una riduzione delle unità militari al di là del Danubio che non solo consentì un significativo risparmio in termini di risorse economiche per lo stato romano ma anche favori lo sviluppo delle province danubiane il nuovo equilibrio così stabilito dall'imperatore Adriano negli anni 117 e 119 dopo Cristo si rivelò efficace duraturo le tre province daciche che occupavano solamente la parte centrale del dissolto regno di Decebalo conobbero così uno sviluppo notevole e questo sistema difensivo funzionò sostanzialmente bene sino alle guerre marcomanniche e non vi furono particolari pericoli da affrontare nel contempo la società provinciale la società delle città daco romane che era una società variegata in ragione del intenso flusso immigratorio che si verificò in Dacia si stava rapidamente costruendo seguendo per ovvi motivi quello che era il modello romano occidentale anche perché l'immigrazione era stata più evidente più significativa proprio dalla parte occidentale dell'impero romano questo generale progresso della società dacica ed il resto avvalorato dall'intensa urbanizzazione che si verificò in questi anni tanto che negli anni dell'imperatore Adriano furono addirittura fondati tre municipi romani come quello di Romula Drobetta e Napoca lo sviluppo economico della Dacia Romana proseguì poi anche negli anni successivi anche se meno velocemente con il successore di Adriano Antonino Pio ma dopo il 166 dopo Cristo la situazione cambiò decisamente a causa di quelle che furono le guerre marcomanniche che provocarono notevoli ripercussioni non soltanto per quanto riguarda le province danubiane ma anche in Dacia come del resto dimostra in questi anni il declino dell'economia delle importazioni e della circolazione monetaria del resto le tavolette cerate nascoste ad Alburnus Major la cui datazione si ferma cronologicamente appunto verso il 167 dopo Cristo dimostrano sicuramente quelli che furono i pericoli che furono fortemente sentiti anche in Dacia della minaccia dell'invasione dei marcomanni oltre a ciò poi non bisogna dimenticare la peste che dilagò in tutto l'impero romano in modo particolare nelle province danubiane fu particolarmente sentita in quanto ebbe modo di mietere tantissime vittime e tra queste probabilmente anche molte vittime in territorio dacico ad ogni modo questa difficile situazione dimostrò che il dispositivo militare progettato da Adriano non era più efficace e non era più in grado di mantenere la pace pertanto l'imperatore Marco Aurelio fu costretto a riorganizzare anche la Dacia romana così già nel 169 d.C. una nuova legione la Quinta Macedonica fu spostata in Dacia e più precisamente a Potaisa l'attuale Turda le tre province furono riunite sotto un solo comando militare in modo che la difesa fosse più efficace e meglio coordinata ed il loro nome venne cambiato la Dacia superiore venne chiamata così Dacia Apulensis la Dacia inferiore venne denominata Dacia Malvensis inoltre in ragione della situazione di maggiore pericolo vennero apportate sul territorio dacico nuove milizie nel 170 d.C. dopo pesanti sacrifici tra cui anche la morte del governatore i barbari furono definitivamente vinti e la guerra continuò in territorio nemico ma la Dacia nonostante ciò continuò ad essere ancora minacciata perché altre popolazioni barbariche settentrionali nel frattempo si erano affacciate ai suoi confini e cercavano di penetrare nella provincia in modo particolare i costobocci devastarono la mesia superiore e cominciavano a mettere in seria difficoltà anche i confini della Dacia romana con una politica diplomatica abile e astuta i governatori romani riuscirono a difendere la Dacia cercando il più possibile di alimentare le inimicizie tra gli stessi barbari alla fine la pace venne stipulata nella pace si ebbe l'allontanamento dei barbari dai confini ma le conseguenze della guerra rimasero ben visibili perché inevitabilmente concorsero a limitare lo sviluppo della società dacica e vi fu un decremento per quanto riguarda le attività economiche la situazione in Dacia sia per quanto riguarda lo sviluppo delle città sia per quanto riguarda l'economia si riprese con settimio severo infatti anche l'esercito della Dacia romana così come le altre unità militari danubiane sostenne ampiamente il nuovo imperatore il quale poi praticò una politica molto favorevole all'esercito e di conseguenza anche alle province di frontiera come la Dacia l'economia con l'imperatore settimio severo in Dacia diventò così nuovamente fiorente come si verificò del resto in tutte le altre province danubiane e la circolazione monetaria fu decisamente incrementata grazie alla diffusione dei commerci che si ripresono in maniera significativa questa crescita economica continuò anche con gli altri severi unitamente ad un'attenzione particolare per il sistema difensivo danubiano tanto che proprio l'età severiana rappresenta per certi aspetti l'apogeo della civiltà daco romana e anche della cultura nella provincia lo stesso successore dell'imperatore settimio severo caracalla visitò la Dacia nel 214 d.c. e ne rafforzò l'esercito e il sistema militare come del resto fece anche con le altre province danubiane ma questa prosperità economica che si ebbe con la dinastia dei severi sarà sostanzialmente breve poiché negli anni dell'anarchia militare la Dacia romana subì più di altre province un declino irreversibile in quanto l'economia entrò in crisi gli attacchi barbarici ai confini sebbene non particolarmente pericolosi divennero però sempre più frequenti e questa situazione inevitabilmente si riverberò sui commerci e quindi sullo sviluppo della società molto preoccupanti divennero successivamente le ricorrenti ribellioni dei grandi eserciti provinciali che cercavano di imporre il loro candidato sul trono imperiale una di queste rivolte scoppiò nel 249 dopo Cristo sullo sfondo delle ripetute invasioni gotiche nello spazio balcanico e l'imperatore fu ucciso e sostituito da Traiano Decio il nuovo imperatore Traiano Decio appunto nel 250 dopo Cristo venne celebrato come restitutor daciarum cioè come colui che aveva ripristinato le province daciche forse per aver salvato la dacia romana da una grave minaccia esterna ma l'anno successivo Traiano Decio cadde in battaglia contro i goti nella mesi inferiore negli anni seguenti lo spazio balcanico venne sempre di più devastato dalle invasioni dei goti e di altre popolazioni barbariche ma la dacia venne meno colpita da questi attacchi e pertanto le sue truppe furono sempre di più utilizzate per operazioni militari in altre aree e ciò dimostra che la provincia era sostanzialmente sicura e del resto non abbiamo notizie dalle fonti di grandi assalti contro la dacia romana da parte dei barbari ma se la dacia era sicura lo spostamento duraturo di molti effettivi militari dalla dacia ebbe però delle ripercussioni estremamente negative da un lato la provincia era ovviamente meno difesa e quindi più esposta agli assalti delle popolazioni barbariche dall'altro vennero meno le ingenti rimesse dei soldati dei loro stipendi e delle loro paghe che alimentavano notevolmente l'economia provinciale in ragione di questo nella maggior parte degli insediamenti della dacia romana mancano monete e manufatti che sono appunto attestati in questo periodo collocabili quindi cronologicamente intorno a 250 d.C. di conseguenza venendo meno questi importanti getti di queste importanti risorse che i militari riversavano nella società provinciale dacica anche la vita urbana decadde e la situazione di irreversibile crisi della provincia è ancora più evidente nel distretto minerario di di ampelum in quanto lo sfruttamento delle miniere diminuì agli inizi del terzo secolo dopo Cristo e cessò completamente durante l'anarchia militare la provincia era per certi aspetti ormai pressoché abbandonata se stessa ed i romani controllavano ormai solamente la parte centrale e sud occidentale ma con pochissime truppe del resto Roma celebrava ancora nelle missioni monetali nelle monete la dacia felix ma non era altro che un desiderio un auspicio che era sempre più impossibile la dacia romana infatti durante l'anarchia militare del terzo secolo dopo Cristo aveva perduto il suo ruolo fondamentale essa ormai non poteva più impedire in alcun modo l'ingresso delle popolazioni barbariche nell'area danubiana e non solo non era più in grado di garantire la difesa del danubio ma servivano addirittura sforzi supplementari per mantenere la provincia ciò che in sostanza l'impero romano in questo frangente di grave crisi in un'ultima politica non poteva certamente più permettersi pertanto l'imperatore aureliano alle prese con i molti problemi dell'impero con tutta probabilità nell'anno 271 dopo Cristo prese una dolorosa decisione che non avrebbe voluto prendere vale a dire ritirò le truppe romane della Dacia e fondò una nuova provincia a cui diede lo stesso nome ma a sud del Danubio tra le due mesi rinunciando così gran parte a quello che era il territorio della Dacia romana fu la fine della provincia conquistata da Traiano sebbene ancora sorvegliato dall'impero il territorio dell'ex provincia rimase inevitabilmente isolato e al di fuori del mondo romano molti abitanti in ragione di questo molti di quei cittadini romani che si erano così radicati nelle città daco romane pensarono di abbandonare la Dacia ancora prima della decisione traumatica il caso di dire dell'imperatore Aureliano tuttavia quelle regioni rimasero comunque popolate soprattutto dai ceti più bassi di quella che era stata la società romana provinciale le comunità che continuarono a vivere nell'ex provincia si guitarono a parlare la lingua latina e a condividere un modello di vita romano ridotto però ormai agli aspetti essenziali questi romani sopravvissero in questi territori divennero cristiani e poi e poi continuarono proprio in questo contesto la loro vita il ritiro dell'esercito romano dalla Dacia non fu totale nemmeno sotto l'imperatore Aureliano in quanto comunque la sicurezza delle province suddanubiane richiedeva pur sempre un attento controllo della riva settentrionale del Danubio su cui rimase un controllo indiretto delle teste per così dire di ponte che controllavano tutta quell'area che comunque aveva ancora una valenza strategica significativa lo stesso diocleziano quando inaugurò il progetto tetrarchico accordò grande attenzione e cercò di trovare rilevanti risorse per la rifortificazione della sponda settentrionale del Danubio e nel contempo cercò appunto di controllare e di presidiare meglio quello che era il cosiddetto Limes Danubiano un interesse maggiore per quella che era stata la provincia della Dacia Romana si ebbe quando salì al trono Costantino il Grande e soprattutto quando spostò la capitale a Costantinopoli lo spostamento della capitale rendeva di conseguenza più strategica anche l'area danubiana per cui ci fu con tutta probabilità da parte di Costantino l'intenzione se non di riconquistare la Dacia quantomeno di avere una maggiore attenzione l'influenza comunque politica dello Stato Romano anche se aveva abbandonato la provincia rimaneva significativa e lo dimostra il fatto che sul territorio della provincia romana della Dacia non si insediarono altre popolazioni se non gruppi sparuti di popolazioni barbariche come il caso di alcuni insediamenti di Sarmati nella regione del Banato oppure di Daci occidentali nella Transilvania centrale settentrionale nonché Carpi nella Transilvania orientale ma a parte a parte ciò l'influenza comunque romana che era ancora così viva nel territorio dell'ex provincia fu un deterrente per le popolazioni barbariche in sostanza questa influenza fu viva per tutto il quarto e il quinto secolo dopo Cristo nei territori dell'ex provincia si insediarono successivamente gli Unni e poi i Gepidi che riuscirono alla morte del re Attila avvenuta nel 435 dopo Cristo a vincere appunto la popolazione Unna e quindi nel terzo quarto del quinto secolo dopo Cristo la maggior parte della vecchia Dacia apparteneva alla popolazione dei Gepidi ma durante il VI secolo l'equilibrio politico si ritrovò a dovere fronteggiare nuove popolazioni nuovi nemici e tra queste emerse la popolazione degli Slavi che verso la metà del secolo appunto si insediarono in quello che era stato il territorio della provincia e così si concluse la storia della Dacia romana essa era già un'entità territoriale che si stava trasformando in qualcosa di diverso priva ormai di ogni contatto si può dire con il mondo tardoromano in cui il ricordo il ricordo della dominazione romana era sempre più tenue sempre più debole di fatti per alcuni secoli le fonti scritte non menzionarono più questo spazio che rimase per lungo tempo fuori dalla civiltà la presenza massiccia degli Slavi e la loro dominazione politica e sociale cambiò radicamente poi lo sviluppo della società locale nel territorio dell'ex Dacia romana la nascita dell'odierno popolo romeno risultò alla fine la sintesi tra la popolazione latinofona autoctona e gli immigrati slavi a questo punto a conclusione di questo percorso di questo percorso in cui si è cercato di raccontare uno dei momenti forse più straordinari anche in ragione della colonna traiana delle imprese daciche ci si pone la domanda queste guerre queste guerre daciche furono davvero necessarie per Roma beh certamente si può dire che la conquista della Dacia rappresentò appunto un'ultima conquista fu l'ultimo territorio conquistato in maniera durevole appunto con l'imperatore traiano nel 106 d.C. ed il primo territorio ad essere perduto il primo territorio importante ad essere perduto appunto con l'imperatore aureliano nel 271 d.C. quindi un arco cronologico tutto sommato limitato come si è detto di 165 anni certo è che le imprese daciche alimentarono notevolmente l'immaginario collettivo costituirono uno dei momenti più importanti della storia romana paragonabile in un certo senso e mutatis mutandis alla conquista della Gallia ad opera di Giulio Cesare l'impero romano dopo le guerre daciche ne uscì più potente di prima e la conquista della Dacia consolidò considerevolmente traiano il suo principato l'imperatore vincendo di Cebalo eliminò l'unico nemico veramente pericoloso dell'area danubiana riuscendo nel contempo a dividere il mondo barbarico posto ai confini del territorio dacico al di là della rilevanza delle guerre daco romane occorre tenere in considerazione quelle che furono le notevoli implicazioni per la politica romana e le conseguenze che esse portarono innanzitutto la conquista della Dacia non solo legittimò la figura dell'imperatore Traiano che trasse grande alimento e che indubbiamente riuscì a consolidare il proprio potere in ragione di questa importante conquista e di questo successo così eclatante ma soprattutto per Roma significò dei grandi benefici innanzitutto come si è detto sul piano economico perché fu tanto l'oro che si riversò nelle casse che erano ormai esangui dell'impero romano che le conquiste daci che consentirono a Roma se non di fermare quantomeno di frenare quella crisi che nell'età di Traiano si stava facendo sempre più significativa e quindi le risorse della Dacia e l'oro della Dacia consentì di risollevare le sorti economiche dell'impero e tutto questo e del resto avvalorato dai numerosi monumenti ed edifici che l'imperatore Traiano fece costruire non solo a Roma ma anche in altre città d'Italia con l'oro appunto dei Daci senza contare che almeno per un certo periodo che almeno per quasi due secoli l'assetto strategico militare sul Limes Danubiano con la conquista della Dacia consentì di proteggere di meglio tutelare l'impero in quel contesto territoriale nonostante la Dacia abbia fatto parte dell'impero per un periodo relativamente breve in questo arco di tempo fu intensamente romanizzata con la diffusione della lingua latina e con l'adozione di modelli di comportamento italici e tale processo contribuì a determinare l'identità culturale di quello che sarebbe divenuto poi il popolo romeno che non solo parla una lingua neolatina ed è questo un elemento di straordinaria rilevanza soprattutto se consideriamo che si tratta di una lingua neolatina quella romena appunto in un enclave linguistico completamente slavo ma che vede nell'imperatore traiano l'eroe fondatore della nazione romena in tutto ciò fondamentale infatti è stato il ruolo di traiano il quale ha dato l'avvio nell'antica dacia ad un processo che avrebbe determinato una nuova realtà capace di sopravvivere i giorni nostri sebbene importanti e dalle dureture conseguenze le guerre d'acco romano sono poco conosciute ancora quantomeno rispetto a quanto meriterebbero a causa della mancanza di fonti scritte e di pochi testi che ne parlano sono spesso riassuntivi oppure interpolati e offrono comunque un'immagine generale e talvolta ahimè approssimativa degli eventi a questa mancanza di fonti come si è detto e come più volte si è fatto riferimento suppliscono in parte i rilievi della colonna traiana e le metope del grande monumento trionfale di Adam Clissi vale a dire trofeum traiani negli ultimi decenni però le conoscenze sulla dacia di Decebalo sulla sua forza militare sullo svolgimento della guerra e delle operazioni militari contro Roma hanno avuto un significativo apporto di informazioni e dati grazie soprattutto alle recenti scoperte archeologiche in primo luogo gli scavi nei territori dell'impero in prossimità della Dacia hanno contribuito ad avere maggiori indicazioni sui lavori che sono stati importanti da parte romana per costruire le infrastrutture compiute per intraprendere la conquista ma i risultati più interessanti si sono avuti grazie a scavi più sistematici eseguiti in Romania dove sono stati indagati gli insediamenti e le fortificazioni daciche compresa la stessa Sarmizigetusa regia l'antica capitale del regno dacico di Decebalo altrettanto utili per una più precisa definizione dello sviluppo delle operazioni belliche nelle varie fasi delle guerre daco-romane sono state le ricerche su altre fortezze daciche soprattutto nella Transilvania nord-occidentale la conquista romana della Dacia in ragione degli importanti effetti che essa dispiegò è oggi maggiormente studiata dalla storiografia e gli scavi archeologici e le ricerche dei prossimi anni consentiranno sicuramente meglio di allargare ed approfondire le conoscenze e quindi di comprendere in maniera maggiore di quanto non sia stato possibile sinora le guerre daciche che rappresentano comunque uno dei momenti più avvincenti della storia romana le cui vicende hanno attraversato i secoli si sono mantenute ancora oggi così ben vivide grazie allo straordinario racconto di quella memoria di pietra che è la colonna traiana abbiamo trasmesso alle otto della sera dalla dacia alla romania in studio Livio Zerbini regia di Elisabetta me la truco di pietra di pietra di pietra Grazie a tutti. Grazie a tutti.